Allora, io vi do il benvenuto a nome della Società della Ragione. Come avete capito, la scelta di fare un seminario in presenza non è stata una scelta banale. È stato qualcosa di meditato e non scontato e alla fine nel bilanciamento dei pro e dei contro ha pesato per avere un momento in presenza il fatto che questo è un argomento che riteniamo particolarmente importante e che il tipo di discussione che andremo a fare è particolarmente significativo e quindi che era importante avere anche la possibilità di un dibattito vero, come può essere solamente in presenza. Detto questo, ci sono notevoli specifiche da fare sul piano organizzativo, ma credo che qualcun altro più addentro di me come Corleone forse ce le potrà dare. È vero Franco? Eccoci qua. Se c'è un responsabile di questa iniziativa questo risponde al nome di Mimmo Passione perché alcuni mesi fa dopo il rinvio della precedente convocazione a un certo punto ha cominciato a provare odio per i collegamenti webinar o simili e continuavamo a ricevere telefonate e diceva quando ci vediamo, quando ci vediamo a Treppo, a Treppo, era disponibile appunto a venire anche a Treppo pur di vederci e alla fine abbiamo ceduto. Devo dire che la cosa straordinaria è questa giornata di sole in carne e in montagna, poteva esserci anche un temporale robusto, invece siamo qui così felicemente direi. Ci sono alcune cose da dire sul piano delle presenze, mi pare che abbiamo cercato di essere rispettosi delle distanze, siamo ospiti della Pinacoteca di Treppo Carnico, poi magari quando finiremo potrete anche vedere la Pinacoteca anche al piano inferiore in cui ci sono i quadri del pittore che ha regalato la Pinacoteca, i quadri al comune di Treppo. È una struttura che ha visto molte iniziative della Società della Ragione, per esempio la mostra di San Bonet, abbiamo fatto la mostra dei fratelli Rosselli, abbiamo fatto mostre di fotografie, altre cose, presentazione di libri. È un luogo che ha una architettura interessante e per quanto è possibile cerchiamo di valorizzare questo luogo. Mancano alcune persone, vabbè tralasciamo quelle che mancano perché hanno sbagliato strada in autostrada che è un caso da manuale credo, ma invece ci sono delle altre assenze che sono per ragioni di salute o di impegni. È collegato già con noi Pietro Pellegrini, lo salutiamo e poi interverrà perché siamo riusciti grazie a Leo Fiorentini a fare anche il collegamento webinar e quindi ci sono alcune persone che potranno intervenire con la tecnologia. Ci sono altre assenze come Giuseppina Paolillo o Benevelli che sono per motivi familiari. Mi ha scritto anche Giuseppe Fanfani che è il garante dei detenuti della regione toscana che non è potuto venire, però è molto interessato a questi lavori. Stiamo aspettando per ragioni di impegni in Cassazione, non c'è Carlo Renoldi. Aspettiamo Riccardo De Vito, il presidente di magistratura democratica, anche Marighelli che è il garante dell'Emilia Romagna, non ha potuto venire anche lui per ragioni di salute, però siamo credo con presenze significative. Io c'è stato il saluto di Grazia Zuffa, io sono Franco Corleone, dopodiché vediamo poi di comunicare le presenze che quasi quasi le farei io perché non avendo il microfono che gira è difficile fare. Quindi direi che c'è Stefano Cecconi che parlerà dopo di me, c'è Leo Fiorentini responsabile della macchina della comunicazione di Società della Ragione Forum Drogue, c'è qui Bruno Mellano che è garante dei detenuti della Regione Piemonte, c'è Giovanni Rossi, presidente del forum, come si chiama? Forum Salute Mentale? No, club Salute Mentale. Va bene, poi quando interverrà c'è Antonella Calcaterra, avvocato di Milano, c'è Stefania Amato di Brescia, quindi state attenti. Poi c'è Patrizia Meringolo dell'Università di Firenze che conoscerete, c'è Evelyn Tavormina che si è occupata molto delle REMS in questi anni, c'è Mimmo Passione, l'ho ricordato, c'è Tamar Pitch che non ha bisogno di presentazioni, c'è Tamar Pitch, c'è Giulia Melani che ha collaborato anche lei con me e il mio ufficio sulla proposta di legge di cui discutiamo, c'è Mario Novello, psichiatra di Udine, c'è Giovanna del Giudice che anche lei, in realtà ci conosciamo praticamente tutti. Sono appunto in arrivo altre persone e poi forse Monica Toraldo di Francia l'ho saltata prima ma è qui e ci siamo. I presenti sono in qualche modo presentati. Abbiamo pensato di predisporre un dossier di informazione ulteriore rispetto al volume Il muro dell'imputabilità in cui c'è un po' di rassegna stampa storica diciamo perché questa, adesso Mario Novello mi faceva vedere una cosa scritta da lui sulle perizie nell'81, quindi in realtà veniamo da lontano, come si diceva andiamo lontano, in realtà vorremmo anche fermarci una volta e dire ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati. Però devo dire che qui possiamo dire che siamo arrivati perché chi l'avrebbe detto che si riuscisse a chiudere gli OPG, chiudere i manicomi e poi chiudere gli OPG. Diciamo che è una cosa straordinaria. In due momenti ugualmente difficili diciamo il da una parte nel 78 la legge 180 e pochi anni fa la legge invece prima 9 poi 81 e poi la chiusura degli OPG. Una cosa straordinaria. Adesso stiamo, il senso dell'incontro di oggi e domani è quello di fare un bilancio di questa che io ricordo mi piace riprendere questa espressione che io ho chiamato la rivoluzione gentile. Cioè avere chiuso gli OPG in un modo non certamente facile attraverso tante resistenze e si tratta effettivamente io ritengo di una rivoluzione. Però il punto delicato è che non possiamo considerare che la battaglia sia finita. perché prima di tutto se non c'è una continua iniziativa di sostegno a questo cambiamento epocale il rischio è che anche gli operatori delle REMS che sono stati per un certo periodo molto entusiasti si richiuda ognuno nella propria struttura e si sentano abbandonati. dall'altra gli avversari non stanno fermi e quindi contestano addirittura i punti basilari che hanno fatto sì che funzionasse questa esperienza delle REMS non facendole diventare, se non in casi che poi esamineremo, dei nuovi manicomi ma un'esperienza originale ma questo entusiasmo delle persone rischia di essere turbato dagli attacchi contro i punti fondamentali. Il punto che io ritengo essenziale è quello che abbiamo imposto dall'inizio che ci fosse il numero chiuso. Nelle REMS il numero chiuso poi certo la territorialità e poi insomma altri punti il fatto che la misura di sicurezza aveva un termine quello legato alla misurazione del reato compiuto però diciamo che strumentalmente da molte parti viene sollevato il problema che sono troppo pochi i posti nelle REMS e qualcuno rimpiange l'OPG più o meno esplicitamente ci sono stati ricordati ricorsi alla Corte Costituzionale e adesso ce n'è uno un po' stravagante se vogliamo poi nel dossier potete nel dossier potete leggere insomma un esame approfondito di questa questione sollevata dalla magistratura di Tivoli però voi pensate che viene rimpianto l'assenza di un ruolo del Ministero della Giustizia e viene esplicitamente detto che il numero chiuso è un'aberrazione e che invece il modello è il carcere che è sempre aperto e accoglie tutti e quindi noi adesso confidiamo che sulla base delle sentenze passate della Corte Costituzionale non avrà spazio ma a livello di senso comune noi rischiamo di essere o silenti o in difesa rispetto ad attacchi che ci sono a questa riforma perché poi tutti si scoprono anti-carcere ora non quando c'erano gli OPG che erano un carcere governato da un direttore dell'amministrazione penitenziaria oggi quando si dice che ci sono persone che sono in carcere invece di essere nella REMS troviamo questa ipocrisia di persone che appunto sono abolizioniste quasi ma è tutta una finta non è vero in realtà hanno nostalgia del manicomio ora noi possiamo di fronte a questo stare fermi e difendere le REMS e basta così noi l'abbiamo detto dall'inizio credo che era una riforma che non aveva inciso sul codice penale noi siamo adesso nel 2020 mi pare che siamo a 90 anni dal codice Rocco quindi il tema è questo come affrontare le contraddizioni del codice Rocco 90 anni dopo per rispondere in maniera diversa a questa questione della imputabilità non imputabilità è del destino delle persone che hanno compiuto reati delitti e che in questo sistema vengono prosciolte quindi non condannate in un processo ma subiscono la misura di sicurezza questo sistema delle misure di sicurezza ci sono quelle psichiatriche quelle non psichiatriche insomma è una questione anche questa che possiamo io spero affrontare io chiudo dicendo questo che i numeri ci dicono che il un po' come è accaduto nel sistema penitenziario che le misure alternative non hanno sostituito la carcerazione ma si sono aggiunte così nel sistema delle REMS e delle misure di sicurezza psichiatriche sono aumentate perché tutto sommato l'idea di che non ci fosse più l'orribile OPG e ci fossero dei luoghi fra virgolette sanitari ha spinto a un'accentuazione di destinazione di persone in questo perché se noi facciamo la somma delle persone che sono entrate nelle REMS e sono uscite quelle presenti noi abbiamo il doppio di persone che c'erano negli ultimi tempi negli OPG cioè noi avevamo una lenta progressione di svuotamento degli OPG nel momento nel momento in cui li abbiamo chiusi e noi oggi siamo intorno credo a 650 presenze nelle REMS se sommiamo le persone uscite che credo siano 1200 in questi anni noi andiamo a forse il doppio se non di più delle presenze che c'erano residuali negli OPG stessi quindi c'è qualcosa che non funziona e questo si sostanzia nelle misure di sicurezza provvisorie che sono un numero estremamente alto e significativo non non il 50% ma un numero significativo e questo è un punto di delicatezza enorme per il funzionamento delle REMS stesse e del sistema quindi di fronte appunto a questo noi abbiamo pensato nei mesi scorsi che non potevamo fermarci a difendere la chiusura degli OPG e la presenza delle REMS tenendo anche conto che non è stato risolto il bubbone di Castiglione delle Stiviere e quindi siamo sempre a una struttura di 160 posti e quindi contraddicendo patentemente l'idea di piccole strutture di 20 o qualche in qualche caso di 40 posti che fare io ho lavorato riprendendo la proposta di tanti anni fa di Vinci Grossi e poi insomma ripresentata da me in Parlamento per alcune legislature quella di affrontare alla radice il problema della non imputabilità ricordo che è stata una cosa che ci ha impegnato in discussioni credo che fosse questo l'unico punto di di dibattito fra me e Sandro Margara ricordo una volta a Trieste io e lui discutemmo proprio di questo tema e poi in altre occasioni ma insomma era un punto di non di dissenso ma insomma di differenza probabilmente anche perché Margara era appassionato nel guardare la sorte delle persone ed era preoccupato di una possibile insomma soluzione non umana diciamo e discutemmo molto e però mi pare che oggi anche l'esperienza di ormai 3-4 anni insomma che noi abbiamo dalla chiusura degli OPG noi possiamo dire che c'è bisogno di un salto ulteriore la proposta che abbiamo qui è stata è partita dalla vecchia proposta si è arricchita di stimoli ed è disponibile ci ha lavorato Giulia Giulia Melani che poi magari interverrà per illustrare il testo dell'articolato e poi serve perché ne vogliamo discutere con le persone qua presenti quelle collegate quelle che arriveranno perché vogliamo ripresentare una proposta in Parlamento e vogliamo che ci sia il maggior approfondimento e condivisione possibile in modo da fare una battaglia politica perché questa è una questione tutta politica tutta politica e quindi vogliamo essere attrezzati per affrontare una discussione impegnativa con la consapevolezza e la convinzione che ce la si può fare ma soprattutto che pone in campo un'argomentazione diversa da quella troppi pochi posti più REMS per andare a chissà quanti numeri senza aggredire appunto il doppio binario le misure di sicurezza la semi-infermità e così via ecco io penso di fermarmi qui dicendo qual è il senso di questo incontro e adesso vediamo stasera continueremo magari la discussione a tavola in una cena carnica e vediamo il domattina potremo lavorare ancora tutta la mattina e vediamo dove arriviamo io penso che dobbiamo poi avere un patrimonio che sarà registrato sarà diffuso ma che ci consentirà di far condividere insomma questo lavoro di un seminario necessariamente chiuso nei numeri nella partecipazione ma che poi si dovrà dovrà trovare i canali giusti mi pare che la questione covid ha posto la questione della salute mentale come un elemento centrale finora trascurato credo che su questa questione il comitato nazionale di bioetica e qui ci sono tre componenti del comitato e per quanto riguarda la questione OPG REMS il consiglio superiore della magistratura se ne è occupato la corte costituzionale se ne è occupata quindi non siamo indifesi cioè paradossalmente noi abbiamo grandi autorità pubbliche che hanno detto e scritto cose significative su questo punto noi le dobbiamo valorizzare utilizzare non essere impauriti dalle polemiche di opinionisti o di stampa o di altro e dobbiamo però avere la forza di una iniziativa politica e culturale che riesca a traguardare questo momento che altrimenti rischia di bruciare una una conquista che è così unica nel mondo ecco io mi fermo fermo qua credo che do subito la parola a Stefano Cecconi scusate mi è venuto in mente in aggiunta a quello che diceva Franco un'altra cosa che metterei nella discussione è se noi vogliamo visto che è stato molto sottolineato come dire il fatto di fare una valutazione politica insomma di fare anche una scelta politica di lanciare questa cosa se noi vogliamo tenere presente la convenzione delle Nazioni Unite sulla disabilità perché quella è molto netta cioè è estremamente netta quindi il disturbo diciamo alla disabilità anche sul piano mentale assolutamente non vuol dire irresponsabilità cioè si rivendica a pieno titolo la parità nel concetto di responsabilità compresa la responsabilità penale per questo tipo di disabilità allora questa è una convenzione delle Nazioni Unite chiaramente la nostra legislazione è fuori squadra rispetto a questo valutiamo se e come vogliamo che questa questione entri nella discussione non è che è facilissimo nel senso che normalmente spesso tutte queste diciamo documenti anche internazionali fanno un po' fatica a entrare nel dibattito però noi dobbiamo valutarlo bene e vedere se è il caso appunto di sottolineare questa cosa solo questo la parola a Stefano Cecconi allora perché stiamo registrando sennò abbiamo perso un colpo allora vogliamo provare a battere un altro dei muri del manicomio e della discriminazione rispetto ai diritti sociali e civili delle persone nel nostro paese e in questo caso vorremmo farlo intanto provando a capire insieme se la presentazione di un disegno di legge in questo contesto in questa situazione può essere uno strumento utile per riattivare l'attenzione il dibattito e quindi contribuire alla più generale mobilitazione attorno ai diritti civili e sociali in questo caso il diritto alla salute e la salute mentale e se è coerente con il percorso che abbiamo intrapreso in questi anni con il percorso che oltre 40 anni fa ha putto giù il muro del manicomio almeno il muro dell'istituto dell'internamento in manicomio perché poi per buttare giù il muro dei manicomio in tutta Italia ci sono voluti 20 anni e poi se è coerente la discussione che facciamo oggi l'idea che abbiamo di provare a ripartire dal tema della non imputabilità e quindi dell'abbattimento del muro del doppio binario può contribuire a dare non solo un senso una compiutezza al processo di superamento degli OPG che non si è concluso con la chiusura dei 6 OPG e l'apertura delle 30 passarems ma prevede e prevederebbe come si è ricordato Franco l'organizzazione di risposte diverse di fronte all'autore di reato ancora incapace di intendere e di volere privilegiando le misure non detentive e giudicando la misura detentiva all'estrema razio quindi intanto c'è questa coerenza cioè ci serve lo vogliamo fare è un atto che può iscriversi dentro una mobilitazione che c'è che si mantiene attorno al diritto alla salute mentale in questo caso al complicatissimo processo di superamento degli OPG e con questo spirito ecco che vogliamo avviare la riflessione perché non c'è dubbio almeno questa è l'opinione nostra che il doppio binario cioè il binario speciale riservato solo ai matti che commettono reato e per questa ragione in quanto incapaci di intendere di volere e socialmente pericolosi sono destinati a un trattamento speciale prima a un pessimo trattamento speciale quello degli OPG dei manicomi criminali poi a un a volte decente discreto dignitoso trattamento speciale anche in alcune REMS con moltissima fatica anche nelle REMS migliori da questo punto di vista perché hanno pur sempre un mandato custodiale devono lottare ogni giorno col magistrato con la comunità che sta vicino con la deriva tremenda anche delle attività professionali contro la tentazione la tendenza custodiale istituzionalizzante di una struttura così e poi come ci ricordava Franco c'è il problema della quantità notevolissima Pietro su questo Pellegrini che ci sta seguendo poi interverrà su questo ha anche dato delle indicazioni che cosa è successo dalla chiusura degli OPG accanto all'apertura delle REMS e cioè quanto è stata applicata la riforma per la parte più pregiata che prevedeva misure alternative alla detenzione e quanto è stata applicata secondo lo spirito della 180 che toglieva il mandato custodiale alla psichiatria o è stata piuttosto interpretata dalla magistratura spesso come un nuovo mandato custodiale alla psichiatria trasformando quindi la misura di sicurezza non detentiva per le prescrizioni che vengono definite alla persona che entra nel circuito della salute mentale non detentiva quindi una comunità una struttura ma con quelle prescrizioni caratterizzando fortemente il mandato della stessa struttura sanitaria o del programma terapeutico riabilitativo che lo connota quindi tutte queste cose parlano evidentemente alla discussione che dobbiamo fare oggi perché queste cose stanno già accadendo e quindi io sono convinto che l'abolizione del doppio binario di questo trattamento speciale sia una scelta giusta dal punto di vista tattico tra virgolette serve riaprire un dibattito serve ridare energia a un movimento che obiettivamente con la chiusura degli OPG fa più fatica perché un conto è fra una battaglia contro qualcosa di terribile da battere un conto è fra una battaglia per costruire un sistema complesso che implica tante di quelle azioni sociali culturali politiche giuridiche di diversi attori che naturalmente complica di molto tanto più se le istituzioni sono disattente il lavoro da fare quindi una seconda questione che io voglio dire subito e poi tornando invece all'abolizione delle alcune questioni che si aprono con l'abolizione dell'ospicabile l'abolizione del secondo binario è appunto il contesto in cui si deve collocare io penso questa discussione questa iniziativa che è un contesto da una parte che deve continuarci come movimento che in questi anni si è occupato del superamento degli OPG a mantenere accesi i fari su questo processo e contemporaneamente sull'altra parte di quello che io chiamo il radar della giustizia che sono le condizioni delle carceri le modalità di esecuzione della pena la possibilità di attuare in modo serio anche la sentenza 99 della Corte Costituzionale che parifica l'infermità psichica e quella fisica e sembra aprire quindi una stagione assolutamente avanzata in termini di anche in questo caso è un colpo al doppio binario però anche in questo caso come vedremo come dirò tra un attimo apri alcune contraddizioni ho sempre questa questa nostra iniziativa specifica che vogliamo attivare si colloca dentro un'altra iniziativa molto pressante che abbiamo condotto in questo periodo soprattutto insieme alla conferenza nazionale salute mentale questa coalizione di oltre cento associazioni che raggruppa diverse realtà in tutta Italia una delle cose che parlano in generale tutte le azioni che svolge la conferenza salute mentale trattano questo tema ma la questione che è importante è che nei rapporti con il ministero della salute in modo particolare sembra essersi aperto uno spiraglio siamo alla vigilia se non se Dio vuole se il ministro e se noi riusciamo a farglielo fare siamo alla vigilia della presentazione forse di un decreto che dovrebbe riattivare l'organismo di monitoraggio sul superamento degli OPG e quindi permettere finalmente un'attenzione istituzionale non di stop OPG noi abbiamo fatto un lavoro che è da far venire le lacrime agli occhi è commovente ma francamente capite come si chiama questa montagna che hai appena attraversato Giovanni è come fa lo zoncolà con il monopattino in bicicletta neanche allora dicevo si sta riattivando forremmo e si sta probabilmente riattivando questo organismo questo è l'altro elemento che va tenuto bene in considerazione perché il lavoro di monitoraggio sul processo di superamento degli OPG soprattutto non soltanto sulle REMS che è pure importante il numero chiuso la non contenzione le situazioni aperte non custodiali i progetti terapeutico e rehabilitativi individuali invece per i percorsi a vita le dimissioni precoci il rapporto tra REMS e dipartimenti di salute mentale l'obiettivo che è il reinserimento nella comunità tutto questo va bene sulle REMS ma l'altra cosa che c'è da guardare da monitorare è cosa sta succedendo con le misure alternative quale qualità hanno quelle misure e sono esattamente la stessa questione che si pone nei momenti in cui dovessimo domattina abolire il doppio binario e rendere imputabili i malati di menti non più incapaci di intendere di volere perché l'attimo dopo si apre la questione delle questioni è intanto dove si esegue la pena come si esegue la pena e quando non si esegue la pena all'interno del carcere qual è il rapporto tra magistratura tra giustizia e sanità qual è il modo in cui si concilia l'esigenza della giustizia con il diritto alla salute e alle cure e all'efficacia del programma di cura e riabilitazione che non può entrare in contrasto con il diritto alla salute e alle cure di una persona e quindi come vedete si apre anche in questo caso un tema cruciale che è un tema peraltro non nuovo che è quale mandato viene affidato alla psichiatria e in che modo la tutela della salute e il diritto alle cure di una persona fino a quanto possa essere condizionato in questo caso da un attore che è la magistratura facciamo una cosa peraltro che è stata sollevata anche rispetto al disegno di legge e all'articolato è un intervento di un magistrato nei confronti di un malato di mente finito il doppio binario oppure già oggi con le misure non detentive assegnato a una struttura sanitaria dentro un programma terapetico e rehabilitativo fino a che punto si può spingere senza diventare un TSO sul rettizio perché avremmo ricostruito il doppio binario avremmo ristabilito che non è più la norma generale sul TSO che declina e definisce le modalità del TSO ma è a questo punto una misura tra virgolette di giustizia e quindi questo elemento deve essere assolutamente ben tenuto presente una seconda questione è che solleva questo il disegno di legge anche su questo sono state segnalate delle problematicità è che comunque la persona imputabile nell'esecuzione della pena può essere destinato al carcere anzi in alcuni casi è opportuno sia destinato al carcere qui si aprono due grandi temi uno è naturalmente le condizioni di vita nelle carceri la condizione delle carceri la stessa esecuzione della pena sensata rispetto alla realtà che conosciamo ma l'altra è il fatto che si pensa o si possa pensare che l'esecuzione della pena nelle carceri per i malati di mente non avviene come per tutti i cittadini detenuti ma avviene in luoghi speciali e quindi questa è una questione che va affrontata che era stata affrontata peraltro anche con il decreto legislativo che rinviava i decreti ministeriali poi abortiti falliti con il ministro Orlando ed è appunto il fatto se le articolazioni sanitarie per le persone con problemi di salute mentale debbano o non essere esclusivamente psichiatrici o qualcos'altro questo sembra potrà apparire una questione molto particolare ma è cruciale anche nel modo con cui i servizi sanitari nazionali cioè i professionisti del servizio sanitari nelle varie regioni entrano in carcere stanno in carcere organizzano i rapporti con i programmi di cure e quanto riescono anche a condizionare la vita nel carcere sul possibile mandato distorsivo alla sanità ho già detto chiudo con una questione che a me sembra comunque che tenga un po' insieme la discussione che dovremmo fare oggi abbattere il muro della non imputabilità come abbattere il muro del manicomio come abbattere il muro dell'OPG come abbattere il muro del carcere anche quando diventa una tortura un'afflizione invece che un'esecuzione costituzionale della pena significa costruire un'alternativa concreta nella società e nel far locale quindi in questo caso il tema che si apre ecco il nesso con la battaglia più generale che abbiamo anche nel movimento per la salute e la salute mentale è necessariamente l'individuazione dei dipartimenti di salute mentale delle asle dei comuni del sistema di welfare locale come protagonisti di questa vicenda capaci anche di esercitare una forza negoziale perché soltanto un sistema di welfare forte convinto del proprio mandato e anche della propria autonomia riesce a svolgere ad avere un rapporto di leale collaborazione con le altre istituzioni la magistratura l'amministrazione della giustizia e contemporaneamente riesce a negoziare a difendere il proprio mandato per fare in modo che questo rapporto produca un equilibrio che abbia intanto nel suo centro nel suo baricentro la costituzione e comunque il rispetto dei diritti e della dignità di ogni persona se la discussione che mi spero si animerà su questo disegno di legge come uno strumento di battaglia politica a ragione Franco questo deve essere uno strumento di battaglia culturale politica per i diritti sociali e civili in questo caso avendo al centro quello che è il tema del diritto alla salute mentale come Basaglia più volte ha avuto modo di dire non termina che lo chiusura del manicomio ma ricomincia ogni giorno perché ogni giorno nuovi muri e nuovi luoghi di esclusione possono essere creati e peraltro lo vediamo sotto i nostri occhi grazie Stefano allora come ho detto chiederei a Giulia Melani che non ha perso la strada e non ha sbagliato l'autostrada di fare un intervento sull'articolato perché sulle motivazioni diciamo che ci siamo sulle questioni anche siccome devo dire che su questa proposta è già iniziata comunque nei mesi scorsi una discussione quindi tenendo anche conto nel dossier sono riportate tutte le gli interventi le riflessioni quindi insomma chiederei di specificare insomma i punti dell'articolato delle soluzioni anche per probabilmente ragionare se alcuni articoli o alcune soluzioni possono essere ricalibrate sulla base di opinioni espresse grazie buonasera a tutti e a tutte mi muovo anche un po' su alcune sollecitazioni che sono già emerse negli interventi precedenti in questi mesi sono arrivate insomma ci sono state varie critiche che sono state mosse a questo progetto e diciamo mi piacerebbe esaminarne alcune perché ritengo che alcune siano punti su cui è necessario riflettere probabilmente lavorare ancora e affinare effettivamente gli strumenti che sono stati predisposti altri mi lasciano devo dire la verità un pochino più perplessa partirei da una critica che è stata mossa e trovate insomma nel fascicolo anche l'articolo da Mezzina e Borghi in un insomma in un articolo molto serio che però mi lascia qualche sinceramente qualche perplessità e che in parte veniva ripresa da Cecconi che è un po' diciamo l'idea che con questo nostro disegno di legge si vada sostanzialmente a reintrodurre surrettiziamente un doppio binario prevedendo un canale specifico di detenzione per il malato di mente autore di reato che accederebbe a delle misure apposite il nostro disegno di legge siccome su questo avevamo molto discusso anche in fase diciamo di produzione e di redazione del disegno il nostro disegno di legge diciamo non prevede automatismi di alcun genere in questo senso la persona affetta da un disturbo di mente diagnosticato e che abbia dei rapporti con il dipartimento di salute mentale non accede in via automatica ad una misura che è alternativa al carcere si poneva anche l'obiezione a volte il carcere può essere l'unica misura adeguata di fatti diciamo alla misura alternativa si accede chiedendo di poter fruire della misura alternativa non vi è alcun automatismo non vi è alcuna diciamo sovrapposizione alla volontà della persona che può scegliere a volte a me è capitato nei colloqui negli anni soprattutto con i detenuti tossicodipendenti che piuttosto che andare in certe comunità mi dicessero io preferisco fare farmi la mia galera qua dentro e non andare in misura alternativa rimane comunque un'opzione che è è nel vaglio della persona che è sottoposta alla misura che può richiederla oppure no e che rimane comunque nella sua valutazione e nella sua disponibilità quindi non si va diciamo a sostituirsi alla volontà della persona affetta da un disturbo che ha commesso il reato la quale con il supporto del suo legale sceglierà se richiedere o non richiedere una misura quindi questo per quanto riguarda il primo aspetto ora siccome il nostro disegno diciamo si muoveva sostanzialmente su tre linee l'ultima era quella della pulitura terminologica della pulizia terminologica del codice sulla quale non mi soffermo perché penso tutti diciamo siamo d'accordo l'altra appunto era quella della previsione di misure alternative a maglie più larghe prevedendo anche un'estensione della sospensione dell'ordine di esecuzione per evitare magari che una persona entri in carcere e poi esca poco dopo in misura alternativa ma garantire che rimanga fuori l'altra diciamo era un piccolo riferimento alle articolazioni per la salute mentale e lì sempre l'articolo che ho già citato di Mezzina e Borghi e anche gli interventi precedenti insomma lo sollevavano come elemento fondamentale diciamo lì forse sarebbe necessario effettivamente un ripensamento e un intervento forse un pochino più articolato e più significativo le articolazioni per la salute mentale come sappiamo ci sono già oggi nelle nostre carceri non sono una novità che si introdurrebbe con questo disegno di legge ci sono ci sono e come rileva per esempio Antigone nei suoi annuali rapporti sullo stato della detenzione in Italia sono in alcune soprattutto in alcune zone sono molto variabili come spesso accade nella realtà carceraria da carcere a carcere ma sono in molti degli istituti in cui Antigone entra diciamo delle sezioni penitenziarie che presentano notevoli problematiche quindi forse sarebbe necessario intervenire su questo aspetto e ripensare forse la proposta su questo le articolazioni per la salute mentale nascevano con l'idea che fossero sostanzialmente dovessero essere come il resto della salute in carcere dal post riforma che dovessero essere sostanzialmente uno specchio all'interno della struttura detentiva di quelli che sono i servizi esterni quindi dei dipartimenti una collocazione diversa di quelli che sono i servizi garantiti all'esterno come avviene anche per altre branche della salute sappiamo che negli effetti molto spesso non è così ora mi verrebbe da fare un esempio che non c'entra nulla come diciamo ambito tematico ma di recente nei miei colloqui nel carcere di Pistoia un detenuto che ha una sostanzialmente invalidità perché è caduto e non riesce più a camminare vuole chiedere giustamente l'assegno di invalidità e non esiste un medico nel penitenziario che abbia il PIN dell'Inps per poter certificare che questa persona è invalida ora questo ovviamente non c'entra nulla con la salute mentale però è un'altra delle declinazioni diciamo di malfunzionamento di questo sistema che vorrebbe che la salute all'interno del carcere fosse garantita a livello di principi come fuori credo che vi siano appunto dei problemi significativi e che questi forse andrebbero veramente affrontati anche se devo dire non so come si su questo magari qualcuno che ha anche idee da proporre al dibattito credo sia più che benvenuto perché francamente non so come si potrebbe rivedere l'articolazione per la salute mentale uno degli aspetti che sottolineavano Mezzini e Borghi e che ritengo sia da prendere seriamente in considerazione è quello procedurale cioè delle procedure con cui si viene trasferiti da una sezione ordinaria a una sezione a un'articolazione per la salute mentale perché giustamente veniva rilevato come sostanzialmente la persona non abbia possibilità di opporsi al trasferimento nella sezione diciamo nell'articolazione per la salute mentale quindi forse questo sarebbe un aspetto e su questo veramente mi rimetto a chi ha idee da proporre forse davvero da discutere e da rivedere in modo approfondito l'ultimo aspetto di critica che diciamo mi sembra tra quelli che sono emersi maggiormente nei mesi su questa proposta è relativo all'opportunità in questo momento e ne parlavamo proprio all'inizio ne parlavano Franco e Grazia nei loro interventi dell'opportunità in questo preciso momento di proporre questa cioè di portare avanti questa proposta ricordo all'ultimo webinar che abbiamo fatto con la società della ragione questo è stato un tema che vari degli interlocutori hanno posto sostenendo che in un periodo in cui si va in una direzione in generale tutt'altro che garantista forse non valga la pena proporre una riforma del genere che potrebbe diciamo porre a rischi di derive diciamo contrarie ai diritti delle persone che hanno commesso un reato e che sono appunto malate di mente da questo punto sono diagnosticate insomma come persone con disturbi psichiatrici da questo punto di vista ritengo che sia fortemente opportuno riproporre oggi questa proposta che appunto ha le sue radici in quella del 98 e nelle precedenti disegni già presentati credo che sia fondamentale perché garantendo da questo punto di vista la responsabilità della persona che è diagnosticata come affetta da disturbi psichiatrici diciamo le si garantisce realmente di poter accedere a quegli strumenti giurisdizionali che garantiscono anche quando i propri diritti sono violati di opporsi e non credo che questo vada non credo che la carcerazione vada in una direzione anti-garantista credo che sia da un lato il riconoscimento pieno della soggettività della persona e credo su questo come suggeriva Grazia sia importantissimo riferirsi alla convenzione sulle disabilità credo sia fondamentale e d'altro canto nel senso una pena che ha comunque una durata predeterminata come per le altre persone consente di accedere ai benefici quali per esempio la liberazione anticipata a cui accedono i detenuti consente di sapere comunque qual è la durata cioè anche questo credo che sia un elemento fondamentale cioè sapere qual è la durata della propria detenzione una misura di sicurezza come sappiamo ad oggi ha un tetto di durata massimo fino a prima della legge 81 non aveva neanche quello però non ha una durata determinata quindi consente di sapere qual è la durata della propria pena consente di richiedere benefici consente anche credo quindi di avere maggiori garanzie e non minori peraltro da questo punto di vista vorrei solo dire due parole cioè di riformare il doppio binario e l'imputabilità si parla ovviamente da molti anni ma vorrei dire che era anche un elemento che era stato affrontato dalla commissione marino nel lavoro sugli OPG che poi ha portato alla riforma era stato affrontato la commissione sostanzialmente diceva intanto chiudiamo l'orrore degli ospedali psichiatrici giudiziari provvederemo poi ad una riforma credo che sia arrivato il poi in cui provvedere a questa riforma per evitare che appunto questo provvederemo poi a questa riforma non diventi qualcosa di diciamo così un intento che si ripete ciclicamente ogni tot anni è un argomento troppo difficile interverremo poi intanto miglioriamo questi singoli aspetti probabilmente è il momento di dare una svolta da questo punto di vista e di magari non so imporre un cambiamento una svolta da questo punto di vista e poi lavorare appunto per evitare quelle sorture che probabilmente anche questa riforma potrà produrre perché comunque appunto la salute in carcere ha una serie di deficit e di difficoltà ce li ha anche la salute all'esterno delle carceri e ce l'ha maggior ragione la salute in carcere quindi la garanzia del diritto alla salute spesso è carente però probabilmente dobbiamo a quel punto intervenire anche su quell'aspetto facendo battaglia anche su quel punto e chiedendo magari investimenti più significativi sulla o chiedendo comunque anche alle regioni di impegnarsi effettivamente a garantire dei livelli sanitari all'interno delle istituzioni penitenziarie che siano analoghi a quelli che ci sono all'esterno cosa che ad oggi non avviene credo più o meno di aver detto tutto quello che insomma avevo pensato di proporre alla discussione oggi e insomma sarò contenta di ascoltare i vostri punti di vista e grazie il salutismo ci ammazza quindi non abbiamo un microfono per non so se ci sono già se no se ci sono interventi subito qua altrimenti diamo la parola Pellegrini che fa una fatica doppia perché non è in presenza ma è in ascolto vogliamo sentire Pellegrini adesso vediamo intanto salutiamo l'arrivo delle disperse perché chi ascolterà la registrazione deve sapere che alle 15 e 20 sono arrivate le disperse in autostrada e non facciamo i nomi per carità di patria Pellegrini ci sei? mi pronto? benissimo allora ti ascoltiamo grazie di essere collegato mi sentite? si mi sentite? molto bene ascoltiamo bene adesso devi parlare tu perché mi viene tolto a me il microfono va bene grazie io mi scuso con voi ma purtroppo per motivi legati al covid sono costretto a restare a Parma mi pare che la giornata sia cominciata in maniera molto interessante e ho sviluppato per l'incontro di oggi una riflessione che è diversa rispetto a quella che abitualmente ho fatto negli ultimi interventi cioè relativo più al sistema delle REMS della salute mentale io credo che oggi il tema dell'imputabilità debba essere riaffrontato perché alla luce di alcune norme recenti una quella più recente di tutte è la legge 113 del 2020 sulla violenza a danno degli operatori sanitari la legge a questa legge si aggiunge diciamo ad un'altra legge che è quella sul codice rosso la 69 del 2019 che riguarda appunto la violenza in famiglia ed in particolare a carico delle donne e dei minori ricordo che il tema dei femminicidi rappresenta un grandissimo problema oggi dal punto di vista sociale nel nostro paese per il numero molto elevato anche rispetto al totale degli omicidi ora per applicare queste due leggi occorre togliere di mezzo definitivamente la questione della non imputabilità e questo per ragioni che sono da un lato fanno riferimento al tema della salute mentale cioè oggi queste tematiche sono tematiche che difficilmente sono riconducibili al disturbo mentale categoriale del singolo ma sono spesso inserite all'interno di difficoltà relazionali o di gravi patologie delle relazioni ora se noi non abbiamo la possibilità di considerare la persona pienamente imputabile anche queste leggi rischiano di essere in un qualche modo disattese paradossale addirittura è la legge sulla violenza a danno degli operatori sanitari che è quella più recente se un malato mentale aggredisce un operatore e questo malato non è considerato imputabile cioè se la sua aggressione che può derivare da tanti diversi fattori non è in un qualche modo punibile arriviamo al paradosso che magari riconoscendo allo stesso psichiatra la posizione di garanzia la vittima diventa a sua volta colpevole dell'aggressione è veramente una situazione che deve togliere di mezzo la questione della non imputabilità considerandola quindi da un lato un diritto l'essere imputabile un diritto inalienabile della persona questa impostazione peraltro il legislatore l'ha già fatta propria perché se noi andiamo a vedere la legge sull'omicidio stradale se la legge sull'omicidio stradale la leggessimo dal punto di vista psichiatrico guardate chi è ubriaco in molti casi non è capace di intendere di volere dal punto di vista del funzionamento psichico ma eppure sulla base di un interesse della collettività noi non andiamo ad avvalare questo discorso socialmente anzi diciamo che è punito ed è anche punito di più quindi il tema non è solo la valutazione clinica della imputabilità secondo l'articolo 88 89 del codice ma è legato al fatto che anche l'interesse della collettività deve essere in un qualche modo diciamo affiancata a quella che diventa l'inevitabile assunzione di responsabilità della persona perché ripeto in questo ambito si sta realizzando si è realizzato questo tipo di situazioni in cui vi è una chiara dissociazione fra quello che è la valutazione clinica perché ovviamente una persona gravemente ubriaca non è o intossicata da sostanze non è capace di intendere di volere eppure lo facciamo rispondere per il proprio atto allora partendo da questo io credo che si tratti di riconoscere l'imputabilità come un diritto inalienabile della persona come un interesse della collettività che va associato alla valutazione invece della qualità degli interventi e delle sanzioni delle pene dei processi di reintegrazione sociale e di riabilitazione che noi mettiamo in campo perché se c'è una vicenda che si è aperta con forza con la chiusura degli OPG è stato il rimettere in primo piano la questione delle carceri dell'assistenza nelle carceri ne parlava giustamente i colleghi in precedenza vedere come vanno le articolazioni ma soprattutto vedere come affrontare il tema delle carceri anche ricordava prima Cinzia Melani la questione delle certificazioni ma le persone in carcere hanno un primo grande problema che c'è anche nelle RIMS la mancanza della cittadinanza non sono cittadini se sono degli apolidi nessuno si occupa di loro quindi il tema di riconoscere i diritti come elemento che si associa al diritto ad essere imputabile a mio avviso è fondamentale per quanto attiene poi anche i percorsi di recupero e di assistenza Stefano Cecconi ha già ricordato tutte le problematiche che riguardano le RIMS che non possono essere considerate un punto di arrivo ma un punto di transizione e Franco Corleone ha ricordato anche come oggi in questa fase abbiamo delle pressioni contrastanti da un lato quello di attaccare alcuni principi come numero chiuso e dall'altro spingere per un incremento dei posti ora tutte e due le cose vanno respinte ma certamente il tema degli investimenti e siamo in una fase dove recovery fund e tutte le altre cose che sappiamo implicano la possibilità di attuare degli investimenti la necessità di attuare degli investimenti in questo ambito proprio perché si possano rinforzare i servizi mettere in campo delle cose innovative come il bacio di salute cercare cioè di comprendere come intervenire nelle gravi situazioni di disagio superando davvero l'idea del doppio binario anche in situazioni complesse e difficili i fatti di questi giorni ultimi giorni l'omicidio di Willy e la questione invece dell'omicidio anche di Don Roberto Malgesini interrogano fortemente le risolviamo quel problema del riconoscimento di disturbi mentali o andiamo invece a fare un discorso che prende in campo tutte le componenti biologiche psicologiche e sociali per affrontarle adeguatamente perché soprattutto di fronte a questi fatti c'è da riflettere sul tema del come intervenire e come investire su queste situazioni e giustamente Stefano Cecconi ricordava come occorra un sistema di welfare di comunità che intervenga che agisca e che non lasci sole le persone quindi il tema oggi del avere su questi argomenti una regia nazionale e la possibilità di fare un cambiamento legislativo non è soltanto funzionale al prendersi cura in maniera più adeguata dell'autore di reato in tutti gli ambiti ma è anche necessario a mio avviso per dare piena applicazione ad importantissime leggi come appunto quelle che citavo prima che mirano ad affrontare grandissimi temi di carattere sociale familiare e personale che hanno un grosso impatto sulla criminalità da ultimo la questione appunto di rendere più sicuri anche gli operatori ieri era la giornata sulla sicurezza delle cure la giornata che viene ricordata la sicurezza delle cure e anche sicurezza del lavoro degli operatori nelle remse il tema lo si ricordava prima della demotivazione l'effetto accumulo le difficoltà con la magistratura fanno sì che occorra ripristinare una regia nazionale un osservatorio nazionale e questo sistema va assolutamente sostenuto proprio perché rischia l'isolamento rischia a sua volta di non produrre poi più quei cambiamenti che sono stati fondamentali in questa prima fase ma adesso hanno bisogno di un'ulteriore fase che veda un nuovo rapporto un nuovo patto tra la sanità la salute e la giustizia ma ciascuno giocato nel proprio ambito senza commistioni e senza diciamo impropri deleghe di una all'altra in un ambito che è sicuramente molto molto difficile io ringrazio Franco Corleone che mi ha consentito di parlare a distanza e chiudo qui e vi auguro a tutti buon lavoro e continuerò se me lo consentite ad essere collegato con voi grazie grazie a Pietro Pellegrini che ha riproposto il giudizio generale ha arricchito di alcuni elementi su cui forse dovremmo dovremmo riflettere sul senso perché probabilmente ha fatto il richiamo all'omicidio stradale e il richiamo a una legislazione in qualche modo una legislazione speciale quindi di aggravamento dell'intervento punitivo in relazione alla condizione morale insomma in qualche modo e quindi non so se è così inseribile nella nostra visione che la responsabilità è terapeutica in quel caso è una concezione forse diversa ma certamente il riferimento alla legge ultima sull'aggressione agli operatori sanitaria forse qualche attinenza però sono suggestioni come sempre interessanti che possono far parte della nostra discussione quindi io penso che non abbiamo adesso altri in attesa da lontano e quindi chiederei interventi qui in sala subito e c'è Mimmo Passione allora in realtà io sono venuto proprio con l'idea di ascoltare e non ho assolutamente nulla neanche di chiaro però ho raccolto un po' di spunti e quindi le cose che provo a dire sono disordinate perché nascono più che altro dalle cose che ho ascoltato una piccola premessa qualche giorno fa ho letto un articolo che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando di Ferraioli su questione giustizia sul referendum e chi non l'ha letto insomma in sintesi Ferraioli non va a votare perché Ferraioli non va a votare per una serie di ragioni che adesso non mette conto rammentare qua ma lo fa preoccupandosi molto delle conseguenze a suo dire nocive di una scelta nella quale pure si riconosce del no piuttosto che del sì mi è parso anche dall'intervento adesso che ho ascoltato che vi sia suggestivo e sicuramente utile riflettere anche su questi aspetti che vi sia una prelazione che viene assegnata alle conseguenze è sempre bene occuparsi delle conseguenze delle cose che si dicono che si fanno ma delle conseguenze di una certa scelta orientandosi evidentemente diciamo nell'accezione Weberiana dell'etica delle responsabilità piuttosto che dei principi ma mi pare che questo discorso rischi di portarci fuori strada perché io penso che invece la proposta di legge di cui ha parlato Giulia Melani abbia il merito di costringerci a una riflessione su un cambio di paradigma che è esattamente quello il tema centrale su cui dovremmo credo almeno soffermarci a riflettere perché facendo di nuovo un passo indietro e quindi vi restituisco davvero ma sono anche molto stanco perché mi sono svegliato prestissimo il senso della claudicanza del mio pensiero quando in commissione ministeriale in una delega che non ci consenteva di lavorare sulla abolizione dell'88 mentre sì dell'89 eravamo ovviamente come penso fosse giusto fare concentrati più che sulla malattia sull'inferenza che la malattia rispetto al fatto di reato questa proposta di legge che va maneggiata con cura toglie o almeno sembra togliere il fatto di reato dallo spettro di valutazione perché assumendo che la responsabilità sia terapeutica io sono d'accordo diciamo si riporta il soggetto per quello che è un soggetto evidentemente dei problemi come bisognoso di cura piuttosto che di sicurezza della cura di cura della sicurezza e quindi diciamo paradossalmente sembra fare un percorso contrario rispetto a quello che il legislatore delegante aveva fatto cioè assegnare al fatto di reato un significato in relazione alla malattia allora l'ho detta male me ne rendo conto e me ne scuso però questa riflessione nasce anche da un'esperienza pratica che vi voglio offrire non perché gli aneddoti siano particolarmente interessanti ma perché mi ha colpito e mi ha offerto un ulteriore spunto di valutazione rispetto alle cose che sto dicendo male un mese fa e mi è capitato perché non ero a Firenze insomma era agosto e quindi l'ho incontrato per la prima volta qualche giorno fa io ho ricevuto la nomina di una persona che è stata condannata all'ergastolo in primo e in secondo grado per l'omicidio di due suoi vicini di casa ritenuto con una perizia secondo me insomma scandalosa proprio scritta malissimo comunque ritenuto capace di intendere di volere ma non è l'esito che considero scandaloso è proprio il percorso ormeneutico questa persona ha certamente dei problemi e siccome ha dei problemi che sono stati ritenuti non eziologicamente significativi rispetto al fatto di reato si è preso l'ergastolo e se non mi riesce il miracolo l'ergastolo si tiene incassazione io credo che proprio questa proposta di legge che peraltro questa è una criticità come dire dogmatica cioè proprio giuridica sulla quale forse bisognerà fare una riflessione e così torno indietro al fatto che bisogna occuparsi degli esiti delle cose che si scrivono perché dire che non c'è limite a un 47 perfino a un 47 e a un 47 ter nella proposta di legge si dice la dico male ma insomma stai male accede a una misura alternativa o terapeutica senza limiti di pena cioè se stai male devi accedere alla cura mi chiedo se questo sia immaginabile rispetto all'ergastolo che oggi è l'unica peraltro previsione che sfugge anche dogmaticamente si spiega al limite di durata massima della misura di sicurezza ma a parte l'esempio diciamo paradossale ma non è tanto paradossale è un fatto vero quello che vi ho raccontato di chi si prende l'ergastolo e certamente ha un'infinità di problemi anche questa persona ha veramente moltissimi problemi cioè non si rende conto di quello che ha fatto questa persona sarebbe privata della cura con questa proposta indipendentemente dalla incidenza di quella patologia sul fatto di reato commesso potrebbe accedere alla cura naturalmente e di nuovo la necessità di tener conto delle conseguenze delle cose che si fanno si scrivono si dicono è necessario evitare l'eterogenesi dei fini cioè evitare che si crei un elenco di patologie per cui se sei schizofrenico se sei questo insomma bisogna cercare di tenere sempre insieme la condotta e il resto l'ultima cosa che vorrei dire perché poi penso che le cose sia più utile interessante ascoltarle è che Stefano diceva all'inizio poneva la domanda insomma una delle domande delle domande il rapporto tra giustizia e sanità e si è parlato di articolazioni tutela salute mentale ci si è chiesti che tipo di controllo si abbia sulle allocazioni in quei luoghi lo ha fatto la corte costituzionale con la sentenza 99 2019 nessuno tuttavia io credo che sia nell'anc e nel comodo un controllo sull'allocazione o sulla non allocazione nelle articolazioni che andrebbero riformate lo si possa avere attraverso lo strumento del 35bis cioè se quello è uno strumento che vale per la sindacabilità dell'allocazione in certi circuiti la declassificazione o meno di un detenuto che chiede di essere tolto da un circuito e poter andare in un altro attraverso lo strumento del 35bis io penso che quello strumento lo si possa e lo si debba adottare per pretendere la presa in carico di un'articolazione se è del caso o per pretendere di essere tolto da quell'articolazione o per pretendere di essere curato in un certo modo in quell'articolazione oggi le articolazioni sono in uno stato pietoso potrei aprire infiniti esempi ma ovviamente mi guardo bene dal fatto bene Tamar Pitch avrei voglia di dire delle cose ma le dirò dopo no 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 allora neanch'io pensavo di dire niente anche perché l'ultima volta che mi sono occupata della questione diciamo del rapporto tra psichiatria e giustizia è stata negli anni 80 il libro che abbiamo curato insieme a Giovanna Gallio a Ota De Leonardi e Diana Mauri è uscito per l'appunto nell'85 l'ho vista adesso perché manco me lo ricordavo e quindi le cose sono molto cambiate almeno insomma sì ci sono stati parecchi mutamenti io quindi qui vorrei soprattutto fare delle domande perché dico che in primo luogo non ho ancora letto la proposta di legge di cui qui si parla quindi ne vorrei sapere di più qui vorrei fare però delle domande allora è in questione qui si dice no che la questione è quella di abolire il doppio binario io su questo sono totalmente d'accordo ma la questione del doppio binario dipende dall'imputabilità o no perché in realtà secondo me dipende dal fatto che noi abbiamo appunto il doppio binario della pena e delle misure di sicurezza in molti paesi questo doppio binario non c'è ma invece resiste ovviamente l'imputabilità che per quello che mi ricordavo io delle discussioni che si facevano all'epoca però qui io non sono una giurista e quindi come dire non so se questo è vero l'imputabilità la questione dell'imputabilità è una garanzia è una garanzia cioè pensate al fatto per esempio dei minori al di sotto di una certa età nella maggior parte dei paesi cosiddetti di buona civiltà giuridica si è dichiarati non imputabili perché si è troppo giovani è naturalmente una convenzione ma è una convenzione garantista al di sotto di una certa età non non si può essere imputati di un reato ora l'imputabilità cioè l'incapacità di intendere di volere l'incapacità di intendere di volere non è una diagnosi psichiatrica ovviamente è una come dire è una anche questa convenzione giuridica che non è accertabile diciamo cioè una perizia psichiatrica può semplicemente accertare se una persona è o no affetta da un disturbo mentale se vi ricordate come dire fino a moltissimo tempo fa c'era non solo il doppio binario ma c'era l'obbligatorietà cioè una volta che tu eri dichiarato incapace di intendere di volere e non imputabile a quel punto avevi la misura di sicurezza in quanto socialmente pericoloso adesso se non altro non c'è più questa questo automatismo pericolosità sociale e dichiarazione di incapacità di intendere di volere non sono più diciamo automatiche la questione delle misure di sicurezza quindi è questione diversa rispetto all'imputabilità nella maggior parte dei paesi diciamo di buona civiltà giuridica c'è l'imputabilità e la non imputabilità rimangono ma noi abbiamo un doppio binario fatto dalle misure di sicurezza abbiamo ancora naturalmente la pericolosità sociale ma questa deve essere accertata volta per volta non è più automaticamente decisa e quindi c'è già una come dire una c'è già stata allora all'epoca noi pensavamo diciamo la questione che noi che noi vedevamo all'epoca nelle discussioni anche che si facevano in altri paesi era semmai non l'abolizione del doppio binario perché in molti altri paesi il doppio binario non c'è ma veniva proposto un processo in due fasi nella prima fase del processo si determina se una persona è o no autore di quel reato cioè si ascrive il reato ad una persona in questo senso anche se uno dovesse essere poi dichiarato infermo di mente in ogni caso se è autore del reato è autore del reato poi molti proponevano una seconda fase del processo in cui si determinava il tipo di esecuzione penale sulla base dell'accertamento della personalità di questo soggetto anche questo è molto criticabile ovviamente no perché avremmo come dire non avremo più una eguaglianza di fronte alla pena in questo caso perché la pena verrebbe sempre calibrata cioè nella seconda fase del processo la pena verrebbe sempre calibrata sulla personalità dell'autore e non sul reato quindi in ogni caso cioè da una parte ci servebbe la prima parte del processo si occupa del reato la seconda parte del processo invece si occuperebbe della persona io mi ricordo che all'epoca diciamo negli anni 80 si discuteva di questo quindi la pena rispetto a chi sei non a quello che hai fatto il che naturalmente è complicato quindi non so se sia una buona se sia una buona idea però riporto diciamo le discussioni che facevamo all'epoca nel senso che appunto il doppio binario andrebbe comunque abolito nel senso che appunto ce l'abbiamo soltanto noi è un retaggio è un retaggio se volete l'unica cosa una delle poche cose che ci vengono dalla criminologia positivista quello del doppio binario in altri paesi il doppio binario non c'è e però invece resiste l'imputabilità l'imputabilità in fondo io penso che sia una garanzia una garanzia dell'imputato naturalmente io penso che mi scuso con chi ha parlato prima ma la questione dell'omicidio stradale è completamente diversa al di là del fatto che ci piace o meno l'omicidio stradale a me non piace qui si tratta del fatto che se qualcuno come dire uccide una persona per strada dopo aver bevuto fumato eccetera eccetera quello non è che non ha scelto di farlo ha scelto di fumare bere eccetera quando si sa che in macchina se tu guidi non devi guidare quando hai troppo bevuto c'è già c'è una norma e qui se uno invece sta male psicologicamente psichiatricamente eccetera non è che l'ha scelto è così per varie ragioni che devono essere accertate e così via non so se sono stata chiara quindi io non sono sicura che è la questione che per abolire il doppio binario noi dobbiamo intervenire sull'imputabilità io sono d'accordo sull'abolizione del doppio binario è una vecchissima questione ma non sono sicura che questo abbia a che vedere con l'imputabilità mi ricordo che già lo dicevamo all'epoca che attribuire responsabilità agli individui è tra virgolette terapeutico una questione però è la responsabilità è una questione è l'imputabilità l'imputabilità è una questione giuridica non è una questione psicologico psichiatrica la responsabilizzazione della persona o attribuire alla persona la responsabilità delle conseguenze delle sue azioni può avere certamente una finalità terapeutica ma secondo me non è direttamente collegata alla questione dell'imputabilità non so forse non sono stata chiara grazie Mario Novello scusatemi io ho moltissimi pensieri che non riesco a mettere in ordine ma non da oggi da tanto e mi presento per capire un po' meglio di che cosa parlo cioè io non sono tanto uno psichiatra di Udine ma sono uno psichiatra che ha cominciato a lavorare a Trieste nel 72 quindi ha fatto l'esperienza basagliana e poi nel 95 sono andato a Udine per chiudere un altro manicomio che era rimasto ma parlando rispetto a questo tema il nostro punto di partenza quindi parlo di un'esperienza collettiva è stata che nel 78 dopo la 180 il dottor Grassi un giudice istruttore di Trieste era venuto da noi cioè il gruppo basagliano per sfidarci ad affrontare il nodo psichiatria-giustizia a partire dal fatto che eravamo riusciti a promuovere anche se poi la vettura storica è un po' più complicata a promuovere un cambiamento così importante e quindi ci è stato chiesto di misurarci a fare perizie e molti di noi siamo entrati in questa vicenda alcuni si sono ritirati altri meno e io sono quello che è rimasto più di tutti e oggi quest'anno compito il 41esimo anno di attività per Italia e sono impegnato ad esempio adesso nella perizia dell'uccisione dei due poliziotti a Trieste quindi su storie molto ancora molto presenti molto attive molto pesanti e abbiamo fatto un'esperienza che è stata progressiva rispetto agli anni ai tempi alle sentenze della Corte Costituzionale eccetera per farla proprio iper breve all'inizio il sistema era tutto fondato sulle presunzioni sugli automatismi per cui potevamo lavorare soltanto sulla categoria infermità mentale malattia mentale incomprensibilità della follia irresponsabilità e pericolosità ed era un lavoro importantissimo per i giudici capire chi era la persona che avevano davanti e non un imputato X anche perché se era stato un piccolo scandalo che un perito storico aveva fatto sei perizie in un'ora mandando sei persone in ospedale giudiziario perché in base agli automatismi e alle presunzioni bastava che ci fosse la cartella del ricovero in ospedale psichiatrico automaticamente era incapace automaticamente era pericoloso quindi quelle erano le perizie dell'epoca adesso alcune forse sono un po' più scritte ma neanche tanto poi c'è stata una seconda fase dopo la sentenza 139 dell'82 scusate se sono così noioso ma è per arrivare poi all'oggi che ha rotto il nesso fra incapacità e pericolosità e questo ci ha permesso di fare un lavoro gigantesco partendo impegnando i servizi di salute mentale in questo rapporto psichiatria-giustizia sul tema della pericolosità laddove il lavoro era cioè si aggiungeva all'altro lavoro che si continuava a fare ma a decodificare in sede peritale la categoria pericolosità sociale intesa non come categoria intrinseca alla persona ma come una variabile come il risultante di tante variabili sulle quali i servizi potevano lavorare poi c'è stata tutta un'evoluzione successiva ci sono state sentenze della Corte Costituzionale la 253 del 2003 è stata importantissima perché ha aperto ha ufficializzato il ruolo dei servizi rispetto a questi temi io lo semplifico enormemente e poi diciamo poi c'è stata la chiusura degli OPG la REMS con i problemi che pongono eccetera ma quello che in qualche modo voglio dire che in un'area che è stata Trieste prima però sede di Corte d'Appello e di Assisi e poi anche a Udine poi nella regione globalmente si è creata tutta una dimensione dell'agire diciamo la giustizia e le attività peritali che tutto sommato per un certo periodo e ancora adesso seppure con importanti scricchioli hanno messo in atto una situazione che poi si fa fatica a trovare andando da altre parti quindi con una difformità diciamo dell'amministrazione della giustizia a seconda dei vari posti capito a volte io ad esempio sono stato fino anche a due anni fa insomma chiamato a Bologna spesso per omicidi per i quali si richiedeva i giudici volevano uno sguardo che non fosse quello tradizionale ma fosse un po' più tra virgolette basagliano per certi aspetti e quindi a volte si ha l'impressione che esistano mondi che procedono in modo diverso una importantissima novità che noi abbiamo vissuto ma ormai saranno 20 anni almeno è una questione fondamentale che a me piacerebbe che venisse presa in considerazione in un progetto di riforma di questo tipo perché ha a che fare con la democrazia fondamentalmente che è la questione della capacità della cosciente partecipazione al procedimento ha a che fare con la democrazia perché perché la legge in qualche modo ribadisce il principio che la persona deve essere protagonista del proprio processo seppur aiutato tecnicamente adesso voi tecnici mi criticherete io parlo in modo grossolano da povero psichiatra però questo ci ha permesso negli anni di lavorare in sinergia con i servizi e e con la magistratura di portare persone che avevano commesso reati forse non straordinariamente gravi però che stavano male di portarli magari nel giro di due anni alla possibilità di poter rispondere del proprio gesto in reati sì del proprio gesto in tribunale quindi far maturare diciamo attraverso lo strumento della capacità di partecipare coscientemente al processo far acquisire a loro il diritto di essere cittadini processabili che possono essere presenti nel loro processo e dire quello che pensano cambiare l'avvocato eccetera ora è una valutazione molto complicata quella della capacità di partecipare coscientemente al processo per certi aspetti nemmeno io sono capace di partecipare al processo visto in modo molto fine però facendo una media questo diventa uno strumento fondamentale e a Trieste e poi anche a Udine poi da un certo punto in poi si è lavorato molto su questa dimensione della capacità di partecipare coscientemente al processo e recentemente nel 2015 poi c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale adesso non mi ricordo il numero ma c'era 190 e qualcosa che rompeva cioè in qualche modo che dava indicazione al legislatore di modificare l'articolo 71 del Codice di Procedura Penale che rivede cioè che considera la possibilità di sospendere di sei mesi in sei mesi in caso di un'infermità il procedimento siccome c'erano alcuni processi che duravano all'infinito perché persone malate di altre malattie ad esempio persone col cancro non avevano peggioravano sempre quindi il processo durava all'infinito allora ci sono stati dei ricorsi alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale ha letteralmente affermato l'imputabilità cioè l'imputabilità la partecipazione al proprio processo come un diritto fondamentale della persona allora e tra l'altro a me è capitato poi di ricevere una serie di incarichi dopo dopo la riforma Orlando che ha fatto una piccola riforma di cui nessuno credo si sia accorto quasi sui termini della prescrizione e recependo questa sentenza della Corte Costituzionale praticamente a un certo punto viene stabilito che è possibile attraverso una valutazione tecnica a valutare se quelle infermità che ha fatto interrompere il processo è reversibile oppure no a me è capitato ad esempio di aver ricevuto 12 volte quindi ogni 6 mesi quindi per 6 anni l'incarico di andare a vedere se una persona guariva ed era pieno di metastasi e non guariva mai ero diventato di famiglia ormai perché? perché la legge non prevedeva che si potesse archiviare il procedimento e la Corte Costituzionale sottolineava il fatto che la persona imputata ha il diritto di difendersi quindi aveva rilevato che fosse incostituzionale il fatto che non ci fosse mai una fine a questo tentativo diciamo a queste verifiche ripetute per cui ho ricevuto una serie di incarichi di persone con metastasi del cervello per cui erano terminali eccetera per i quali poi quella loro parte di processo veniva archiviata allora questo ad esempio è una soluzione che può aprire poi degli altri problemi però ad esempio la valutazione della capacità di partecipare coscientemente in un ragazzo che ha un QI di 40 per dire e che magari ha dato uno spintone una ragazzina in autobus e però la madre della ragazzina ha fatto la denuncia e con questo ragazzo non si può nemmeno parlare perché proprio non si riesce ad esempio in questo caso potrebbe venire risolta la questione del processo attraverso la questione della capacità o incapacità di partecipare coscientemente al processo allora quello che io temo siccome sono vecchio sono tanti anni che sento parlare c'è stata la proposta dell'83 ne abbiamo discusso ho partecipato a convegni eccetera quindi d'altra parte partendo dall'esperienza triestina basagliana noi abbiamo sempre lavorato contro l'incapacità di intendere di volere e per dimostrare come ci fossero residui di capacità anche in persone che stavano oggettivamente molto male è capitato a tutti in qualche situazione particolare estrema di riconoscere un'incapacità però come eccezione rispetto a una norma eccezione contro cui comunque ci si batteva raccogliendo poi peraltro altri tipi di testimonianze a me era capitato e ho anche scritto alla fine degli anni 90 un piccolo articolo su questo che ad esempio persone che avevano commesso reati anche gravi ad esempio una signora che aveva ucciso la madre che stava molto male e anche la signora la figlia che aveva ucciso la madre stava molto male però poi non è andata in carcere è stata accolta in diagnosi cura è stata curata e quando io ho fatto la perizia questa persona diceva a me è perito io anche se stavo male io voglio essere processata è un mio diritto essere processata nel senso che l'incapacità vista dal punto di vista di una persona non delinquente diciamo costituisce in se stessa un'invalidazione come dire zitto tu che non capisci niente e quindi va benissimo secondo me lottare contro la questione dell'incapacità di intendere e di volere su quella parziale si può discutere ma secondo me semmai in un'altra in un'altra parte in un altro momento il problema è che cosa succede perché quello che a me fa letteralmente disperare adesso più vecchio diventa più disperato sono è che da un lato ci sono esperienze anche non singole abbastanza di un'area pensate a Trieste c'è la Corte d'Assise che è regionale la Corte d'Appello che è regionale il Tribunale per i minorenni con cui io lavoro moltissimo ed è un'esperienza fondamentale lavorare anche con il Tribunale per i minorenni stando sempre sul penale c'è poi gli altri aspetti del civile con le onde nere che hanno anticipato il tentativo del decreto Pilon sulla famiglia che vi assicuro non si sa in che mondo in che paese stiamo vivendo però in ogni caso quello che mi fa disperare è che ci sono da un lato delle aree in cui sembra che quasi si sia realizzata a livello complessivo una situazione abbastanza illuministica illuminata in cui si riesce a bilanciare il rispetto della persona i diritti della persona i doveri della persona la giustizia se vogliamo una buona salute una discreta salute mentale e altre aree invece qui sembra di essere in un altro universo su questo poi io ho fatto dal 98 al 2001 sono stato componente dell'osservatorio permanente della salute mentale e quindi ho lavorato sulla dimensione nazionale sul versante della salute mentale ma poi anche su quello sul nodo psichiatria giustizia e ho scritto una parte di un documento che era stato approvato dal consiglio superiore della sanità all'epoca sul superamento degli ospedali giudiziari dando delle indicazioni proprio pratiche che riflettevano l'esperienza triestina allora finisco chiudo subito quello per cui a me viene la disperazione è che incontrando io attualmente attività peritali senza parlare dei periti ma attività peritali che sono aliene rispetto a quella che è la nostra storia se vogliamo 30 anni fa magari c'erano periti anche illustri che avevano orientamenti di un certo tipo però almeno c'era l'idea che c'era un dialogo su alcune questioni fondamentali oggi questo non esiste voi pensate che due anni fa un po' di anni fa per un processo di omicidio di femminicidio tanto la difesa ha chiesto e noi gliel'abbiamo fatto fare però poi l'abbiamo evidentemente distrutto in udienza il prelievo della saliva per fare l'esame del DNA per valutare dal DNA se la persona era capace di intendere di volere voi non ci credete ma è proprio così e viene dalla Toscana questo e si è creato un sistema per cui ci sono persone di questo tipo che fanno formazione ai giudici e agli avvocati presentandosi come gli scientifici come gli scienziati mentre noi siamo rimasti e dico questo perché non più tardi di ieri sera alle 7 ho fatto una web conference su questa cosa dell'omicidio dei due poliziotti su una questione abbastanza analoga per cui sembra che siamo arrivati cioè ad un sistema completamente impazzito di valutazioni pensate che per questa perizia dell'omicidio dei due poliziotti ci sono nove consulenti di parte con parti diverse che esprimono mondi diversi posizioni diverse e metà del lavoro e gestire questa comitiva in cui ognuno cerca di tirare qualche acqua a qualche mulino allora perché dico disperazione perché da un lato ci sono alcuni esempi di alcune storie ormai decennali pluridecennali di un modo che ci sembra umano corretto che risponda ad una dimensione anche culturale abbastanza ampia sensibile condivisa e altri mondi che invece dicono fanno dire se questo è il modo di funzionare e non c'è non c'è prospettiva di cambiamento non c'è un linguaggio un valore che si possa dare per dire ritroviamoci per ripartire con un discorso comune allora uno dice se il sistema delle perizie è malato perché gli psichiatri sono per motivi diversi sono quello che sono senza e anche molti servizi di salute mentale cioè a me non è che piace tanto sentire che i servizi di salute mentale in carcere devono essere come quelli territoriali perché certi territoriali sarebbe meglio perderli che trovarli quindi e molto spesso invece in carcere si riproducono dei cattivi servizi psichiatrici per cui poi ci sono dei piccoli manicomi come ho anche esperienze di situazioni molto buone all'interno del carcere di prospettive di cura psichiatrica allora e finisco con questo l'ipotesi cioè per disperazione lo dice aboliamo l'incapacità l'articolo 88 sull'89 poi si può discutere c'è comunque il conforto non tanto dell'omicidio stradale ma insomma il vecchissimo del 1930 la differenza fra lo stato fra l'atto compiuto in stato di fra virgolette infermità oppure di ubriachezza o di sotto l'uso di sostanze cioè una scelta politica anche se l'ubriaco è naturalisticamente incapace comunque viene considerato colpevo però il passaggio quindi viene a dire benissimo aboliamo l'articolo 88 però poi cosa succede no? è quello che io mi prefiguro è che succede il peggio cioè si passa dalla padella alla braccia perché poi ritornano gli automatismi e le presunzioni perché tutto il gioco che c'è stato fra gli anni 70 forse e tutti gli interventi successivi della Corte Costituzionale su questo tema sono stati sempre a rompere dei pezzi di automatismi e presunzioni che erano la prerogativa fondamentale il codice fascista in cui il codice decideva quello che doveva accadere e il giudice non aveva potere di valutare il giudice e i suoi collaboratori e quindi di andare a vedere caso per caso e quindi ben venga però poi bisogna lavorare su tutti altri aspetti che altrimenti secondo me il rischio è che si cade dalla padella alla braccia tant'è che non è così per pigrizia che sono decenni che in Italia si cerca in modo diverso di affrontare questo tema anche perché ci sono sensibilità e prospettive diverse io credo di cui bisogna tener conto il problema è arrivare però a un contenuto che esprima più possibile la realtà del mondo di oggi la complessità del mondo di oggi e anche tutto quello che si è acquisito in senso positivo cioè quando prima Franco Corleone riferiva di questo mio articolo che ho trovato l'altro giorno dell'81 quindi con la purezza era un anno e mezzo che facevamo perizie ma insomma molti temi sono gli stessi 40 anni dopo però anche molte cose sono cambiate rispetto ad allora e allora bisognerebbe avere secondo me la capacità di riuscire a raccogliere e anche a definire a riconoscere tutte le fasi di progressione in positivo nel senso della democrazia ripeto per me questa della la questione della partecipazione consapevole partecipazione nel procedimento è una questione centrale su cui bisognerebbe lavorare ed è centrale proprio per la democrazia e che è in grado poi di sgretolare e di far fuori dall'interno o comunque di indebolire l'incapacità di intendere e di volere salvo il fatto che c'è il passaggio della testa del mondo dei periti e delle perizie che nella maggior parte dei casi si incontrano adesso cioè come se si fosse saltato un tempo in cui sono avvenuti dei cambiamenti e si discuteva di qualcosa questo a vari livelli è come se fosse passato un vortice e poi il tempo è tornato a quello che c'era prima negli anni 50 40 30 non so da questo punto di vista scusatevi per la lunghezza Monica Toraldo poi Patrizia Meringolo poi credo ci sia forse Grazia Zuffa e altri sanifichiamo mi pare che mi pare mi pare che stanno emergendo molte questioni interessanti su cui poi dobbiamo affinare cioè il problema della partecipazione al processo consapevole è un tema l'altro tema è come incide l'incapacità di intendere e volere rispetto al destino della persona cioè noi mi pare che nella poi credo che interverrà Katia Ponetti su questo sull'85 cioè che nella proposta viene mantenuto noi interveniamo su quello che ha invece ripercussioni legate alla incapacità di intendere e volere ma nel senso legato alla situazione psichiatrica e alle conseguenze insomma comunque poi approfondiremo prego Monica brevissime notizie autobiografiche per far capire perché sono qua Tamar mi ha dato lo spunto io mi ricordo fine anni 70 astrolabrio di Parri antipsichiatria e poi ho lavorato un po' con Cotti Antonucci e superamento di questo presa dato che forse eravamo stati un po' troppo precipitosi interviste a Leng e Cooper io sono una filosofa e poi mi sono occupata di altro però in uno dei miei studi mi ero anche molto occupata della scuola positiva e della scuola classica di diritto penale quindi insomma Garofalo Ferri pericolosità sociale e quello che volevo dire sono rimasta in questi ultimi anni veramente molto spaventata dal ritorno di questa idea della predisposizione al comportamento criminale attraverso il supporto della biologia molecolare cioè della genetica allora non solo da noi ma per esempio c'è stata in America tutta la campagna contro i portatori del cosiddetto X fragile che è una forma di ritardo mentale però l'hanno associata al comportamento criminale con delle conseguenze pesantissime ovviamente sul fatto della non assicurabilità dei membri della famiglia e così via anche sul piano scolastico delle conseguenze negative beh da noi c'è stata la famosa sentenza di Trieste in cui noi abbiamo preso in considerazione anche come il Comitato Nazionale di Bioetica in cui c'è stata una diminuzione diciamo dell'imputabilità perché è venuta fuori dalla perizia genetica che c'era una predisposizione al comportamento criminale allora queste sono avvisaglie oggi c'è moltissima ricerca sulle cosiddette basi biologiche della malattia mentale quindi da un eccesso all'altro dalla negazione della malattia mentale come tutta dovuta diciamo a cause socio culturali economiche oggi è un ritorno di scientismo che io vedo veramente molto pericoloso e che poi incidere anche sulle proposte che stiamo facendo Patrizia Meringolo ci sarebbero molte cose su questo io mi occupo di io sono psicologa psicoterapeuta ma mi occupo in particolare di psicologia di comunità e me ne importa molto di quello che si dice su come si costruiscono le proposte di legge perché da una parte a livello di macrosistema è la rappresentazione che una società dà di sé che sia la maggioranza o che sia una minoranza attiva come è partita e poi è diventato e ci ha portato alla legge 180 però è comunque un'immagine della società dall'altra me ne importa molto perché poi sono i paletti nei quali noi si deve lavorare e come specializzazione diciamo così è proprio la prevenzione e l'inserimento e l'inclusione sociale detto questo che è il motivo per cui mi interessa anch'io sono molte domande più che ovviamente risposte ma che mi interessano molto intanto in questa cosa folle reo o reo folle mi sembra che del folle reo ce ne importi poco in realtà come viene fuori viene fuori un reo una volta che il reato è stato commesso ci si domanda se non ci fosse un vizio precedente cioè il ragazzo che ha ammazzato il sacerdote se ne era preoccupato qualcuno che avesse un disturbo mentale prima che succedesse un reato cioè si va a cercare le cause di punibilità o non punibilità o di incapacità di intendere e di volere nel momento in cui la situazione di reato è già successa il folle reo sarebbe già un'altra cosa premetto che io sono convinta che la responsabilità sia molto terapeutica sono anche convinta dell'importanza della partecipazione al processo perché è un momento di elaborazione psicologica di quello che è successo se no non gli dai nemmeno modo che poi fa parte della cura eccetera eccetera allora è vanificare tutto questo deleterio perché poi si vanifica il principio di fondo psicologico e io spesso uso una terminologia diversa dai giuristi o dai filosofi ma è più psicosociale si vanificano i presupposti teorici da cui è nata la 180 se no non si capisce perché si utilizza l'ospedale generale quindi che la responsabilità sia terapeutica e che i doppi benari non siano come dire scientificamente corretti o psicologicamente adeguati l'altra cosa io trovo che l'incapacità di intendere e di volere sia eh troppo vasta e con delle ehm discutibili accezioni scientifiche cioè che si possa misurare biologicamente la predisposizione a l'atto criminoso a un atto criminoso rispetto che un altro è qualcosa di scientificamente è tipo i novax e il terrapiattismo ecco cioè io mi sono occupata di recente della radicalizzazione violenta allora qui c'è due scuole di pensiero quella statunitense e quella europea quella statunitense è tesa a identificare i presupposti psicologici per cui si diventa un radicalizzato violento se si vanno a vedere però non si distinguono a livello psicologico da quelli per cui si diventa sindacalista allora come radicalità di posizioni la scuola europea evidentemente è diversa allora semmai il discorso è molto più complesso e è su la priorità degli scopi che anche qui in noi si utilizza scopo in senso di progetto di vita eccetera che però rimanda non solo all'atteggiamento della persona ma anche alla situazione ma anche al contesto che in tutto questo il contesto e le reti non esistono allora tutto questo io me ne rendo conto che mi pongo dei problemi che aggravano la problematicità della cosa però come dire la strada è sul rafforzare le capacità degli individui tra l'altro e si lavora sul capability approach nelle disabilità se non sembra che le patologie mentali allora sono altra cosa che non hanno a che vedere né con la salute né con la malattia ma si ritorna alla come dire alla visione demoniaca della malattia mentale per cui il capability approach a loro non serve più altra cosa invece e qui scusatemi se vado per degli esempi per esempio sull'infanticidio legge sull'infanticidio siamo nell'86 c'è una cosa interessante perché lì si parla di abbandono morale e materiale della donna quindi non ci si domanda e scusatemi l'incursione in un in una disciplina che non è la mia non ci si domanda eh che chi è lei ma che cosa ha fatto la rete prossimale per renderla in stato di abbandono per cui come dire psicologicamente mi tornerebbe il discorso che faceva Tamar preoccupiamoci chi ha fatto questo reato e poi vediamo evitando i doppi binari eccetera allora ehm ultimo esempio ehm che molte volte ehm sono modalità di intervento che poi hanno un retroterra teorico interessante c'è un approccio che si chiama housing first che viene usato con i senza fissa di mora i più seri sono in canada e in italia e in europa eh in portogallo in italia ci sono delle esperienze importanti a padova allora si è rovesciato lì è un'azione positiva ma si è rovesciato prima gli si dà la casa il lavoro eccetera e poi si accerta se se la meritano allora al di là di questo esempio si è visto però che eh non solo i fruitori sono spesso migranti e molto spesso i non migranti hanno patologie mentali quindi sarebbero i fogli che diventano molto meno rei ovviamente l'osservazione è stata fatta sui reati minori reati maggiori non se ne sono verificati potrebbe valere la pena di ristudiarli alla distanza cioè l'autonomia è diventata non solo terapeutica ma essendo inclusiva una garanzia di sicurezza sociale cioè quello che si dice se ci si studia se ci si studia ci si accorge che laddove il sociale funziona non ho bisogno del ricorso al penale e soprattutto lavoro prima mentre altrimenti si fa all'inverso cioè nel momento del reato vado a vedere se per un caso aveva una personalità disturbata però questo da un punto di vista del tessuto sociale è l'inverso di quello che mi serve allora la cosa ovviamente mi interessa molto come visione del mondo oltre che come tipo di lavoro da fare e mi rendo conto che aumento la confusione ma così è grazie sono grazie a Zuffa allora cerco di ragionare un po' sulla linea anche che ci indicava Tamar di distinguere bene il concetto di responsabilità dalla questione dell'imputabilità allora intanto noi dobbiamo partire dall'attuale sistema come si regge diciamo anche nell'immaginario della magistratura ma insomma in generale nell'immaginario sociale l'attuale sistema in realtà attualmente le questioni sono strettamente intrecciate perché non è imputabile perché non è responsabile e non è responsabile perché c'è questo giudizio di incapacità di intendere e di volere che è strettamente collegato al disturbo psichiatrico e da qui diciamo da questa presunzione idea come volete di responsabilità che si regge la misura di sicurezza che si regge la misura di sicurezza cioè non vai in carcere ma siccome sei irresponsabile è nella nostra società scusate in cui il concetto di libertà e responsabilità ma anche appunto di responsabilità è così importante è chiaro che l'irresponsabilità ti conduce a una misura di sicurezza io ti devo controllare è una misura di sicurezza e questo vadate è così forte quindi non solo regge questo tassello regge ancora l'idea che il disturbo mentale è legato alla custodia più che alla cura questo è il tassello che ancora regge da un punto di vista dell'infarcatura ma anche da un punto di vista dell'applicazione tutti voi avete presente la risoluzione del CSM del settembre 2018 dove appunto affronta la questione delle REMS assistenza psichiatrica e non a caso dice c'è un eccessivo ricorso alla non imputabilità c'è un eccessivo ricorso alle misure di sicurezza c'è un eccessivo ricorso alle misure di sicurezza punto cioè a dire dobbiamo prendere atto che siamo andati molto avanti sono d'accordo con molte cose che diceva anche Cecconi in parte le ripigliava anche altri ma questo ci dice che in qualche modo siamo in una fase di stallo ora devo dire che ecco siccome dobbiamo tenere presente un po' anch'io tengo presente il clima culturale che c'è in questo momento mi ha interessato molto l'intervento di Pellegrini perché ci fa capire come oggi la questione della responsabilità possa essere vista da due versanti completamente diversi una cosa è dire la responsabilità come diritto che è poi il discorso che fa la convenzione delle Nazioni Unite sulla disabilità è un diritto della persona è un riconoscimento della sua soggettività è come dire chiedere che non sia amputata una parte di sé della persona perché di fatto questo poi viene fatto con l'attuale sistema e questo è un versante che è il versante in cui noi ci riconosciamo altra cosa invece è una come dire attribuzione di responsabilità anche penale in questo caso sta parlando delle leggi che discende da una esasperata responsabilizzazione individuale strettamente connessa poi con l'onda punizionista cioè che in qualche modo segue un eccesso di attribuzione individuale quindi lasciando da parte che lascia da parte il contesto il contesto in cui vive la persona e altre condizioni e che poi appunto è strettamente legata all'ondata iperpunitiva punizionista che volete questo sì dobbiamo in qualche modo tenerlo bene presente insomma bene sotto attenzione ora ancora due cose ecco tra parentesi nel però nel lo schema che ci presentava Tama su cui appunto si lavorava negli anni Ottanta beh c'è da dire che la prima parte che era quello dell'accertamento dei fatti in qualche modo è anche un accertamento della responsabilità penale poi e quindi e quindi diciamo e trattandosi appunto dell'autore del reato in effetti siamo sul terreno molto difficile distinguere responsabilità da imputabilità cioè in realtà e poi appunto in fase dell'esecuzione della pena che lì viene concretamente si gioca la partita ora prendo il discorso che faceva all'inizio Cecconi sul diciamo sull'affidamento le misure alternative in comunità terapeutica cioè diciamo in una struttura terapeutica per le persone a me francamente questo discorso mi fa venire in mente giusto appunto le misure per tossicodipendenti e la grande ambiguità di tutto l'apparato di misure alternative per i tossicodipendenti qui stiamo sempre qua non è che ci stiamo in qualche modo muovendo cioè non è che stiamo inventando ora qualche cosa di nuovo cioè non c'è niente da fare che io però non so come risolverlo questa è una domanda che mi pongo cioè nel momento in cui noi abbiamo un momento terapeutico prendo per esempio quelli tossicodipendenti che conosco molto bene ma di una persona che è inviata lì dal giudice dal magistrato sì la possiamo poi in qualche modo risolvere non abbiamo molto discusso per i tossicodipendenti eh sì ma no ci vuole importante che sia il terapeuta che dice la sua che alla fine decide ma badate che è una situazione complicata e difficile complicata e difficile sempre da gestire noi dobbiamo tenerlo presente che anche la soluzione non esiste mi viene in mente ora sempre per rispondere anzi per non rispondere alla domanda di Cecconi ma qual è il mandato che viene affidato agli operatori agli psichiatri beh io ho fatto degli interessantissimi focus group adesso sto terminando l'analisi il di di operatori di una REMS bene e non a caso viene fuori che da parte dei pazienti distinguono molto nettamente lo psichiatra che riconoscono come colui che ha il potere che gli dà dal fatto di essere il rapporto con la magistratura e che da suo giudizio dipende il fatto che stia dentro e stia fuori e lo psicologo che non ha potere e qui quindi la relazione è davvero più una relazione terapeutica se tu vuoi pure nella costrizione diciamo della misura di sicurezza in cui non possono uscire quindi siamo lì vediamo come si può migliorare ma io non credo che usciamo da questa mannaia se volete in qualche modo per le articolazioni della salute mentale io devo dire ho visto anche il lavoro che era stato fatto agli stati generali eccetera eccetera l'idea che fossero a gestione sanitaria invece che a gestione dell'amministrazione penitenziaria può essere una piccola garanzia però se vogliamo essere sinceri una piccola garanzia perché siccome con tutto il lavoro che abbiamo fatto in generale sulla salute in carcere anche del Comitato Nazionale di Bionetica io vi dico che l'obiettivo principale della riforma sanitaria in carcere che era quella di assicurare l'autonomia del sistema cioè che le persone che fossero autonomi perché appunto era il sistema di tutti gli altri quindi era autonomo e quindi in pratica non erano più persone che dipendevano dall'amministrazione penitenziaria dipendevano dal servizio sanitario nazionale quindi c'era in qualche modo un'autonomia a garanzia della salute dei detenuti come degli altri cittadini no non è così parliamoci molto chiaro cioè il fatto che le persone siano lì dentro condizione come scusa ma pigliamo una cosa semplicissima il fatto numero aperto numero chiuso si entra in carcere ma scusate abbiate pazienza il se effettivamente il servizio di prevenzione della ASL facesse il suo dovere diciamo di igiene di igiene e prevenzione come fa fuori direbbe no scusate qui non entrano perché qui sono ammassati cinque in una cella e qui non entrano qui si chiude si chiude per ragioni di sicurezza sanitaria vi risulta che avvenga no non è mai avvenuto non è mai avvenuto e altri esempi in qualche modo ci sono quindi anche lì questo lo dico naturalmente non per dire che allora dobbiamo migliorare ma dobbiamo migliorare sapendo che alcune delle contraddizioni che noi incontriamo adesso anche per per questa legge e sono quelle di diciamo di di un sistema in cui vogliamo assicurare la salute ma in cui siamo diciamo ristretti questo sì dal dal sistema penale carcerario che bene o male ha la sua diciamo si cercherà di spostare ma in qualche modo è quello che è detta legge di chi ha ancora detta legge ci sono no è obbligatorio parlare quindi adesso vedo che c'è Rossi e poi Calcaterra ma e poi c'è Katia Ponetti quindi poi c'è Giovanna Del Giudice quindi insomma tutti parlano e non si esce se non si è intervenuti almeno due volte no come no vabbè ma comunque poi magari faremo una dopo questi interventi faremo una una pausa comunque diciamo che come osservazione mi viene da dire mi preoccupa il fatto che ci sono molti interventi che dicono beh aumentiamo la confusione io vorrei che alla fine in realtà trovassimo una chiarezza perché altrimenti questo non non ci non ci aiuta ma sì ma però mi pare che in realtà stanno venendo fuori molte molte cose poi sono sicuro che troviamo lo sbocco allora potremmo andare avanti fino alle sei e mezza poi avere un po' di pausa e la cena è alle otto qui al ristorante Cristofoli qui di fronte alle otto quindi ma io penso che alle sei e mezza poi se c'è un intervento in corso sì va bene perfetto allora se appena ci dà il via Leo Fiorentini piglia la parola Giovanni Rossi ecco allora Rossi puoi venire dopo aver scalato lo Zoncolang è pronto anche a questa montagna che è molto più complicata scusate Calcaterra Calcaterra c'è Giovanni Rossi che vuole parlare ma parlo no ma non è un problema però era meglio se intervenivo prima della pausa perché è il primo dei due interventi di cui ho diritto serve a fare confusione non a toglierla e io non ho una competenza non ho una competenza tecnica e quindi ragiono più sul a cosa serve in termini generali a chi può interessare e a dove può portare questa operazione perché come detto prima Novello parlando della difficoltà di incontrarsi e di dialogare con periti che hanno tutt'altro approccio secondo me nella società c'è una parte grossa della società che ragiona l'opposto e cioè che pensa che se riesce a evitare di essere imputata è contenta ha dei maestri insigni no ministri o ex ministri ma dietro c'è un mondo molto più ampio che pensa che se si può evadere il fisco perché non evadere in senso lato e quindi io credo che quel discorso che è stato detto prima cioè c'è un mondo culturalmente diffuso per non dire egemone che va a caccia del colpevole purché il colpevole sia l'altro come sappiamo e quindi creando una una visione del mondo manichea per cui da un lato ci stanno quelli che che le leggi sono fatte male per cui anche se eh si possono non rispettare da quelli fiscali all'andare in automobili in un certo modo e noi ciclisti lo sappiamo bene la legge non è per loro loro sono al di sopra della legge io ho l'impressione che questo modo di pensare per tante ragioni sia un modo di pensare che coinvolge milioni di italiani non due o tre diciamo leader ma dietro ai leader ci sono delle grandi masse e questo è un problema perché dall'altra parte invece noi facciamo questa proposta per una ragione molto semplice perché diciamo che nel grande mondo dell'umanità ci sta anche l'umanità di chi apparentemente per loro è un disumano perché ha commesso un gesto di follia e noi stiamo dicendo esattamente il contrario attenzione non è così il raptus è una vostra vostra del mondo dei semplificazionisti intenzione di risolvere il problema e farla chiusa lì se diamo diritto a questa persona di andare a processo e a maggior ragione essere come dicevi tu prima non mi ricordo bene le tue parole presente e consapevole nel processo gli diamo dei diritti e trasformiamo quello che secondo me è un dovere dell'imputabilità cioè accettare noi adulti appunto a parti minori e lì c'è tutta la discussione su quando è che uno è minore perché io mi sono trovato il caso di un ragazzo che veniva dal Brasile che aveva commesso dei reati minori cosiddetti bagatellari che però secondo il direttore sanitario del mio ospedale bastava guardargli i peli per capire che in realtà non aveva 14 anni ma ne aveva 18 e quindi era maggiorenne cioè lo voleva trattare da imputabile ecco volevo dire che al di là del minore e già lì quando uno sia minore non è chiarissimo comunque l'adulto nel contratto sociale che ha sottoscritto ha accettato di essere imputabile se non rispetta le leggi che la società per convenzione si è data questo è il punto ma se la società che abbiamo a monte questo contratto sociale per la sua metà lo sta mettendo in discussione noi pensiamo ecco dobbiamo chiederci questa operazione che vogliamo fare ci consente di tenere il volante in mano il pallino in mano rispetto all'operazione che abbiamo fatto di estensione del modello della legge 180 al mondo più ampio degli ospedali giudiziari cioè noi siamo in grado di rilanciare in maniera credibile questa lotta perché è una lotta avendo una metà della società che ho cercato di rappresentarvela in questa maniera cioè dove un conflitto è un conflitto importante e questo conflitto attraversa il mondo per esempio dei periti l'abbiamo detto ma il mondo dei magistrati che nel momento in cui passiamo da una legge che ha gli automatismi alla discrezionalità si comportano perché sono anche loro uomini e donne di mondo in relazione non solo alla cultura giuridica che hanno ma più in generale alle sensibilità che hanno dicevo prima che a me è capitato ormai 15 anni fa di trovarmi nella circostanza paradossale per cui un ragazzo che aveva ucciso il nonno era stato arrestato è stato in carcere due mesi il magistrato poi ha valutato la sua incapacità di intendere e volere come totale quindi l'ha prosciolto e nella stessa udienza giudicando anche che era venuto meno il motivo della sua pericolosità sociale perché era il nonno che era morto l'ha immediatamente scarcerato e reso libero ora questo è accaduto 15 anni fa per quale ragione a Mantua sia successa questa cosa che ci ha lasciato tutti sorpresi non so dirlo però per dirvi che la discrezionalità c'è sempre stata e allora noi come riusciamo per quello che dico creo confusione probabilmente però e non entro nel merito per il momento delle questioni più tecniche per esempio come si deve legare questa vicenda al futuro dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura perché è evidente che nel momento in cui si accentuasse questo passaggio c'è la dimensione dei dipartimenti di salute mentale che molto spesso però in Italia si riduce a servizi psichiatrici di diagnosi e cura diventerebbe sottoposta a un'ulteriore pressione laddove sappiamo che già la maggior parte dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura d'Italia non rispetta il mandato che dovrebbe rispettare cioè di essere servizio non custodialistico alle spalle di un servizio territoriale forte così non è e rischiamo quindi che si carichino di un'ulteriore probleme ma di questo non vorrei parlare per il momento magari ne parliamo domani però quello che volevo dirvi confusamente è che dobbiamo capire bene dopo lo chiedo a Stefano che interverrà anche a lui che ha sempre anche per il suo ruolo una visione meno tecnica e più politica ecco questa è una campagna che possiamo ci sentiamo di condurre poi troveremo la migliore formulazione tecnica ma pensiamo di poter condurre in maniera vincente in maniera da poter reggere e portare avanti quel movimento che abbiamo creato in questi anni e cioè di riuscire a dire a tutte le persone che in ogni umano in ogni persona umana c'è l'umanità e uno delle componenti dell'umanità è il principio di responsabilità perché una persona adulta vive in una società e quindi si assume dei diritti e dei doveri come diceva Maria Montessori la libertà responsabile si insegna ai bambini e questo è il punto secondo me è politico noi dobbiamo capire la mia risposta tendenzialmente è vale la pena di provarci se riusciamo a fare questo movimento perché altrimenti vi ricordo che comunque le persone possono tutto sommato se possono evitare di andare in carcere le persone deboli di cui noi ci occupiamo non si lamenteranno del tutto io avevo un paziente anni fa che l'aveva risolta in maniera molto semplice c'erano il western all'italiana e lui si vestiva da sartana che era un personaggio del western con tanto di cinturone pistola eccetera e ovviamente questo gli serviva per non pagare mai l'autobus il biglietto dell'autobus perché sartana non paga il biglietto ora se vogliamo evitare che ci siano questi vantaggi secondari la dico rimanendo sul tema autobus dobbiamo avere la forza di porre il problema del diritto all'uso gratuito degli autobus per tutti quelli che si muovono abbiamo questa forza grazie calcaterra eccola eccomi allora vi rimetto alcune osservazioni che derivano soprattutto dalla pratica quotidiana perché questo io faccio sarei voluto intervenire dopo Mario Novello perché lui ha parlato di disperazione che è una cosa uno stato d'animo che recentemente ho provato molto spesso anche perché diciamo che noi oggi discutiamo di una riforma che richiederebbe grandissime energie e grandissime risorse territoriali e ci ragioniamo in un momento drammatico diciamo la verità perché il sistema è andato completamente in tilt a causa del covid per tutta la medicina e per la psichiatria in particolar modo io nella mia esperienza diretta vi posso dire che su sette pazienti che avevo in giro con problematiche psichiatriche se li ho in carcere perché il sistema ha fatto acqua da tutte le parti sono contenta che siano in carcere non sono assolutamente contenta perché credo che quella per loro non sia la soluzione allora non ho ancora le idee chiare su quella che può essere la mia posizione rispetto alla proposta che però ovviamente ho letto e ascolto perché può essere interessante però vi rimetto alcuni dubbi e alcuni timori che mi vengono dalla lettura di questa proposta si dice che e lo ha detto bene Mario Novelle che c'è questo mantenendo il dottorinario c'è questo pericolo che è insito nell'attività peritale che è un'attività drammatica oggi dal punto di vista processuale vi racconto che io ho discusso due giorni fa con una perita che secondo lei un indice di indicatore della pericolità sociale era la mancanza di pentimento ecco questo è un concetto etico e non è un indicatore ma era stato difficile farglielo capire ma questo è il livello ecco quindi è chiaro che eliminando il doppio binario forse elimina anche questo pericolo che è sempre più insidioso perché la competenza di questi periti è sempre minore diciamoci la verità perché poi i migliori periti sono quelli che non vogliono più venire in tribunale per le attese per i compensi bassissimi eccetera però io vi domando nel momento in cui una persona viene condannata a una pena perché è titolare di una responsabilità piena ci sarà un momento in cui dovrà essere deciso come deve essere declinata quella pena e ci sarà una persona un perito che dovrà accertare se quella persona delle problematiche psichiatriche in ragione delle quali la sua pena non deve essere espiata ma deve essere espiata fuori e allora cosa succede? Rientra dalla finestra quello che abbiamo mandato fuori dalla porta? Perché allora pena sia bene ma siccome la pena voi non la volete non la vogliamo in carcere ci dovrà essere qualcuno che ci dice chi lo fa? Io non credo che debbano essere i servizi di salute mentale perché nell'esperienza quotidiana che vi racconto i servizi di salute mentale sono quelli che nero su bianco scrivono che le persone devono stare in REM sempre quasi sempre o in carcere perché mediamente ti dicono che sono antisociali quando anche non è vero pur di non averli sul territorio quindi temo che il problema dei periti si riproporrà anche nella fase successiva l'altro pericolo che credo sia insito e diciamo e sia anche motivo di questo superamento dell'attuale sistema a favore di un'imputabilità completa è quello dei percorsi infiniti delle misure di sicurezza perché questo è un problema le prorore continue eccetera eccetera allora io vi dico che un po' per esperienza non è più così nel senso che comunque c'è una certa fermezza di valutazione nelle proroghe delle misure di sicurezza e forse si potrebbe invece fare un percorso un ragionamento serio che deve essere affrontato di quale abbiamo molto parlato e me l'abbiamo abbandonato su quello di pensare a una durata massima anche delle misure di sicurezza non detentive perché ormai questo sta diventando un problema quella della proroga infinita con costi infiniti sociali per le misure di sicurezza che è un problema che si porrebbe anche con l'altro sistema quindi sicuramente il termine delle misure di sicurezza sicuramente un altro argomento è quello del recupero diciamo nel computo della misura di sicurezza anche della libertà vigilata del periodo presofferto perché non si capisce come mai la detentiva venga computata nel periodo globale mentre la misura di sicurezza della libertà vigilata è come se fosse un presofferto incautelare non conteggiato mai io quindi diciamo ho paura poi su quelle che sono le prospettive di questa riforma e nel senso che ben venga va bene immettiamoli nel carcere in quanto persone titolari di diritto ad essere sottoposti a un processo di diritto ad una pena se devo rimettere e questo ve lo dico anche con l'esperienza di osservazione di Antigone di chi vede dentro e se devo rimettere se devo fare un pensiero rispetto ad una cura che venga erogata all'interno del carcere ho molta paura ho molta paura di questa di questa riforma e allora con quella riforma del superamento degli OPG siamo andati in avanti con un sistema non pronto diciamo la verità è andata benissimo va bene che sia così forse su questa varrebbe la pena di preoccuparsi che ci sia un sistema sanitario all'interno delle carcere che sia dignitoso che superi la dignità perché guardate che all'interno delle carceri il sistema non funziona da nessuna parte mi viene da dire che è molto ma molto più pregevole la cura che viene erogata all'interno della REMS e dico una cosa che vi farà tremare ma è l'esperienza che me lo fa dire ecco ho paura poi del vuoto di risorse che ci sono nei servizi perché a quel punto la misura che viene nella quale dovrà essere declinata la pena che viene applicata per intero alla persona che non è più non imputabile ma che è pienamente responsabile ed imputabile deve essere declinata in maniera diversa perché se è la persona problematica deve fuoriuscire dal circuito carcerario o comunque starci il meno possibile allora cosa succederà di queste misure chi le gestisce chi le organizza in un sistema che è come quello che vi ho descritto sistema nel quale oggi noi e parlo per l'esperienza lombarda le persone escono dalle REMS perché i medici delle REMS di concerto obbligando i medici territoriali del CPS portano fuori i pazienti li portano nelle comunità fanno gli accessi fanno vedere cercano delle alternative i medici del carcere scordiamoci che facciano queste cose io ho paura che non le facciano cioè se riusciamo a organizzare a pensare un sistema in cui i medici all'interno delle carceri riescono ad ingaggiare i medici del CPS per la creazione delle pene alternative che dovranno essere quelle della detenzione domiciliare o delle misure degli affidamenti benissimo ho molta paura come è il sistema che sia una previsione quasi irrealizzabile oltre al fatto che mi pongo il problema diciamo certo generalmente noi lavoriamo con pene non severissime però declinare una pena di 30 anni o un ergastolo in affidamento in prova rischiamo di tenerlo lì per 30 anni una persona ecco l'ultima cosa poi mi fermo che io sempre per l'esperienza è chiaro la persona arriva deve essere titolare di diritti deve essere riconosciuta titolare di diritti deve avere diritto a un processo deve avere una pena io francamente per quello che vedo cioè vedo arrivare dei ragazzini in processi indirettissimi arrestati faccio veramente fatica a pensare che in quel momento e guardate che la giustizia non si può aspettare a fermare che si compensino le persone che in quei momenti quelle persone capiscano e possano essere capaci di capire quello che sta succedendo e quindi diciamo partecipare coscientemente ad un processo per come li vedo nella maggior parte dell'esperienza quotidiana questa diciamo è la mia restituzione ma è la restituzione della pratica diciamo perché quando arrivano arrestati e scompensati indirettissima in queste aule dove vediamo e ci mettiamo le mani nei capelli francamente pensiamoci cioè possiamo creare tutto quello che vogliamo però la realtà poi presenta anche sfaccettature di questo tipo cioè persone che a mio parere io faccio fatica a pensare che in quel momento possano essere titolari di un diritto possono essere sì sono titolari di diritti ma possono essere consapevoli e coscienti pienamente di quello che devono affrontare processualmente quindi rimetto queste riflessioni per il dibattito è chiaro che poi lo sapete come la penso rispetto ai percorsi di cura però insomma bisogna anche considerare il sistema e le risorse che oggi abbiamo per provare a pensare magari prima di essere certi e di organizzare un sistema strutturato che ci possa pensare di fare quel passo in avanti senza appunto il pensiero che mi è venuto di più è quello sì ho capito è vero però questi periti poi prima o poi arrivano cioè questo è il punto grazie grazie Katia Ponetti allora cerco di fare il punto su alcune cose già dette per poi arrivare a un punto critico finale riprendendo altre cose già dette allora la proposta sull'imputabilità dal punto di vista giuridico e morale sostengo completamente quanto già Giulia ha detto cioè si tratta di dare rilevanza alla dignità della persona di riconoscere la persona come agente morale e questo nel diritto lo ritroviamo nella capacità da agire nel diritto civile e lo ritroviamo nel diritto penale e nella capacità di intendere e di volere quando noi pensiamo di proponiamo di abolire l'imputabilità lo diciamo in un modo diciamo un po' veloce diciamo un po' sintetico in realtà non si tratta di abolire l'istituto dell'imputabilità ma si tratta di riformarlo nella sua parte che riguarda l'infermo di mente ovvero di riformare l'articolo 88 del codice penale evitando che l'infermo di mente sia considerato per la sua stessa infermità incapace di intendere e di volere e quindi soggetto non imputabile questo non mette in discussione l'articolo 85 del codice penale ovvero quello che lega l'imputabilità alla capacità di intendere e di volere capacità di intendere e di volere che per esempio per fare un esempio pratico concreto il minore d'età minore di 14 anni non ha e il minore tra i 14 e il 18 diciamo deve essere accertato quindi non si propone di abolire in toto l'imputabilità ma di riformarla in relazione all'infermità di mente e questo ha un valore specifico per quanto riguarda la cura come è già stato messo in evidenza da molti essere responsabile della scelta di curarsi è il presupposto perché la cura possa avere un effetto positivo in questo senso una parte della proposta che a me piace molto diciamo è quella che prevede che la misura alternativa che si propone di introdurre sia configurata come una vera e propria misura alternativa ovvero che sia a richiesta della persona alla quale dovrebbe essere applicata questo significa responsabilizzare la persona già dall'inizio già dal primo passo già dal momento in cui questa persona dice non voglio stare in carcere voglio andare in una struttura esterna in una struttura psichiatrica esterna o vedremo in un altro luogo come potrebbe essere una sorta di REMS questo approccio va radicalmente contro quella che si sa che è una prassi che è diffusa in carcere ovvero quella di utilizzare le sezioni psichiatriche e un tempo gli ospedali psichiatrici come luogo in cui mandare quelli che rompono le scatole questo con basando il tutto sulla scelta della persona non sarebbe più possibile quindi una persona va in carico al servizio psichiatrico sia che sia interno sia che sia esterno perché lo decide perché lo chiede chiaramente le critiche che vengono sollevate a questa proposta ne è stato fatto scenno qua dentro ma anche in altri contesti sono quelle che riguardano il fatto che poi la persona con problemi mentali stia in carcere e di fatto non venga curata ma venga semplicemente reclusa ecco cos'è che può invece fare la differenza a me vengono in mente varie cose innanzitutto come sono configurate le articolazioni psichiatriche e penitenziarie molti di voi l'hanno già detto queste articolazioni funzionano male e hanno diciamo poche regole certe sulle quali possiamo far conto per poterle migliorare quindi forse dovrebbero essere migliorate sia dal punto di vista della previsione normativa ma anche dal punto di vista diciamo di una riflessione di quello che dovrebbe accadere in queste articolazioni chi dovrebbe andare in queste articolazioni dovrebbero andare io immagino che in queste articolazioni dovrebbero andare le persone che sono diciamo arrestate e che sono appena entrate in carcere e che magari sono scompensate e hanno bisogno di un trattamento immediato per poi capire quale sarà il loro destino e se potranno e se vorranno chiedere una misura alternativa al carcere l'altra questione è forse forse le articolazioni psichiatriche penitenziarie e la misura alternativa al carcere in struttura psichiatrica non sono sufficienti per coprire diciamo l'intera gamma di reati e di gravità patologica che possono che si può verificare facevate più di una persona ha fatto l'esempio appunto di pluri omicidi condannati all'ergastolo o comunque a pene molto lunghe in questo forse si dovrebbe pensare come le strutture come le REMS molte delle quali hanno dato dei risultati positivi potrebbero essere recuperate in questo sistema che noi andiamo a proporre chiaramente non si chiamerebbero più REMS perché le misure di sicurezza verrebbero abolite però potrebbero essere delle strutture in cui inviare in cui dare la possibilità di andare perché anche quello dovrebbe essere fatto sulla base di una scelta dare la possibilità di andare alle persone che hanno patologie più gravi barra situazioni penali più più intense per chiudere chiaramente una cosa essenziale è l'investimento nei servizi sanitari e già questo già Pellegrini prima lo ricordava chiaramente è un elemento fondamentale se non si investe nei servizi è difficile poi avere delle strutture che funzionano ecco quindi alcuni elementi che possono essere lasciati anche alla discussione adesso oppure domani grazie grazie Giovanna del Giudice sì io così alto si sente volevo porre volevo ritornare un po' all'inizio del nostro dibattito quindi alle questioni poste all'inizio da Franco Corleone da Stefano da Grazia considerando che sono state dette tantissime cose e che forse dovremmo questa è una proposta che io faccio al tavolo organizzativo dovremmo domani approfittare per affrontare in maniera più sanitariale più discorsiva alcune questioni che sono state qui poste ma gettate e lì tra le tante ma questioni importantissime che forse dal momento che siamo pochi possiamo discutere in maniera veramente discorsiva prima dicevo per esempio a Mario tu hai affermato alcune cose ma ne hai dette troppe e io non capisco che cosa vuoi dire se c'è se si fa la legge poi cadiamo dalla padella e la braccia l'hai espresso faccio l'esempio più semplice perché ne abbiamo parlato prima con Mario con cui abbiamo una lunga storia di militanza e di amicizia dico non basta dire ritornano gli automatismi beh approfittiamo di fatto che siamo pochi siamo in un posto bellissimo forse possiamo metterci anche in maniera diversa un po' mantenendo le distanze in cerchio e possiamo spiegarci ed approfondire come alcune cose dette volevo discuterle ora da Antonella Calcoterra da Tamar Pitch e così via io quindi faccio intanto questa proposta per domani ed è questa una cosa e quindi non entro in tante questioni specifiche ma premesso che anch'io ero fra le persone che sono venute qui per vedere persone quindi passione hai fatto una cosa correttissima per parlare con le persone guardandole almeno negli occhi per riprendere parlo di me personalmente un discorso che mi appassiona su cui ho passato molto tempo a lavorare nella mia vita nell'impegno di un stop a PG ma avevo deciso di non parlare ecco però dico invece alcune cose anche perché è un ambiente molto tranquillo sereno ecco io credo che dovremmo allora faccio un'altra premessa la storia questa proposta che oggi di cui oggi discutiamo la questione del doppio dell'abolizione del doppio binario l'abbiamo sempre detta non era la questione da affrontare per il superamento degli OPG l'abbiamo sempre detta in questa maniera noi abbiamo chiuso gli OPG ma non abbiamo messo in discussione i fondi il paradigme che li sostengono e quindi è evidente che abbiamo fatto riferimento sempre alla proposta Vinci Grossi e poi Corleone di tanto tempo fa sempre nella nostra pratica e nella nostra azione di accompagnamento come stop OPG di accompagnamento del percorso della commissione marina quindi io credo che oggi possiamo rivedere alcune cose ma è evidente che è un nodo quello da affrontare perché è l'unica garanzia che noi abbiamo per il superamento vero del paradigma che sostiene l'OPG e per stare all'interno fino in fondo all'interno del solco della 180 della Costituzione questo è evidente che è così perché se la legge 180 ha messo fine a uno statuto speciale per il malato di mente con l'articolo 88 e l'89 del codice penale questo viene messo in discussione nei fatti nella concretezza dei fatti è per questo che noi dobbiamo affrontare questo ma io vorrei dire e su questo dico ritorno all'inizio dei ragionamenti e delle questioni poste come affrontiamo questo ragionamento oggi dove in quale in quale frame in quale cornice di ripresa di ragionamento critico sui temi sui temi della sui temi della superamento sui temi della salute mentale in generale e delle istituzioni della salute mentale mettiamo questo ragionamento io e con Franco abbiamo discusso con simpatia con stima però reciproca sempre sul fatto che io non ero d'accordo con lui su due cose uno la rivoluzione gentile io credo che appunto fino a quando esiste l'88 gli articoli del codice penale questa non è quella della chiusura degli OPG non è stata una rivoluzione ed è questa un'altra cosa l'altra questione su cui ero in disaccordo dico con Franco perché stiamo qua per porre delle questioni e con Franco ma anche con tante altre persone non ho mai pensato che dalle REMS potesse nascere l'innovazione nei servizi di salute mentale cosa cui tanti hanno pensato che tanti negli nostri incontri di stop OPG si sono augurati certo avevamo di fronte giovani operatori che entravano per la prima volta nel servizio e che si sono trovati anche per merito del lavoro di stop OPG coinvolti in una situazione che alludeva ad un'utopia e certo che allora abbiamo fatto questo ragionamento forse da lì può nascere l'innovazione ma io non ci ho mai creduto anche perché sono una vecchia che appunto ho cominciato qualche mese prima di Mario Novello a Trieste a dicembre del 71 a lavorare e sapevo che i luoghi separati sono luoghi che possono riprodurre il manicomio non possono innovare il sistema ed è così quindi io dico che noi dobbiamo riprendere un discorso complessivo sulle questioni superamento degli OPG superamento e l'impegno che il coordinamento conferenza salute mentale nazionale sta mettendo perché il governo faccia un atto istituzionale per rimettere attenzione sul tema REMS e dove volto sul tema REMS e su tutto quello che deriva dal superamento dell'OPG quindi noi dobbiamo assolutamente riprendere anche un ragionamento culturale oggi sono usciti fuori tantissime questioni tantissimi temi che meritano assolutamente di essere approfonditi io faccio solo piccoli esempi ho fatto quello relativo alle questioni poste da Mario faccio altre mi vengono in mente altre cose molto semplici la misura alternativa io ho avuto l'impressione anche fra di noi che siamo una minoranza seletta mi viene da dire è stata spettavata coincidere con scusate usavo la parola internamento e non volevo usarlo ma la uso ricovero nelle comunità quindi alla fine sì e invece noi pensavamo mettiamo sempre al centro del nostro ragionamento la presa in carico della persona nella comunità nella comunità nel territorio nei luoghi naturali di vita non nella residenza comunità per esempio questa è una cosa che oggi è stata continuamente confusa e siamo eletti è confusa come viene applicata eh vabbè però oggi oggi riportando abbiamo continuamente ecco quindi dobbiamo riaffermare alcune cose grazie a questo voglio dire dobbiamo affermarle con forza perché se poi il paradigma rimane sempre quello dell'internamento in luoghi separati che si chiamino REMS che si chiamino non voglio esagerare che si partino a comunità terapeutica o se l'internamento a vita o segregazione e separatezza no noi sappiamo che è possibile un il mantenere e progettare percorsi di salute e di inclusione sociale nella comunità nei territori e su questo che noi dobbiamo su cui dobbiamo lavorare altra questione Antonella per esempio che mi ha detto cento cose peccato che non sono riuscita a scriverle che meriterebbero tutte di essere riprese ma una lei dice ma sia i servizi psichiatrici dice giustamente bisogna che ritorna la figura del perito ma chi è il perito se non l'espressione di una cultura dominante che sta diventando sempre più ampia in questa nella 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 nostra organizzazione e che scientifica e quindi che i periti esprimono come i servizi territoriali un ritorno al paradigma medico biologico ospedaliero e non è che se ne saranno qualcuno che come dici tu poi non vanno ai processi o non accettano gli incarichi insomma dobbiamo ragionare su altre cose io penso che noi dobbiamo lavorare su una qualificazione del servizio territoriale e il servizio territoriale deve intervenire in molte situazioni dicendo alcune cose poi credo che sul perito dovremmo anche che forse mantengono la necessità di esserci di chiacchieravamo prima dovremmo affrontare il problema va bene allora io volevo solo dare questo messaggio dobbiamo includere questo nostro discorso in una ripresa di attenzione e di proprio dibattito culturale politico intorno al tema superamento dell'OPG perché altrimenti credo che rischiamo non solo un fallimento ma anche forse qualcosa di più io per ora mi fermo qui domani abbiamo tempo per riparare ma sono d'accordo è la ragione per cui abbiamo messo in discussione questa proposta per dire non ci possiamo accontentare della chiusura come è stata fatta degli OPG insomma d'altronde io penso che bisogna ogni tanto fare dei salti non nel vuoto ma dei salti perché se noi aspettassimo che tutto sia preordinato in maniera efficace in realtà manterremmo lo status quo e anzi rischieremmo di andare indietro adesso mi dicono che ci sono collegati e che stanno seguendo i nostri lavori Daniele Piccione e Stefano Anastasia a noi farebbe molto piacere che intervenissero quindi vediamo ancora Pellegrini ma noi prima di ridare la parola Pellegrini vorremmo vedere se riusciamo a vedere Anastasia o Piccione e se intervengono mi rivolgo ecco Daniele Piccione vuoi darci un io vi saluto e vi ringrazio per l'ospitalità ma intanto darei la la primazia senz'altro a Stefano perché io sono in un momento in cui il mio collegamento non è buono mentre tra pochi minuti potrebbe andare meglio vediamo allora Stefano Anastasia non so se si è sentito noi abbiamo sentito ma ti senti vorremmo vedere ti salutiamo vorremmo vedere Anastasia io sono dove è Anastasia non vedermi non riuscite a vedermi perché sono in auto ah e allora ma puoi parlare dicendo cose sensate o no mi potete ascoltare no io preferirei continuare ad ascoltarmi perché sono in una condizione un po' difficile diciamo ecco sono alla guida diciamo una situazione un po' precaria va bene allora sentiamo se Daniele Piccione può intervenire noi lo vediamo bene e lo sentiamo bene Daniele prova sì sì va bene faccio un tentativo intanto mi scuso se rimarrò per le vie brevi e soprattutto terrò conto limitatamente delle cose che sono state dette oggi perché non ho avuto modo di ascoltare l'interezza degli interventi che ci sono stati io mi limito a svolgere il ruolo che tutto sommato mi era stato assegnato cioè quello di farmi l'atore un pochino della posizione cosiddetta riformista cioè la posizione riformista è quella che pur credendo all'assoluta inattualità degli attivi di 88 e 89 del codice penale ritiene che molti passi avanti e la non accettazione dello status quo si potrebbe raggiungere conseguire anche senza la abrogazione della figura della non imputabilità e quindi è evidente che non vedo un'alternativa secca cioè o status quo o abolizione secca del doppio binario inteso questo doppio binario come sussistenza del nostro sistema della figura giuridica del non imputabile però devo anche dire che questa tesi cioè quella dell'abolizione sarebbe veramente preferibile e quindi io in questo mi sento culturalmente molto vicino alle posizioni propugnate prima tra tutti da Franco ma anche da Alton insomma però io ritengo che la questione vada ricondotta su profili di sostanza qui mi trovo totalmente concordo con quanto ha detto Giovanni per quanto l'opera di umanizzazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario la sua trasformazione poi nella REMS trasformazione che come sappiamo tutti è parziale abbia avuto certamente risultati positivi va però detto che non è sulle REMS né su alcun luogo di ordinamento separato che si deve e si può puntare e lo sforzo di questi anni che abbiamo condotto non sempre con successo purtroppo era quello di spostare il fulcro dell'attenzione sulla libertà vigilata terapeutica cioè il tentativo di chiarire il nome di uno dei principi della legge 81 del 2014 che non è che si è determinato solo un effetto sostitutivo REMS ospedale psichiatrico giudiziario questo è fatale che poi comporti il dramma dell'equivoco della carenza di posti letto della scarsità relativa di possibilità di ricovero e in generale poi innesca la corsa all'aumento della capienza quindi gli insegnamenti di cui tutti siamo testimoni insomma ci hanno sempre spiegato che più si aumenta l'offerta dei luoghi di contenimento e di esclusione più questi luoghi si riempiono e chiamano ancora una volta all'ampliamento delle possibilità ricettive tutto questo per dire cosa che secondo me il fronte di battaglia immediata fondamentale su cui dobbiamo tutti impegnarci è quello di riportare al centro del rapporto tra ordinamento giudiziario e sistema di tutela della salute mentale la libertà avvicinata cioè dobbiamo capire che l'irrogazione della misura di sicurezza anche se esiste ancora la non-inputabilità e voglio dire sia con la definitiva che con la provvisoria deve essere orientata presuntivamente alla misura non detentiva solo così noi possiamo sperare in un mutamento di paradigma un mutamento di paradigma che naturalmente è molto difficile perché c'è il problema della differenziazione regionale delle differenze di culture di un approccio integrato alla cultura giuridica che sono portatori in componenti dell'ordine giudiziario e invece il sapere medico e insomma tutte sfide nelle sfide che ci hanno impegnato finora e devono continuare ad impegnarci ora naturalmente oggi di che parliamo noi parliamo del problema invece fondamentale cioè dell'opzione radicale la domanda mi è sembrato di capire è da mettere sul tavolo il grande proposito di abolire la figura della della non-imputabilità e soprattutto è suscettibile di sviluppo l'idea di una sorta di diritto all'esecuzione penale cioè che anche la persona che consuma il reato in condizioni di sofferenza psichica deve poter aspirare a una combinazione della pena che lo faccia filosoficamente responsabile del diritto che ha compiuto la mia risposta l'ho detto in partenza è sì però voglio anche dire che anche qualora si giungesse a questa a questa frontiera estremamente avanzata si aprirebbe tutta la grande questione di come umanizzare e rendere terapeuticamente in certa misura fruttoso la dimensione carceraria e qui si spiega perché io speravo che Stefano prendesse la parola prima di me perché invece io sostengo ritengo non da oggi che la battaglia per umanizzare il carcere per cercare di rendere un luogo dove comunque di espasso per la tutela della salute è una battaglia che ci sta vedendo perdenti non vede perdenti solo noi è una delle grandi campagne del novecento che si impranta il muro del realismo e che in questi anni duemila non mi pare che stia dando un po' di freddo quindi la domanda rimane se noi riusciamo anche a valicare quel muro il muro dell'imputabilità poi abbiamo il tema di come umanizzare l'esecuzione penale anche per una persona che soffre dell'esperienza del disturbo e che magari vive l'interrelazione di questo disturbo col delitto computer insomma interrogativi che si spostano come si vede ma non si risolvono e quindi ecco mi spiace se pongo più dubbi che offrire soluzioni però credo che noi dobbiamo essere consapevoli di questo cioè che la battaglia culturale è un fronte ma poi c'è un tema che sempre torna e torna in funzione di come noi spostiamo i quesiti perché a me è capitato Michele Passione che ci segue lo sa benissimo e non solo lui di arrivare al problema di come affrontare un sistema di tutela della salute mentale anche nel carcere nel luogo di restrizione della libertà per eccellenza e lì la puntata è tutta da fare nel senso che c'è ancora chi scommette sui luoghi di restrizione nei luoghi di restrizione cioè tra microordinamenti separati che in realtà realizzano l'ospedale psichiatrico giudiziario dentro al carcere una risposta che a me pare intollerabile una risposta che si rivederebbe fallimentare in apicipus insomma e d'altro canto sostenere la tesi che chiunque soffra del disturbo dell'esperienza del disturbo possa poi aspirare direttamente all'esecuzione penale esterna è un problema che ha sempre incontrato delle difficoltà di sostenibilità anche di fronte all'opinione pubblica insomma ancorché lo dobbiamo dire filosoficamente e qui mi taccio è il punto di arrivo a cui dobbiamo tendere perché si tratta dell'idea per la quale chi soffre psichicamente non può vivere mai l'esperienza della restrizione della libertà personale perché le due cose sono incompatibili la famosa idea della malattia istituzionale di Basaglio è questo cioè l'idea che se io vivo l'esperienza del disturbo vengo anche ristretto e coercito questa mia difficoltà di vita questa dimensione esistenziale sofferente poi non fa che amplificarsi e apuirsi quindi ecco concludo dicendo che si tratta di interrogativi circolari si vedono si perpetuano si spostano quindi noi dovremmo cercare di trovare un paradigma per affrontarli che sia unitario ma che sia anche sufficientemente elastico da perseguire il tema di cui ci occupiamo le diverse prospettive in cui si presenta grazie Daniele per per la carica di dubbi che sono importanti il problema è che quando però poi dobbiamo andare a normare alla fine qualche rigidità c'è nel sistema giuridico è difficile pensare che ci sia una scelta solo affidata appunto a una sperimentazione di soluzioni però questo fa parte della della nostra discussione non so se Anastasia si è fermato con la macchina oppure continua il suo viaggio infinito e non so se sta venendo a treppo carnico non lo sentiamo più allora non so se allora se non sentiamo possiamo continuare con l'intervento di cecconi che era previsto no qui non non c'erano altri iscritti mi pare quindi adesso però possiamo non so se Pellegrini vuole intervenire con qualche altra provocazione se volete se mi sentite proviamo ecco torna alla razionalità antica la razionalità antica allora è è questa allora la proposta secondo me va portata avanti con determinazione con alcuni punti operativi il primo è quello di avere un'autorità e un'osservatorio nazionale secondo quello di avere a livello regionale dei tavoli operativi dei cruscotti chiamiamoli come vogliamo che integrano le diverse autorità che hanno titolo di intervenire su questo tema perché molti dei problemi nascono dall'assenza di coordinamenti dall'assenza di sintonia operative questo è il terzo punto il quarto punto occorrono delle idee concrete perché se i dipartimenti salute mentale non hanno forze e non si organizzano intorno a funzioni o unità operative di psichiatria forense che integrino figure diverse da quelle della psichiatria tradizionale ma che mettono dentro anche i consulenti giuridici rappresentanti degli utenti delle associazioni la società civile se non si crea un contesto operativo poi tutte le questioni diciamo lasciate ai soli centri di salute mentale non funzionano e non si riesce ad articolare correttamente pena recupero riabilitazione e cura che secondo me devono stare insieme cioè devono essere uniti ciascuno per la propria parte il tema delle deleghe complete di queste quattro diverse funzioni ad un solo soggetto probabilmente è alla base dei problemi poi bisogna investire per fare questa cosa questa riforma non si può mandare avanti senza investimenti adesso c'è il recovery fund allora proposte concrete ogni dipartimento con centomila abitanti ha una decina di appartamenti per fare dei percorsi con baci di salute di mettere le persone ha imprese sociali che consentano l'inclusione riesce cioè ad avere un investimento concreto in strutture abitative di comunità per trasformare anche le residenze che accennava Giovanna De Giudice prima in servizi di comunità per aprire una nuova fase una nuova frontiera queste sono un po' le tematiche e gestire lì anche quel 35-40% di misure provvisorie che in genere sono delle misure attribuite per reati poco importanti dal punto vista penale ma magari ripetuti e quindi intraprendono dei percorsi diversi perché c'è una netta differenza tra questo e lo avete citato voi e magari reati invece gravi che comunque in ogni caso hanno misure che durano a lungo e dalle proiezioni anche dalla relazione del garante dei detenuti Palma se si fa un po' di proiezioni l'accumulo di questi pazienti nelle rente la loro lunga permanenza potrebbe essere uno dei problemi d'altra parte sappiamo benissimo che le misure definitive sono comunque non più del 60% 60-65% grazie Pietro mi pare che alcuni nodi su cui domani dobbiamo riflettere sono queste libertà vigilata come è stata proposta va declinata credo in maniera più approfondita perché oggi la libertà vigilata viene costruita in strutture che sono una sottospecie delle REMS cioè terapeuticamente peggio ma chiuse come le REMS e per di più senza che il sofferto valga qualcosa perché e soprattutto che la libertà vigilata può essere all'infinito allora questa non funziona neanche questo quindi dobbiamo capire queste proposte invece di intanto arrivare per passi all'obiettivo e quindi dire che le REMS devono essere solo per i definitivi e che non per le misure provvisorie che bisogna affrontare il problema della semi-infermità cioè questi potrebbero essere degli obiettivi che ci portano ad avvicinarci a una riforma complessiva come quella che noi indichiamo chiarendo questo cioè mi pare che Katia Ponetti ha detto noi dobbiamo immaginare non dei del una soluzione per cui si pigliano le persone dal carcere e si mettono in un'altra struttura contenitiva ma il il momento comunque c'è un passaggio in carcere che comunque devono fare tutti anche adesso perché se uno fa un reato viene arrestato va in carcere quindi il tempo in carcere in attesa del processo oggi in attesa della perizia come viene utilizzato ecco Katia dice nella nostra proposta noi non diciamo che è un pacco che viene portato in un'altra struttura ma ci deve essere un processo per cui sia la persona stessa che manifesta la volontà di andare in iniziare un processo terapeutico diverso è realistico questo è un sogno però intanto questo è l'altra questione per il passaggio alla misura alternativa c'è bisogno di comunque una perizia oppure ecco questo è l'interrogativo che ha posto Antonella Calcaterra mi pare e noi su questo forse dobbiamo insomma affinare il momento dei passaggi perché certo non possiamo rimettere in piedi un meccanismo uguale a quello attuale solo spostato nel tempo dobbiamo pensare che la persona a cui affidiamo il carico della responsabilità deve trovare risorse che indichino questa una prospettiva insomma non legata solo a una perizia successiva che dice si è matto e quindi deve andare fuori dal carcere eccetera certamente mi pare diverso cioè noi dobbiamo pensare comunque che questa nostra riforma si inserisce anche in una riforma del carcere nel carcere ci sono 30.000 persone che non dovrebbero neppure entrare in carcere se non partiamo da questo che la legge sulle droghe provoca una presenza di metà dei detenuti facendo del carcere questo rifugio di difficoltà il carcere non può essere attrezzato per affrontare le situazioni serie che meritano rigore non so il cardinale Martini parlava di austerità insomma in tutti i processi nel carcere di austera risocializzazione se non ricordo male cioè è chiaro che un carcere che è come quello che conosciamo con migliaia di persone appunto che sono lì senza scopo senza fine è chiaro che non può funzionare diverso sarebbe un carcere in cui ci stanno le persone che hanno compiuto cose significative e allora la sfida dell'articolo 27 si gioca seriamente su quello e allora anche la questione della salute mentale in carcere si raffronta con persone non quelle appunto marginali persone perché poi noi l'abbiamo visto anche la violenza in carcere istituzionale si esercita verso i marginali che disturbano e quindi quelli si possono picchiare perché mentre nell'alta sicurezza il rapporto fra polizia penitenziaria e detenuti è un po' diverso allora dobbiamo pensare anche che ci debba essere un carcere diverso che affronta le questioni di salute mentale seriamente invece questo non c'è ma non so se va caricato sui servizi psichiatrici oppure bisogna affrontare una condizione del carcere diversa da quella che è oggi insomma anche questo mi pare comunque come annotazione voglio dire questo questo forse se piccione ascolta può essere interessante il dibattito alla costituente sull'articolo 32 è straordinario perché aveva ragione Aldo Moro dall'inizio alla fine da quando fa la proposta fino alla fine se voi leggete tutti gli interventi di tutte le sinistre erano tutti sballati sbagliati profondamente sull'articolo 32 aveva ragione Moro dalla proposta iniziale a quella finale approvata questo ci deve far riflettere un po' sul fatto che alcuni stereotipi colpiscono anche quelli che dovrebbero essere per molti più vicini però mi ha colpito molto leggere questo dibattito sull'articolo 32 in cui le obiezioni che venivano fatte a Moro dai repubblicani comunisti socialisti eccetera tutte sballate quindi anche questo credo che ci potrebbe aiutare nelle nostre discussioni e non dimentichiamo il caso Breivik in cui due gruppi di periti offrirono due soluzioni diverse una propendeva perché fosse matto e quindi la società si poteva ritenere innocente e invece un'altra perizia disse che doveva essere giudicato in quanto responsabile fu accolta questa seconda perizia credo giustamente e ha dato il segno di rispondere la società ha risposto dicendo se non un islamico ma un norvegese bianco eccetera ha fatto questo vuol dire che abbiamo bisogno disse il primo ministro di più cultura di più democrazia ecco a me pare che anche questo rientra nel ragionamento che noi dobbiamo fare del perché affrontiamo questa discussione Anastasia non c'è traccia se non c'è traccia diamo la parola a Cecconi non c'è vero e allora sentiamo magari si collegherà domattina Stefano penso che sia anche ora di concludere questa discussione no io mi limito a di concludere questa sera in modo che domani si possa lavorare con un po' di energia io sono molto d'accordo con la proposta che stava poi nella ipotesi di lavoro che faceva Giovanna il suo intervento bisogna che proviamo a individuare due grandi questioni una che in parte non risolveremo domani mattina perché si trascinerà in un dibattito che si svolge anche altrove che è più politica cioè come collocare queste ipotesi di lavoro questa proposta dentro il più generale movimento per il diritto alla salute e la salute mentale che è in piedi in questo paese non è che sia da qualche altra parte c'è c'è in piedi una conferenza nazionale per la salute mentale che ha prodotto l'anno scorso prima di questa drammatica vicenda del covid una manifestazione straordinaria che credo abbia aiutato a rimettere al centro almeno in parte dell'agenda politica e sociale i temi della salute e della salute mentale e che ha individuato proprio tra i punti cruciali per dare coerenza alla battaglia sul diritto alla salute mentale il superamento effettivo dell'OPG ragione è Giovanna ma è ovvio sta nella proposta il superamento dell'OPG non la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziali cioè il superamento della logica manicomiale che crea una soluzione speciale e separata solo per i matti che è esattamente la logica del manicomio quindi intanto una prima cosa che dobbiamo già domani valutare tra di noi è se questa proposta di continuare completare il lavoro che abbiamo pensato di fare quando abbiamo fatto la battaglia per chiudere gli OPG per evitare che fossero ridotti alle sole REMS le risposte al superamento degli OPG ma si aprisse un capitolo molto più ampio che era quello appunto delle misure alternative non detentive e che quindi guardava in faccia il carcere e l'esecuzione della pena e il rapporto tra servizi di salute mentale e giustizia evidentemente se questa roba qui è coerente appunto se questa proposta queste ipotesi di lavoro e di mobilitazione su questo tema sta dentro un insieme di iniziative che abbiamo messo in piedi sulle quali stiamo lavorando riprendendo anche una riflessione che faceva sia Piccione che Pellegrini ma anche Giovanna prima cioè contemporaneamente a questo atto allora forse abbiamo più forza cioè all'ipotesi di presentare un disegno di legge per l'abolizione del doppio binario e contemporaneamente va istituito l'organismo di monitoraggio sul processo di supermento degli OPG se no diamo un colpo a freddo e pestiamo l'acqua non troviamo terreno solido abbiamo bisogno che ci sia una sponda per questo con il ministero della salute in modo particolare ma anche con la giustizia con la magistratura stiamo provando a costruire a ricostruire l'organismo che fu attivato al tempo della chiusura degli OPG che poi ha avuto anche il protagonismo di Franco come commissario di governo perché è una sponda istituzionale indispensabile a provare a intanto riaccendere i fari su quello che sta succedendo e riaccendere i fari sulle questioni cruciali che attengono l'abolizione della non imputabilità e cioè il rapporto tra giustizia per esecuzione della pena e possibilità di essere davvero curati e avere diritto alla salute delle persone la negoziazione necessaria tra i servizi di salute mentale e la giustizia il fatto che il diritto alla cura si può e si deve esercitare anche dentro i luoghi della detenzione ma è altrettanto vero che il diritto alla cura e alla salute si può e si deve è indispensabile e si eserciti anche fuori dei luoghi della detenzione queste questioni sono questioni ovviamente è una scelta politica questa politica nel senso di decidere che questo diventa una degli strumenti di battaglia che proviamo a mettere in campo nel prossimo periodo affiancandolo però a quello che ho appena citato a quello che si sta muovendo nel campo della salute mentale a quello che si sta muovendo nei rapporti col governo e con le regioni per l'istituzione per la riattivazione dell'organismo di monitoraggio senza il quale ripeto rischiamo di andare a vuoto di sparare un colpo ma un colpo a salve ad esempio in queste ore stiamo non solo noi il movimento molto più vasto e le forze politiche e le istituzioni stanno discutendo l'utilizzo dei fondi europei per la rinascita e la ripresa del paese dopo l'emergenza da covid il fatto che una parte di questi fondi importante sia destinata al potenziamento del welfare territoriale al modello di salute di comunità che non è la salute trattino della comunità terapeutica ma della nostra comunità questo è un pezzo fondamentale se due miliardi come è la cifra che avevamo indicato vengono destinate al potenziamento dei dipartimenti di salute mentale questo ha un significato enorme rispetto alla discussione che stiamo facendo oggi ci risolve tutti i problemi no però è un altro pezzo di questa battaglia quindi la prima questione da discutere domani è se ci sta politicamente che questa ipotesi di lavoro stia dentro al movimento più generale che si sta muovendo sul diritto alla salute e alla salute mentale e la seconda invece su questo non dirò nulla è provare a articolare alcuni nodi cruciali in positivo che la legge può risolvere o almeno smuovere o affrontare positivamente alcune modifiche alcuni nodi cruciali alcune contraddizioni che la legge l'ipotesi di legge se non corretta e sistemata potrebbe creare e quindi come si possono recepire alcune delle osservazioni su alcuni rischi che potenzialmente il disegno di legge potrebbe generare e individuare naturalmente con molta lucidità il fatto che questo disegno di legge non risolve tutti i problemi del carcere tutti i problemi della salute della salute mentale di come si fa rinserimento di quale società costruiamo è un contributo specifico che giustamente va però reso coerente con l'idea di fondo che abbiamo di diritti di cittadinanza sociali civili e così via quindi domani provare a individuare molto concretamente proprio un elenco di questioni da affrontare in parte da affrontare modificando il DDL in parte da rinviare a pezzi che non riguardano direttamente al DDL ma che devono essere considerati con un'attenzione secondo me fondamentale evitare che sia vissuto come un colpo a freddo estraneo a tutto quello che si sta muovendo invece per i diritti sociali per la stessa ripresa del nostro paese rispetto alle vicende del covid per esempio io credo che domani sia importante fare questo ok bene mi pare che si è lavorato intensamente ci vediamo domattina alle nove e mezza ma alle nove e mezza si inizia chi c'è c'è e ora ci vediamo fuori e alle otto siamo siamo a cena allora io direi che Allora, ripigliamo il seminario sulla base della discussione fatta, molto impegnativa. La cosa incredibile è che a me è capitato di continuare ieri sera a discutere e stamattina ripigliare la discussione con chi è capitato. Il che vuol dire che la cosa è comunque appassionante e si vuole ragionare per arrivare a una soluzione che sia coinvolgente e abbia un senso politico. Io la voglio fare breve, però la questione che aleggia, mi pare, è quella se è opportuno o no lanciare una nuova iniziativa così su un tema così forte, significativo, il codice rock, eccetera, in un momento che si ritiene culturalmente difficile. Io penso che è nei momenti difficili che bisogna lanciare iniziative coraggiose. Se pensiamo, questa è una cosa che dico sempre, ma insomma che la 180 è stata approvata cinque giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. A quel punto l'obiezione poteva essere quella, lasciamo perdere queste cose perché c'è una tragedia, perché c'è la crisi del sistema politico, perché c'è, eccetera, e invece fu fatta. 20 giorni dopo la legge sull'aborto, quindi allora questo certo significa che probabilmente il Parlamento, la politica aveva più forza, però io penso che mai come in un tempo di pandemia come questo in cui si è detto che niente dovrebbe essere come prima, che bisogna cambiare, oltretutto ci sono, ci saranno risorse economiche, mai come in questo momento bisogna avere la forza di proporre un cambiamento così sicuramente così importante. Ora, noi abbiamo una unicità che non abbiamo né il manicomio civile né il manicomio criminale. Questa è la differenza dell'Italia. Ora, si è trovata una soluzione di chiusura degli OPG senza però intaccare il meccanismo giuridico e codicistico che reggeva la baracca. È stata una scorciatoia per arrivare a un obiettivo eccezionale. però il ragionamento che ci muove, la preoccupazione che ci muove è che una soluzione come questa non può reggere all'infinito. Perchè? Per mille motivi. Primo perché l'assalto, la nostalgia del manicomio, l'assalto al sistema che è stato creato, la contestazione del numero dei posti disponibili, il rifiutare il rifiuto del numero chiuso che è la base forte, eccetera, mette a rischio e rischia di snaturare tutta la riforma fatta. Questa è la ragione per cui, a mio parere, bisogna riprendere la vecchia proposta adeguandola al fatto che abbiamo comunque chiuso gli OPG e bisogna fare una proposta adeguata. Ieri sono state poste alcune questioni rilevanti, cioè per esempio sulla capacità di stare in giudizio come regolata, se va richiamata, se va ricentrata. Ma a me pare che il punto da cui noi siamo sempre partiti è rompere la caratteristica e questo Peppe Dell'Acqua l'ha scritto, riscritto molte volte, rompere la individuazione della responsabilità del delitto attribuendola alla malattia e non alla persona. E questa è un'espropriazione di soggettività per cui appunto la persona non è persona, perché prima era alienato e ora è invece internato per la sua specificità perché non è ritenuto incapace di intendere volere al momento del fatto, ma questa incapacitazione si riverbera nel futuro. Il problema, adesso è stato posto da Tamar Picce, questo problema della imputabilità, in realtà non è il centro, per noi il centro è la responsabilità che dia comunque una caratteristica, mantenga la caratteristica di individualità al soggetto, anche minima, e l'altra questione è il meccanismo fondato sul proscioglimento, quindi non è il problema dell'imputabilità o no, che noi poi in termini generali manteniamo con la salvaguardia dell'articolo 85, il problema è il meccanismo del proscioglimento e quindi del meccanismo della perizia e poi della misura di sicurezza. Se vogliamo rompere questa costruzione non possiamo che scegliere una via che è quella della giudizio, che tenga conto delle condizioni della persona e che porti a un esito che poi deve trovare nell'esecuzione della pena il rispetto della specificità. Questo vale per ogni condizione umana, patologica o no, che deve essere rispettata nell'esecuzione della pena e noi questo ce l'abbiamo per i tossicodipendenti, per le persone con patologie gravi, la legge per i malati, incompatibilità per l'AIDS e altre gravi patologie e ce l'abbiamo questo schema. perché questo è un sistema più limpido? Perché ce lo dicono gli operatori delle REMS, le persone ricoverate in REMS, siccome la misura di sicurezza è ricalibrata dopo un certo periodo, si instaura un rapporto di ricontrattazione e da parte del paziente o ricoverato verso lo psichiatra perché la misura di sicurezza cessi. Se noi invece scegliamo la via di un giudizio con una condanna, quella è e poi il problema è come può essere eseguita, con che modalità. Dice Antonella Calcaterra, ma poi chi lo fa? È una ritorna, un perito in campo per... No, il problema è che in carcere ci deve essere funzionante un dipartimento di salute mentale che affronta le questioni delle persone che ci sono. Noi dobbiamo chiarire, non so se nella legge o in un provvedimento accanto, che noi dobbiamo distinguere dalle articolazioni psichiatriche carcerarie, dalle articolazioni psichiatriche del servizio sanitario, con due cose completamente diverse. Quelle penitenziarie sono sezioni carcerarie, sono celle con le sbarre, con tutto e quindi servono all'amministrazione penitenziaria per risolvere dei problemi di gestione. Quello che invece deve entrare in campo in carcere è dei luoghi non carcerari all'interno del carcere, ma non carcerari senza noncelle, ma luoghi, una sorta di REMS in carcere. Per che cosa? Per affrontare il problema di disagio e di salute mentale delle persone che sono in carcere, che manifestano una patologia successiva alla detenzione, e invece persone che hanno avuto un giudizio avendo una patologia più o meno grave. A che scopo questo luogo? Di avere una destinazione fuori dal carcere. dove? Questo è un punto. Nella proposta nostra, lo ricordava Katia Ponetti ieri, si propone che non sia un destino obbligatorio, ma che ci sia una manifestazione di adesione a un progetto diverso. E perché questo comunque l'idea che occorre a trovare dei luoghi fuori dal carcere? Perché se la responsabilità è terapeutica, anche la libertà è terapeutica. Il carcere non è un luogo terapeutico. Quindi noi dobbiamo trovare una soluzione, che però sono soluzioni che a mio parere devono essere individuali. Non possono essere soluzioni vincolanti, predefinite, per tutti uguali. La soluzione che noi pensiamo quindi di una persona che compie un reato, viene giudicata, in realtà diffonde sul territorio nazionale i casi. Quindi non sono più concentrati in un luogo, ma sono e quindi è più facile individualizzare e trovare una soluzione nel territorio per la singola persona. E non avere più un luogo specifico per 10, 20, 30, 40 o 160 a Castiglione dell'Estiviere. Quindi dobbiamo insomma ragionare su uno schema che è molto limpido, perché a questo punto la persona subisce un giudizio e entra poi in una fase che è quella dell'esecuzione la più umana e intelligente possibile, calibrata sul singolo caso. Il problema appunto è di garantire che ci sia un Dipartimento di Salute Mentale in carcere che funzioni e che assuma la responsabilità di trovare soluzioni personalizzate adeguate. perché questa proposta che noi abbiamo ripreso è meno provocatoria della prima proposta di vent'anni fa o anche più? Perché nella legge 81, 9-81 insomma, si dice che la misura di sicurezza non è più infinita, se non nei casi di ergastolo, ma ha un limite massimo legato alla pena prevista per il reato compiuto. Quindi noi adesso riproponendo la soluzione che abbiamo, siamo in linea già con la realtà, perché la misura di sicurezza è legata alla pena editale per il reato compiuto. Quindi facciamo solo un passo di razionalizzazione maggiore e diciamo, se è così, tanto vale che sia fissata la pena per il reato compiuto e poi troviamo le strade per l'esecuzione che non sia puramente carceraria a meno che il soggetto non voglia stare in carcere. Perché ci può essere anche questa scelta e perché al di là di una retorica che si può dire se il processo rende consapevole o no le persone, però ce lo dicevo una volta, pellegrini, alcuni pongono il problema che la misura di sicurezza alla REMS non risponde al sentimento che loro hanno di avere fatto una cosa non commendevole. insomma, quindi, ecco, questo io mi fermo qua perché mi pare che le questioni di fondo sono queste. Se noi abbiamo fatto un passo per rompere la struttura manicomiale dobbiamo essere però rigorosi per arrivare fino in fondo perché se no siamo in mezzo al guado e la struttura ancora oggi quelli che sono nelle REMS sono definiti internati. A noi non è solo una questione di terminologia o semantica, è proprio una caratterizzazione che viene data alla persona che non è sotto i detenuti, perché nella valutazione anche sociale, se vogliamo rompere questo dobbiamo aggredire il problema del meccanismo del proscioglimento, che è quello, il fondamento, perché il proscioglimento, tranne il caso ricordato da Giovanni Rossi ieri per cui l'uccisore del nonno ha avuto i complimenti del magistrato ed è stato mandato a casa, però tranne questo caso noi abbiamo tutti i prosciolti che hanno misure di sicurezza sia che abbiano reati bagatellari sia che abbiano reati gravi e anzi il problema è che i numeri che voi trovate nel libro Il muro dell'imputabilità, cioè la parte curata da Evelyn Tavormina che riporta tutti i dati, noi abbiamo questi numeri rilevanti di anche fatti minori che vanno o con la misura provvisoria in REMS e con una difficoltà di gestione fra i definitivi e i provvisori che non è solo relativa al numero ma anche alla qualità della condizione delle persone, quindi gli operatori non sanno come comportarsi rispetto ai provvisori che potrebbero anche invece poi risultare non confermati nella destinazione. Ecco, a me pare che ho voluto riassumere un po' i termini che sono emersi ieri per dire, per ragionare oggi su illuminare meglio questi punti e verificare se il testo risponde a tutte queste necessità oppure come, dove va ricalibrato in modo poi da iniziare una iniziativa che metta assieme la battaglia per la salute mentale per le risorse a partire dalla richiesta di un luogo per monitorare ma anche per avere delle immediate cambiamenti magari per approssimazione successiva, come diceva Daniele Piccione ieri, una via riformista rispetto a quella radicale ma cominciare e quali sono allora i primi passaggi essenziali ecco, questo mi pare che sono le questioni aperte e credo che possiamo iniziare a un confronto più serrato. Grazie a Giuffo Allora, io molto brevemente volevo anche io riprendere un tema che è emerso ieri perché può servire proprio rispetto alla legge ed è, prendendo un po' anche l'indicazione di Giovanna di cercare di lavorare tra cultura e norma, cioè vedendo quello che può fare la norma e la cultura che ci sta dietro, insomma diciamo questa dialettica e quindi vorrei ragionare un minimo con voi sulle lezioni apprese dalla tossicodipendenza perché nella tossicodipendenza, nella cosiddetta tossicodipendenza, ora ci sarebbe tanto da dire ma so, prendiamola così. A tossicodipendenza noi per le persone autrici di reato abbiamo due canali affidamento ordinario, affidamento speciale. Ora, per quanto riguarda la messa in moto dell'affidamento lì in effetti può dare un'indicazione rispetto alla questione delle perizie perché lì non c'è perizia, cioè la persona o all'interesse del carcere si dichiara tossicodipendenza e immediatamente viene preso in carico dai servizi per le dipendenze oppure nel corso, diciamo, della visita e così via emerge questa questione e quindi viene preso in carico. Inizia poi il procedimento non semplice e non facile della predisposizione del programma perché il programma in genere viene fatto dal dipartimento che agisce in carcere che, tra parentesi, non è il dipartimento tossicodipendenza del carcere dovrebbe essere il dipartimento territoriale naturalmente che ha la sua articolazione nel carcere questo è importante perché, scusatemi la parentesi, un punto proprio in generale della riforma sanitaria non attuato è che non c'è un lavoro in questo senso cioè di fatto, seppure non così gravemente come quando non c'era la riforma sanitaria ma i servizi del carcere sono ancora separati, diciamo, dai dipartimenti che agiscono e quello è un punto importante. Comunque, a questo punto prendono in genere essendo persone spesso ben conosciute, quindi anche dai servizi territoriali prendono rapporto con i servizi territoriali dal territorio che viene nella persona e quindi in cui poi parte il discorso della predisposizione del programma quindi non c'è perizia, diciamo, questa è una questione che di fatto è affidata al Servizio Sanitario Nazionale, diciamolo così in termini semplici Qual è il problema? Niente, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, nella norma non c'è niente che dica che l'affidamento speciale per tossicodipendenti debba essere svolto in comunità terapeutica, assolutamente no il problema è che agisce una cultura e la cultura è quella molto simile diciamo alla citazione dell'acqua che avevi fatto per cui è la tossicodipendenza l'elemento causale del reato e una certa idea, diciamo, di tossicodipendenza su cui ora mi soffermo che richiama il fatto di togliere la persona dal territorio metterla in un luogo isolato e possibilmente il più isolato possibile da dove stavo originariamente qui è il punto per cui alla fine nell'attuazione pur non essendoci la norma più o meno si va in quella direzione da questo punto di vista, quindi voi e non è un caso che adesso molti magistrati, diciamo, più illuminati o anche cercano di battere la strada dell'affidamento ordinario perché poi l'affidamento speciale oltre a avere dietro questa cultura che richiama quel tipo di, diciamo, di affidamento di esecuzione della pena c'è anche il fatto che siccome la tossicodipendenza è la causa del reato ne vengono una serie di prescrizioni diciamo piuttosto cogenti per le persone per esempio, non lo so una delle norme diviene anche il divieto di assunzione di alcol perché naturalmente tutto fa dipendenza e così via che rendono molto stretto alla fine quel percorso tanto è vero che non tutti, per carità, una minoranza ma c'è anche chi dice soprattutto se c'è un percorso breve io preferisco scontare la pena piuttosto che infilare questa via crucis terapeutica perché la terapia può anche essere una via crucis in qualche modo c'è un altro elemento e questo credo ci riguardi da vicino anche parlando dell'argomento di cui stiamo parlando teniamo presente che poi c'è un'altra ragione per cui la comunità terapeutica viene a essere privilegiata privilegiata rispetto alla comunità territoriale il fatto che buona parte di queste persone sono persone che non hanno un radicamento sociale in altri termini non hanno una casa non hanno un punto di riferimento affettivo stabile e così via cioè per cui è come dire e questo lo ho discutito io per molto tempo ho fatto supervisioni con gli operatori delle comunità terapeutiche quindi lo so cioè si rendevano perfettamente conto che svolgevano un'opera di contenimento sociale rispetto a come dire una situazione di gente sradicata e il fatto che non c'erano welfare che desse a loro delle possibilità diciamo di come dire di sostegno dignitoso ecco questo è il punto di sostegno dignitoso per cui alla fine l'unico sostegno era questo sostegno estremamente ambiguo quindi questo per dire che certamente anch'io sono convinta che questo diciamo dell'affidamento e quindi questa modalità di scontare la pena può essere un passo in avanti teniamo presente però che dietro c'è sempre questo incrocio di cultura che in qualche modo bisogna riuscire su cui bisogna riuscire a intervenire l'ultima cosa che volevo dire è rispetto alle misure di sicurezza cioè se non sbaglio correggetemi se sbaglio si tratta però di due riforme insieme cioè nel senso che si eliminano le misure di sicurezza per gli infermi di mente ma le misure di sicurezza non sono solo per gli infermi di mente quindi bisogna come dire fare un doppio salto cioè aggredire il concetto di pericolosità sociale che poi mi dicono naturalmente i giuristi sanno molto più di me che in Italia il concetto di pericolosità sociale è più dilatato rispetto a quelli che c'è anche in altri paesi europei dove invece la pericolosità è più strettamente collegata al comportamento violento laddove da noi la pericolosità sociale è qualcosa di un pochino di più dilatato me lo dicono comunque questo secondo me è un punto da approfondire è inutile che Mellano si allontani perché sarà chiamato avendo lui due REMS in Piemonte ci potrà dire molte cose comunque e chi non ha parlato ieri può avere la precedenza oggi Sara Grieco qui qui perché il microfono è qua la registrazione si fa qua insomma siamo già nel campo dei migratori tanto sarò breve perché come mi sentite anche con sarò breve perché come ci dicevamo ieri oggi non facciamo relazioni o interventi ma cerchiamo di arrivare ad un qualcosa di pratico per una legge che possa convincere ieri ho ascoltato perché devo dire che da giurista e da avvocato ero un po' perplessa perché questa è una proposta molto audace però frequento da tempo questi due signori perché loro mi danno sempre questo stimolo al salto quello di cui parlava Franco ieri cioè un salto non nel buio sicuramente però un salto nei momenti difficili e quindi Piccione diceva evitiamo interrogativi circolari così li chiamava e cerchiamo di formulare una proposta di legge che possa non ripresentare delle questioni che escono dalla porta e poi in modi diversi rientrano dalla finestra mi piace molto l'impostazione di oggi perché se è vero che la responsabilizzazione dell'infermo di mente comporta la pena a questo punto la nostra missione non è più quella di parlare di imputabilità non imputabilità doppio binario ma è quello di costruire un sistema dell'esecuzione penale che cerchi di contemperare esattamente come diceva Grazia quello che avviene per i tossicodipendenti la pena perché di pena andiamo a parlare come effetto di tutto questo processo che abbiamo messo in piedi con la cura e il trattamento con un'esecuzione che sia il più possibile umana e che sia il più possibile individualizzata ed individualizzante quindi se noi spostiamo effettivamente l'impianto della proposta non su abolizione o non aboliazione dell'imputabilità quello è il presupposto ma quello che andiamo a fare è la costruzione di una nuova esecuzione penale per dei soggetti particolari deboli come i soggetti tossico-alcol dipendenti ma soggetti in forma di mente a questo punto io credo che tutto l'impianto possa leggere e qui allora iniziano i vari problemi ieri parlavamo con Franco di alcune questioni ad esempio le articolazioni per la salute mentale cioè il discorso di eliminare far capire in modo molto chiaro che è vero che le articolazioni della salute mentale oggi ci sono è vero anche che vanno totalmente modificate e quindi create queste piccole REMS all'interno della struttura carceraria bene quindi l'accento andrebbe posto in modo molto forte su questo spostamento dall'amministrazione penitenziaria al dipartimento di salute mentale e allora io mi chiedo perché non stabilire anche come avviene per la tossicodipendenza il tipo di trattamento cioè oggi tutto quello che si fa in queste articolazioni non è previamente previsto e stabilito con l'autorità giudiziaria cioè l'amministrazione penitenziaria di fatto lì dentro fa come vuole perché c'è anche una discrezionalità nello stabilire se inviare o non inviare questi soggetti cioè sono strutture gestite completamente dall'amministrazione penitenziaria se il campo invece diventa quello di riequilibrare cura trattamento e pena allora a questo punto facciamo un passo in più cioè stabiliamo anche che non solo la gestione diventa del dipartimento ma che c'è anche un trattamento che va in un certo senso concordato e perché no anche poi con la magistratura di sorveglianza in sede esecutiva lì dentro cioè se noi dobbiamo discrezionalmente concedere come avviene giustamente affermava Grazia cioè l'impianto è lo stesso ce l'abbiamo già poi funziona meno più o meno bene ma insomma quello per i tossicodipendenti una discrezionalità tra curare e trattare fuori il carcere o dentro il carcere vediamo prima quello che succede in carcere e stabiliamo questo trattamento concordandolo con la magistratura di sorveglianza in queste strutture di cui io cambierei proprio il nome cioè per evitare voglio dire confusioni sovrapposizioni per far capire che stiamo introducendo qualcosa di nuovo che richiede risorse nuove gestione nuova servizi protagonisti e trattamenti nuovi diamogli proprio lo vediamo insieme un nome totalmente nuovo diverso così da far capire che non c'entra niente con quello che c'è stato finora e cerchiamo un controllo della magistratura di sorveglianza su quello che accade lì dentro questa è un'idea poi altra cosa sì il discorso della perizia perché effettivamente ieri ascoltavo con attenzione il problema di chi fa cosa cioè nel momento in cui ci siamo resi conto che effettivamente questi periti il problema della pericolosità sociale e la presenza di questi periti che purtroppo non sono all'altezza spesso della propria funzione in un certo senso stiamo cercando di bypassare il problema non vorremmo che poi ci riserano trovarsi i periti in fase esecutiva cioè in una fase successiva allora a questo punto mi sembra di capire che come per il tossicodipendente c'è una certificazione dello stato di tossicodipendenza dovrebbe avvenire la stessa cosa senza un perito che stabilisca se tu sei o meno non imputabile e quindi puoi accedere a questo trattamento alternativo una certificazione della salute mentale del soggetto da parte del dipartimento non so se ho capito esattamente quello che stavi dicendo nel momento in cui creavi questo parallelismo tra quello che avviene per il tossicodipendente e quello che dovrebbe avvenire quindi sia il discorso del trattamento e di tutta la funzione in carico al dipartimento di salute mentale anche questo aspetto della certificazione della salute mentale per evitare la presenza del peritus peritorum del giudice e quindi del soggetto che va a stabilire effettivamente se questo soggetto deve accedere o meno a questa nuova esecuzione penale individualizzata per lui giusto? Poi le REMS che fine fanno? Questa era un'altra cosa che ci chiedevamo ieri e che secondo me dovrebbe essere inserita in modo molto chiaro all'interno della proposta di legge perché è chiaro che se andiamo a mettere mano a questa proposta dovremmo anche dire visto che si parla di altre strutture che si dovrebbero occupare dell'esecuzione penale esterna e allora dovremmo capire le REMS se vengono abolite o se effettivamente vanno a a essere modificate cioè non più dei luoghi di esecuzione delle sole misure di sicurezza ma in realtà con una funzione nuova differente che potrebbe fungere per insomma questi luoghi fuori dal carcere come queste nuove misure alternative potenziati qui subentra il problema delle risorse e però insomma secondo me questo è il momento di scrivere anche questo per evitare poi le critiche sulla confusione che si potrebbe creare rispetto al sistema vigente ultima cosa e poi mi fermo è chiaro il discorso delle carenze del sistema sanitario carcerario è chiaro che c'è un problema di risorse generale e eh trovo questa legge assolutamente inconciliabile con se non c'è a fianco quella battaglia di cui si parlava cioè quella battaglia politica perché se lo Stato delle risorse e dell'impianto del sistema penitenziario è quello che abbiamo avuto durante il periodo della pandemia questa non è una legge che può funzionare quindi assolutamente deve essere contestualizzata e inserita in una battaglia più ampia io credo che ci stia perfettamente insomma ecco basta poi riparlo insomma in base agli spunti grazie poi non so se Pellegrini vuole illustrare una cosa che ha mandato adesso Sofia Ciuffoletti grazie ma eh Viverius De Castro che è un antropologo brasiliano dice che quando il diritto e l'ontologia si accoppiano creano mostri il giuridico e l'ontologico si accoppiano creano mostri talvolta innocui altre volte ci divorano in questo caso forse divorano lo Stato di diritto e per il punto specifico di come il diritto ha trattato la follia fino ad oggi non solo in Italia è un problema transnazionale credo che siamo nella seconda categoria cioè si divorano e appunto divorano lo Stato di diritto io vi ascoltavo ieri da uditrice del tema più che da e però la filosofa del diritto molte cose che avete detto mi hanno fatto riflettere pensare e pensare alle aporie se vogliamo se volete e devo dire sono qui perché mi convince molto mi convince molto scardinare il sistema che vi dicevo prima quindi se la legge va portata avanti la proposta di legge credo che vada discussa perché il punto essenziale il punto centrale di tutto quello che voi dicevate ieri forse raccolto proprio nella sollecitazione di Tamar Pitch è che della follia e di come il diritto tratta la follia bisogna discutere ma bisogna discutere a partire probabilmente e va ripresa dalla concetto di responsabilità e dalla dimensione della dignità della dignità come la modula come la congegna perché anche la dignità è categoria più che liquida è più che aperta secondo me come tutte le categorie del pensiero detto questo però come la interpreta e come la struttura oggi la Corte Europea dei diritti dell'uomo quindi con una forte accento dato alla autodeterminazione il principio di autodeterminazione quanto noi lasciamo quanto noi lasciamo di dignità declinata secondo il principio di autodeterminazione alle persone che consideriamo malate di mente questo ce lo dobbiamo porre come questione ma non ce lo dobbiamo porre soltanto come giuristi ce lo dobbiamo porre sul fronte culturale prima secondo me ancora che da giuristi da giuristi c'è un ribaltamento di ottica segnalato in realtà già ieri anche da te Franco proprio se voi pensate alla fase esecutiva e alla fase di cognizione a quanto sono diverse per la Corte Costituzionale guardate nell'ultima sentenza del 2019 sull'ergastolo stativo e permessi lo chiarisce molto bene c'è una grossa differenza tra la fase esecutiva e la fase di cognizione sul modo in cui il giudice e tutti gli attori del processo devono guardare alla vicenda nella fase di cognizione devono guardare al fatto nella fase esecutiva alla persona c'è sempre la solita discussione il magistrato di sorveglianza che il magistrato della persona e tante ancora discussioni su questo però di sicuro la fase di cognizione è sul fatto di reato noi spostiamo completamente quando parliamo di folli rei invece e poi chiediamo le perizie e si apre diciamo questo processo nel processo che è diverso che è speciale e in quanto tale secondo me profondamente gravato da aporie e da problematiche noi passiamo da un giudizio sul fatto di reato a un giudizio sulla persona fatta in fase di cognizione è un problema enorme a cui dobbiamo diciamo quantomeno immaginarci una composizione secondo me difficilissima c'è il concetto ancora che oggi che ieri era meno ma oggi grazie a ben rimesso al centro della questione il concetto di pericolosità sociale altro problema enorme se noi prendiamo la pericolosità sociale scardiniamo completamente il sistema della nella polifunzionalità della pena della rieducazione del tendere insomma della tendenziale rieducazione che è la prima prospettiva a cui deve tendere la pena chiaramente ci siamo ben costruiti la strada perché abbiamo detto non è pena è misura di sicurezza e quindi ci togliamo con un colpo di coda e quindi in maniera anche destra con destrezza ma secondo me in maniera profondamente lesiva dei diritti e qui dobbiamo discutere quanto sia costituzionale questa operazione e purtroppo lo è di fatto ma insomma discutiamo anche della costituzione allora e perché guardate che è fortemente sbilanciata sul piano della retribuzione più bieca la misura di sicurezza la pericolosità sociale valutata secondo e guardate anche qui si potrebbero aprire spiragli di discussione che non si chiudono più cos'è la pericolosità sociale ma insomma la pericolosità sociale è un meccanismo che noi ce ne liberiamo ce ne laviamo le mani perché diciamo non è pena e quindi non c'entra più non dobbiamo più andare a vedere il problema dell'educazione però di fatto fa rientrare la misura di sicurezza in una tunnel di mera e pura difesa sociale problema enorme ci dobbiamo e anche qui ne abbiamo discusso già ne ha discusso la Corte Costituzionale va messo a sistema tutto questo e probabilmente noi dobbiamo valorizzare esattamente questo punto quando discutiamo della legge poi un altro punto e finisco un punto che secondo me Serena Franchi Catia Poneti Chiara Babetto il gruppo insomma Donne e Carcere di Nato proprio in costanza diciamo di nome Garante di Franco diranno magari meglio più compiutamente di me però una ricerca in realtà un progetto di un po' di anni fa della finanziata dalla Commissione Europea ma portata avanti dal DAPS anticonsolo quindi parliamo di un DAPS di un bel po' di tempo fa ha fatto un lavoro sul carcere di Dozza e varie altre carceri ha studiato l'incidenza della malattia mentale sulla popolazione detenuta l'incidenza della malattia mentale sulla popolazione detenuta femminile in particolare per quanto riguarda la malattia mentale scollegata dall'uso di sostanze è estremamente sovrarrappresentato e qui c'è un dato secondo me interessantissimo ma insomma anche qui lo do ma non se ne discute tra la popolazione detenuta donna e italiana perché sulle sulle straniere invece si abbassa quindi anche qui ci sarebbe da discutere detto questo ci impone questa semplice riflessione i dati non sono neutri ma questo insomma è abbastanza bello pesante come dato ci impone una riflessione anche sulla questione femminile e sulla questione di genere perché il dato non è mai stato raccolto ma io per frequentarle molto credo che nelle sezioni transgender che sono sicuramente una residualità residualissima marginalissima e quindi ce ne frega poco perché i numeri hanno un grande peso nelle nostre parte anche giustamente tra i transgender questa percentuale probabilmente si amplia però sempre governata da quel meccanismo di ribilanciamento del fatto che sono tutte straniere quindi ma non sono proprio ci hanno problemi mentali ci hanno solo tanto il fatto di essere straniere dipendenti e transgender comunque il punto centrale è proprio questo secondo me e quindi rintroduco anche la prospettiva di genere ma secondo me la riflessione va fatta va portata avanti sulla legge ma riprendendo tutti questi punti punti che voi avete detto ieri e parlando e rimettendo in discussione il concetto di follia e come noi vediamo la follia prima a livello di società di comunità e poi a livello giuridico e qui io riprenderei Shendon e unirei il penale e il civile perché io credo veramente che la riflessione di Shendon sulla interdizione e l'inabilitazione e l'introduzione dell'amministrazione di sostegno sia un discorso che è stato poi oggi molto insomma un po' come dire lasciato ma i penalisti lo devono riprendere perché le riflessioni di Shendon sulla amministrazione di sostegno secondo me sono sul piano della dignità interessantissime e importantissime per il penale novello sentiamo Pellegrini Pellegrini si si sono vi ascolto molto volentieri voi non so ma la mia riflessione è un po' questa cioè io sono molto d'accordo sul discorso di comprendere oggi come nelle persone senza disturbi mentali conclamati avviene l'esecuzione della pena e cioè qual è effettivamente la risposta che noi diamo come società alle persone che hanno commesso un reato quindi qual è l'effettivo l'effettiva articolazione in carcere fuori dalle carcere che viene dato alle persone che appunto commettono un reato questo credo sia uno dei punti di partenza anche per affrontare alcune tematiche perché adesso diceva la collega ci si interroga oggi su cos'è il disturbo mentale e com'è il rapporto fra i disturbi mentali e i comportamenti violenti e i reati e oggi soprattutto intorno al tema della configurazione sia del suicidio ma anche degli aciti eteroaggressivi c'è una diversa concettualizzazione che si incendrano non tanto sul mero funzionamento mentale del singolo quanto invece sull'insieme delle dinamiche relazionali e sociali che ci sono in questa chiave infatti sono leggibili i principali problemi che oggi abbiamo di fronte pensate alla questione dei femminicidi che solo in una minoranza di casi vedono le persone con disturbi mentali conclamati ma pensate allo stalker ai reati sessuali alle questioni di psicopatia che pongono sempre di più la necessità di interventi e psichiatrici e psicologici e sociali combinati insieme ma che non mettono in discussione l'idea nella stragrande maggioranza dei casi che queste persone che commettono questi reati non siano imputabili allora il punto è da qua che dobbiamo un po' riprenderlo perché anziché solo interrogarci su il fatto dell'imputabilità e poi di creare il doppio binario spesso sulla base appunto di perizie la cui qualità è stata già sottolineata ma è obiettivamente e oggettivamente molto difficile tra l'altro le difese in questi anni hanno cercato di ampliare il discorso della non imputabilità non a caso anche i disturbi di personalità con la sentenza a raso del 2005 sono anche loro entrati quindi noi siamo di fronte a una situazione contraddittoria cioè da un lato diciamo che serve la responsabilità serve la dignità serve confrontare la persona con quel che ha fatto perché questo è inevitabile io non ho visto un paziente psichiatrico anche grave che non avesse consapevolezza di quello che è successo di quello che quali sono state le conseguenze il reato è dentro la persona ci fa i conti il fatto che poi non sia sanzionato e entra in questo limbo di trattamento anche in REMS non lo aiuta non l'aiuta bisogna che senta l'idea che c'è una sanzione anche sociale deve fare i conti con questo a maggior ragione appunto le persone che vanno trattate e vanno trattate anche con un insieme di interventi a mio avviso combinati insieme quindi giustamente l'idea è come eseguire la pena qual è il significato oggi della pena e quali sono gli strumenti che vengono messi in campo per eseguirla correttamente secondo le finalità della Costituzione allora guardiamo anche lo stato del web guardiamo lo stato della magistratura di sorveglianza guardiamo la distanza che esiste a volte fra i servizi di salute mentale o dipendenze patologiche e questa è articolazione della giustizia la sollecitazione che ha dato anche due volte il Consiglio Superiore della Magistratura se non diviene norma di lavorare insieme di andare oltre un po' le buone pratiche locali deve diventare norma va costruito un nuovo strumento che sia collegiale se vogliamo uscire dall'idea del singolo che decide un po' tutto che sia il perito che lo fa per conto proprio o che sia il giudice in quanto perito dei periti poco importa bisogna cambiare l'ottica e fare di questo un lavoro gruppale che prendi in mano le diverse situazioni e allora di comprendere come fare e ricordava giustamente Grazia Zuffa prima il percorso di cura è un percorso difficile doloroso faticoso non è un discorso semplice e non va collegato alla diciamo così alla pena la pena è una cosa il trattamento rieducativo riabilitativo è un altro pezzo e un altro pezzo è la cura e la cura è un punto estremamente delicato confondere questi tre livelli questi potranno casomai cercare di convivere e di articolarsi meglio insieme ma non possono essere l'uno il sostituto dell'altro e tantomeno l'uno delegato all'altro quindi il passaggio a mio avviso dell'idea di renderle persone imputabili perché questo è un diritto fa parte è una svolta è una svolta radicale ma importantissima a mio avviso è spostare sull'esecuzione della cura della pena con l'integrazione di cura la pena stessa nella sua funzione retributiva e quella diciamo di reintegrazione di riabilitazione di reintusione sono questi i passi passi che devono avere poi degli strumenti perché farlo solo in teoria o farlo solo senza il diritto perché il diritto della dignità io sono d'accordissimo ma intanto mettiamoci il diritto fondamentale dell'avere una cittadinanza avere una cittadinanza è l'elemento di base che a volte blocca tutti i processi nei detenuti processi evolutivi perché nessuno si occupa più sul piano sociale di quella persona non c'è un comune non c'è un ente non c'è nessuno questa è una situazione che va risolta drasticamente insieme ai diritti della persona altrimenti finiamo con non poter agire su un elemento fondamentale l'altro tema è avere degli strumenti operativi adesso c'è il recovery fund c'è lo stato dei dipartimenti ma io aggiungo anche lo stato dell'UEPE lo stato della magistratura di sorveglianza e la necessità che in questi percorsi entri decisamente in maniera sistematica la rappresentanza della società civile e dell'utenza è un passo fondamentale questo che noi dobbiamo pretendere perché ci sia un cambio di paradigme compreso l'ingresso di nuovo degli enti locali che avevano un ruolo fondamentale nella 180 e che non ce l'hanno con l'81 e che l'hanno via via perduto per poi recuperarlo in senso meno evolutivo di fronte alle situazioni che si determinano allora per questo dico il recovery fund va costruito e vanno messi a disposizione di queste articolazioni nuove per l'esecuzione della pena e della cura degli strumenti concreti che sia analogica sia lavoro che sia formazione che sia una capacità di essere nella comunità con una dotazione adeguata altrimenti lavorare e fare dei trattamenti specifici perché anche questo la cultura e la conoscenza è andata avanti allora ci sono esperienze di trattamento degli stalker ci sono esperienze di trattamento specifico e di cure più specifiche quanto attiene i reati sessuali la psicopatia e via di seguito e lavorare molto in termini preventivi perché il tema dei femminicidi delle violenze qui c'era il tema del codice rosso che consente già ancora prima della pena già in fase iniziale alle forze dell'ordine al questore di indicare un trattamento allora all'autore di reato e di proteggere la vittima le potenziali vittime e sappiamo bene che c'è una parte molto lunga spesso molto lunga di relazioni problematiche prima del fatto reato allora preceduto ma da reati meno gravi ma comunque molto impietanti e lo stesso riguarda con i minori eccetera allora chiudo qua perché non voglio non voglio allungarmi troppo ma credo che il passaggio del riconoscimento dell'imputabilità del riconoscimento dei diritti e della dignità ma a partire dal diritto di cittadinanza una diversa legislazione sulle dipendenze e l'utilizzo di strumenti che davvero consentano di vedere per tutti qual è la qualità della pena e come questa si articola pena trattamento e cura con un insieme di strumenti effettivi e governati in termini gruppali istituzionalmente non si può continuare con questa separazione fra un pezzo e l'altro pezzo e poi magari avere decisioni che davvero dipendono a volte hanno la stessa probabilità del lancio della monetina insomma cioè il cadere di qua o di là diventa una condizione che non è determinata da un'analisi approfondita da una condivisione dei rischi benefici perché noi dobbiamo sapere che ci sono dei rischi ci sono dei rischi per le persone ma ci sono anche dei benefici che vengono ad essere realizzati eccetera allora questo insieme mettendoci appunto delle risorse che la questione oggi del recovery fund e del trattamento di queste situazioni può davvero dare una svolta a queste cose grazie grazie Pietro Bruno Mellano e poi Novello Mellano perché non è intervenuto ieri intanto ringrazio la società della ragione Franco grazie a tutti per l'occasione di queste riflessioni di questo confronto poche idee confuse ma credo che sia una confusione interessante e feconda e comunque piena di spunti anche per l'azione quotidiana di un garante dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale come sono io in Piemonte l'ultimo intervento di Pellegrina ha introdotto una fascia di detenuti di cui volevo portare qui una riflessione e mi sembra che non era ancora stata citata che era quella dei sex offender perché in effetti è interessante di là della prospettiva più profonda e giuridica e politica io sono ovviamente molto preoccupato di quella è la situazione attuale nelle carceri e anche in quelle fasce di detenzione dove sia per sensibilità sociale e di opinione pubblica sex offender sono una categoria su cui chiunque parli si pensa che il carcere sia un luogo giusto per punire e per recuperare noi sappiamo che l'esperienza piemontese con prima cinque adesso tre sezioni sex offender sono sezioni in cui non si fa nulla non c'è nulla se non qualche intervento sporadico finanziato da fondazioni bancarie o progetti spot che tendenzialmente poi hanno durata breve e grande difficoltà ad essere rinnovate dove persone che per fortuna sono state intercettate magari in una fase iniziale una fase di stalkeraggio che diventa un primo reato significativo e finiscono in carcere e hanno condanne medio brevi vengono sostanzialmente lasciate lì a marcire a inacidire a aggravare una lettura psicopatologica della loro condizione dei loro rapporti magari con la famiglia con la moglie con il vicino di casa che l'ha denunciato allora c'è un problema di capire che risposta adesso e in prospettiva può dare il sistema penale e obiettivamente se prendiamo gli esempi anche quelli dei tossicodipendenti noi io credo che dobbiamo avere la forza di una riconsiderazione di quello che è stato dalla 309 del 90 e all'apertura di percorsi anche molto significativi a quello che è diventata la realtà attuale noi abbiamo delle realtà per quelle che conosco io in cui i CERT sono in balia del magistrato di sorveglianza cioè non presentano magari neanche le istanze legate a una presenza in comunità perché tanto sanno che il magistrato dice di no oppure è la famiglia è l'avvocato è la rete sociale quando esiste del detenuto che o l'avvocato che si fa parte attiva e trova le relazioni costruisce le relazioni per quel detenuto privilegiato che riesce a ottenere misure alternative e affidamento quindi è una realtà molto di ombra veniva in mente un altro caso specifico Torino al di là delle difficoltà diciamo transeunti di questi ultimi mesi è una realtà penitenziaria che ha negli anni sfornato molte anche sperimentazioni innovative per esempio c'è una sperimentazione attiva da anni sui detenuti HIV positivi il Prometeo nata con grande entusiasmo 15 anni fa se si va adesso a vedere quella sezione di 45 50 detenuti è un ghetto è un ghetto è forse uno dei posti più brutti del carcere di Torino e la sanità penitenziaria cioè la sanità regionale penitenziaria ha grandissima difficoltà a farsi carico di progetti innovativi che erano partiti magari sull'onda la banda dei positivi che continuava a fare furti e rapine in banca e si sono attrezzati per una cosa innovativa e significativa finita l'attenzione finita la crisi che aveva spinto finiti i soldi è diventata una cosa inguardabile quindi abbiamo vabbè parliamo dei trans o di altre situazioni specifiche abbiamo una fotografia veramente deprimente della situazione detto questo però sono abbastanza convinto che il momento sia utile e necessario per una riflessione per una ripartenza per una ideazione di qualcosa di nuovo che parta dall'esperienza che abbiamo maturato in questi anni con il superamento degli OPG e la nascita delle REMS però è inutile negare che la questione si misura poi molto su l'impegno finanziario economico che si può puntare su queste progettualità in Piemonte lo sa bene Franco che ne è stato protagonista abbiamo una realtà che per molti aspetti era pessima non c'erano OPG quindi sostanzialmente i pazienti erano tranquillamente collocati a Barcellona Pozzo di Gotto a Castiglione di Estiviere a Montelupo Fiorentino comunque lontano da tutti dai servizi dai familiari dai magistrati e il Piemonte anche causa elezioni regionali anticipate indecisioni e cambiamenti di di prospettiva poi alla fine non è riuscita a individuare una sede per costruire una REMS e ha ottenuto la possibilità di avere delle REMS 2 provvisorie in convenzione col privato la soluzione per quanto discutibile in prospettiva ha però permesso alla regione di avere un significativo budget che ha speso nei progetti di recupero e di reinserimento cioè noi abbiamo numeri molto significativi di persone che sono transitate nelle REMS e sono uscite dalle REMS per andare in comunità in alloggio in appartamenti comunque in situazioni custodiali molto più affievolite perché la regione è riuscita a finanziare i servizi territoriali mettendo dei soldi cash sui progetti e i soldi sono finiti quindi insomma il nostro problema è in questa fase riuscire a capire come usare questa esperienza anche qui con luce d'ombre ma secondo me significativa dove gli operatori almeno una parte erano molto diciamo appassionati a questa nuova sfida e quindi appassionati ad una idea di capire come intervenire su questo terreno e cercare di individuare una soluzione che ne faccia sistema tenendo conto che la pressione ancora adesso della magistratura sia di sorveglianza che di merito è nel collocare le persone con misura di REMS e quindi c'è la pressione su le famose liste d'attesa che però sfrondate dai provvisori e dai collocamenti impropri non è neanche grandissima per il Piemonte io ho chiesto proprio qualche giorno fa una verifica e mi parlavano di sette persone per carità sette detenuti che dovrebbero essere in REMS non sono pochi ma in molti casi non sono neanche detenuti sono sul territorio quindi diciamo con qualche problematica ma potrebbe non essere neanche una soluzione così così cattiva rispetto al rischio magari allora è importante secondo me riflettere su questo perché dobbiamo trovare una soluzione che ci permetta almeno a stabilizzare e a rafforzare le risposte che le REMS hanno impostato con il territorio e con il rafforzamento dei servizi territoriali ma dall'altro punto di vista secondo me andiamo a cogliere riflettendo riaccendendo i fari su questa questione tutto il disagio invece crescente nelle carceri con il disagio psichico e con il disagio mentale che nelle carceri è indubbiamente lievitato in questi anni lievitato rispetto ai detenuti e lievitato anche rispetto agli operatori cioè il numero dei suicidi fra gli agenti di polizia penitenziaria ci segnala che non è certo un ambiente ideale per riuscire a impostare positivi percorsi di recupero di rinserimento di cura le articolazioni psichiatriche in carcere che cosa siano non si sa bene questo è il vero problema noi su Torino abbiamo il famoso Sestante che quindi è un progetto di eccellenza nazionale su cui da quattro anni la Corte Europea ci dice che è in situazioni logistiche intollerabili in bagno a vista le celle sono veramente pessime pessime adesso con l'ultima visita con questo chiudo del nuovo capo del DAP del sottosegretario Giorgi insomma tutto il movimento che c'è stato un po' in questo periodo hanno deciso che faranno degli interventi e quindi dalla camera col bagno a vista e l'osservazione con le telecamere 24 ore su 24 si sdoppieranno due telecamere una per la stanza una per il bagno ma il bagno sarà chiuso insomma questa è anche la logica penitenziaria che su me dobbiamo scardinare e secondo me un margine di manovra e di forza un grimaldello che possiamo utilizzare è il disagio crescento dell'amministrazione degli operatori dell'amministrazione che si trovano in qualche modo a mani nude ad affrontare un disagio che è veramente palese in alcune sezioni delle nostre carcere è evidente che c'è qualcosa che non va che è malsano che non dà risposte e secondo me l'esempio dei sex offender è eclatante noi abbiamo in Piemonte 250 persone che sono lì qualcuno per reati gravi e gravissimi ma molti la gran parte per reati ancora forse per sempre relativamente gravi ma che sono potenzialmente delle bombe inesplose su cui non facciamo nulla non si fa nulla l'amministrazione e l'amministrazione sanitaria regionale non riesce a costruire progetti e questo potrebbe essere una delle contraddizioni secondo me da far esplodere per riuscire a riaccendere una fiammella di responsabilità in chi ha la responsabilità della gestione grazie Mario Novello ho capito bene 250 sex offenders in Piemonte adesso non so i dati della Toscana ma credo che siamo vicini ai 200 80 a sollicciano e 80 a prato credo comunque questa qui non siamo siamo su una questione che forse per il carcere ma anche per la salute mentale richiede un'attenzione che non c'è vorrei portare alcuni punti più secchi possibili spero almeno allora la prima è come psichiatra anche per chiarire il senso delle parole che si usano i disturbi mentali sono tanti sono tanto diversi hanno diverse intensità diversi profili quindi è un po' parlarne in termini generici per l'organizzazione mondiale della sanità il 25% di noi nel corso della vita ha un episodio psichiatrico rilevante quindi quando si parla in questo contesto dei disturbi mentali va abbastanza precisato e chi e come in rapporto a cosa lo precisa c'è stato poi un altro equivoco che mi pare emerga qualche volta anche qui è che ci sia una sorta di rapporto diretto fra disturbo mentale ammettiamo pure che sia grave e l'incapacità il che non è ma non è soltanto così per alcuni periti illuminati ma perché quanto meno dal 2005 la famosa sentenza a raso ha dichiarato cioè ha confermato quello che insomma è stato confermato mille volte che ci deve essere un rapporto fra il disturbo mentale e la commissione del reato perché se il rapporto non c'è è una persona ha un disturbo mentale ma è totalmente imputabile ugualmente tantissime volte forse adesso pongo l'altro problema delle aree geografiche è abbastanza normale concludere che una persona ha un disturbo mentale però quel disturbo non c'entra con il reato e quindi pienamente imputabile è abbastanza pacifico nelle latitudini in cui lavoriamo noi così come e quindi riprendo il tema delle diversità dei luoghi e delle esperienze e delle storie così come ad esempio nella nostra regione per la maggior parte dei giudici che una persona sia dichiarata incapace di intendere di volere è una cosa inaccettabile al 98% quindi l'incapacità come momento giudiziario è una cosa veramente straordinaria e eccezionale che oggi è già superata come dicevo ieri dalla riforma dell'articolo 71 del codice di procedura penale dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2015 allora così come ci sono anche accordi formalizzati per la presenza dei dipartimenti di salute mentale nelle carceri questo non è che risolve tutti i problemi non è che non ci siano problemi anzi problemi ce ne sono però di fatto i servizi sono normalmente in carcere con progetti con progetti possibili o con progetti impossibili oppure se non ce la fanno senza progetti ci sono tante storie anche seguite nel tempo di un intreccio fra carcere giudici servizi perizie ce ne sono tantissime per cui non è tutto risolto però di fatto è così allora sentendo poi vedendo come dicevo prima anche incontrando altre persone sembra che ci siano in Italia dei luoghi che sono esattamente l'opposto di questo allora un ragionamento che almeno io faccio è noi abbiamo cercato in vari modi di perseguire un cambiamento di visione partendo dalla lotta al manicomio e da quello che significava e partendo dal fatto che il codice Rocco è stato emanato nel 1930 con delle finalità ben precise che sono fra l'altro magnificamente espresse se non le conoscete le trovo dopo nella sentenza del 2005 dove appunto si dice qual era la logica proprio riporta le parole del guarda sigilli nella presentazione del codice Rocco proprio a proposito della capacità di intendere di volere e viene espresso qual era la finalità del proprio detto esplicitamente del regime fascista rispetto a certi tipi di devianza poi siccome invece noi siamo in una democrazia con la costituzione i cambiamenti sono avvenuti in questi decenni attraverso esperienze attraverso cambiamenti culturali e attraverso soprattutto sentenze della corte costituzionale però ci si trova ad un punto in cui il codice Rocco è sempre il codice Rocco è stato ampiamente in alcuni punti almeno modificato però è sempre un po' una specie di pasticcio allora da un punto di vista pratico poi sono stati aboliti gli ospedali giudiziari quindi sono state tolte le remore come diceva anche qualcuno ieri ma come dicono molti all'invie cioè la conclusione da parte dei periti di incapacità così per diciamo per il chiamiamolo fra virgolette pudore timore di mandare le persone nei vecchi OPG adesso invece si è allargato allora il problema è nel momento in cui la Corte Costituzionale la Corte di Cassazione del Consiglio Superiore della Magistratura tutti dicono che c'è un eccessivo ricorso all'incapacità di intendere e di volere e siccome sul piano culturale non si riesce a modificare questo oggi secondo me l'unica cosa è veramente abolire l'articolo 88 poi però perché perché si toglie il pretesto di concludere con un'incapacità allora e poi tutto il resto secondo me è da così un po' mettere a fuoco perché appunto come in parte anche state facendo credo che comunque sia un lavoro abbastanza difficile io sarei un po' più attento all'abolizione dell'articolo 89 perché secondo me potrebbe essere riscritto e rielaborato e in funzione di quest'ultima cosa che dico cioè nel senso che va bene fare allora già l'abolizione dell'articolo 88 secondo me sarebbe veramente una rivoluzione che produce degli effetti che in parte si possono prevedere in parte no comunque bisogna preparare tutta una serie di percorsi però sarebbe veramente una grandissima rivoluzione tenendo conto che comunque alle critiche di chi dice che poi ci sono persone che stanno veramente male c'è l'articolo 71 riformato del codice di procedura penale che può sciogliere i piccoli nodi residui e quindi tutto questo perché lo dico perché presentare un progetto che sia anche troppo articolato anche molto articolato e molto complesso tenuto conto che ci sono posizioni diverse che hanno legittimità di esistere sia a livello politico che a livello tecnico giudiziario eccetera potrebbe avere grandi difficoltà a passare mentre se è una norma semplice che si diciamo che trova la base sui pareri della corte costituzionale e della corte di cassazione e del consiglio superiore della magistratura quindi raccoglie cioè visto che non si riesce a far fare meno giudizi di incapacità per ragioni varie e diverse ai periti in fondo anche la magistratura dice ne fate troppi ma non riuscite a non farli togliamo lo strumento per cui potete farli e si ricomincia da un'altra base questo è anche perché poi c'è questo problema su cui credo che noi dell'esperienza basagliana triestino ci dobbiamo molto interrogare sulla trasformazione sulla destitualizzazione delle visioni e delle culture ad esempio la sentenza raso del 2005 sentenza criticabilissima per tanti motivi ma che ha allargato i disturbi di personalità diciamo le infermità giuridicamente rilevanti per l'incapacità allora la motivazione è che siccome cioè diciamo la ragione di fondo è che siccome erano cambiati i criteri di classificazione con i DSM vari eccetera allora siccome alcuni diciamo disturbi che prima erano inseriti nelle psicose sono state messe nei disturbi di personalità allora hanno detto che alcuni disturbi di personalità molto gravi che possono in qualche modo cadere dentro la psicosi hanno rilevanza sapete cosa mi è stato detto da un ex direttore di Castiglione di Stiviere poco tempo dopo mi ha detto con questa sentenza qui per forza che siamo pieni perché sono stati dichiarati rilevanti disturbi di personalità e quindi ogni volta che c'è un disturbo di personalità noi dichiariamo l'incapacità che è un corto circuito da un punto di vista mentale culturale professionale tecnico specifico assurdo che poi si può leggere da un altro lato per cui i tossicodipendenti che sono particolarmente rompiscatole e i quali un disturbo di personalità non si nega mai in questo modo entrano nel circuito delle misure di sicurezza questo è un po' il grazie l'unica cosa non ci hai detto perché vorresti mantenere l'89 però però se ce lo dici in un secondo lo dico perché io dico non mantenerlo così ho detto bisognerebbe rielaborarlo e modificarlo perché primo in fondo già dice che la persona con disturbo mentale è imputabile quindi non occorre che lo dica qualcuno è già scritto nel codice secondo diciamo in automatico influisce sulla entità della pena in modo schematico cioè un terzo quindi una taglia di small e una taglia medium di vestito che deve andare bene per tutti insomma qualunque potrebbe essere articolato in modo diverso questo poi il tema della pericolosità è un tema su cui si dovrebbe discutere ma qui adesso non ce la faccio però in ogni caso anche nell'articolo 89 l'eventuale misura di sicurezza è prevista dopo una verifica alla fine dell'esecuzione della pena quindi mi pare che assomiglia abbastanza cioè andrebbe secondo me un po' modificato però è quello che corrisponde di più a una situazione in cui altri che potrebbero non essere d'accordo sull'impianto generale potrebbero invece trovare un accordo perché in fondo si dice da un lato che la persona con disturbo mentale è imputabile dall'altro che però bisogna vedere articolare il come l'entità della pena e il come della pena perché devo dire che molti giudici adesso anche chiedono nella perizia come potrebbe essere poi è chiaro che se una persona ha fatto tre omicidi e una cosa se una persona ha rubato una bicicletta è ben diverso in questo senso per quella che è la mia esperienza io penso che sia pur variata te l'ho chiesto perché Giulia sta seguendo tutte queste proposte e dovremo poi capire allora ha chiesto la parola Mimmo Passione Stefania Amato allora mentre vieni qua leggo un messaggio di Stefano Anastasia sono in un posto di connessioni precarie quindi scrivo quello a cui ho pensato ascoltandovi ieri pomeriggio è vero la riforma dell'imputabilità marcia insieme con il potenziamento dei servizi psichiatrici in carcere e sul territorio e con una battaglia politico-culturale da rifare contro la istituzionalizzazione della malattia mentale in nome della pericolosità sociale ciò detto si tratta delle stesse cose da fare per salvare le REMS dalla tentazione diffusa di farne dei nuovi piccoli OPG dunque combattiamo per salvare le REMS e combattiamo per poterne fare a meno attraverso la riforma dell'imputabilità credo sia chiaro il pensiero di Stefano Anastasia e lo ringraziamo comunque di averci dato questa suggestione Stefania Amato intanto dico un po' per tutti questa questione della presenza delle REMS in Friuli Venezia Giulia ci sono sei posti REMS in questo momento addirittura due sono chiusi a Trieste quindi sono quattro ci sono comunque dei problemi ma questo il tema che dovrebbe essere affrontato dall'organismo nazionale dovrebbe essere quello anche di ragionare su quali equilibri ci sono per cui non c'è un criterio identico sul territorio nazionale sei posti per un milione di abitanti e invece in altre regioni il numero è enormemente più dilatato allora questo dovrebbe essere un ragionamento da fare per capire se ci può essere una base diversa di intervento sì allora da avvocato sto ascoltando con grande interesse e attenzione quello che viene detto in questa sala a partire da ieri e devo dire anche con una certa ansia perché questa proposta che è bella e giusta che mi sento di condividere profondamente però in qualche modo scuote certe convinzioni sedimentate che per gente come me che deve assistere talvolta persone con patologie psichiatriche usa perché c'è un problema c'è un problema di fondo sebbene si registri almeno io lo vedo talvolta nel rapporto di difesa dell'avvocato con l'assistito di questo tipo lo vedo vicende anche che ho visto recentemente una specie di paternalismo difensivo qui si è parlato di necessità di responsabilizzare di evitare il paternalismo infantilizzante nei rispetti di queste persone nel senso però c'è uno uno scopo e una ragione per cui il difensore prende la via dell'incapacità della non imputabilità che è molto banale che è quello di evitare l'ergastolo pensiamo alle vicende gravi per i reati di sangue insomma quando ti trovi a dover affrontare una richiesta di questo tipo da parte di un pubblico ministero che sai che arriverà ci pensi a quella strada e hai anche un'aspettativa da parte della famiglia da parte del tuo stesso assistito dell'imputato anche se ti poni il problema di tutto quello che ciò comporta e allora ricollegandomi a quello che diceva Novello diceva l'89 sì non abolirlo però magari ripensarlo perché mi chiedo non pensare a una diminuente di pena per esempio ma non collegato ovviamente al vizio parziale di mente che incide sull'imputabilità ma semplicemente al fatto che se la persona commette il reato abbiamo abolito il doppio binario quindi non c'è più quella prospettiva però è pur sempre una persona che è diversa dall'ubriaco che si mette alla guida della macchina e commette il reato da non capace di intendere volere perché molto banalmente non ci si è messo lui in quella situazione ci parlavano all'università dell'Azio Libera in causa mi metto al volante ubriaco vengo punito per quello perché per la mia scelta pregressa non tanto per quello che faccio poi nel momento quindi il malato non l'ha scelto di essere malato e quindi così mi ponevo l'interrogativo se non si possa pensare a una modulazione della pena proprio per il fatto del reato commesso da persona in quella particolare situazione c'è la diminuente per la minore età una cosa del genere tra le varie suggestioni poi che ho sentito e anche questo è un pensiero che mi si sta formando in testa cerco di esprimere lo vedo se riesco a farmi capire allora si vuol fare una rivoluzione si vuol portare un vento di novità bisogna fare i conti con i venti contrari è già stato evocato qua questo tema e noi ci troviamo in una situazione in cui negli ultimi anni perché lo introducono le difese nei processi soprattutto per reati gravi ma perché c'è anche una sensibilità crescente della giurisprudenza su questi temi abbiamo sentito si usa questa formula l'irruzione delle neuroscienze nel processo penale quindi tutto quell'ambito che si sta muovendo la genetica comportamentale e quant'altro le tecniche di brain imaging i danni cerebrali che causano la patologia e tutto questo finché erano le sentenze di merito come Trieste quelle famose che tutti conosciamo va bene adesso si vede che anche la Cassazione sta iniziando a prendere a volte quella strada con cautela con tutto ma io leggevo per esempio c'è quella sentenza del 2018 della prima sezione sul caso di Sora vicino a Frosinone era un omicidio di una povera insegnante che era andata a far jogging che incappa in questa persona che la uccide poi commette anche atti di vilipendio del cadavere e la Cassazione lì ricepisce anche se non è la ragione unica per cui poi dichiara il vizio parziale di mente però la prospettiva lì c'era l'imputato che aveva subito un incidente stradale gravissimo vent'anni prima con un danno al lobo frontale del cervello e quindi che aveva causato un'epilessia e poi comunque pare un cambiamento adesso io uso terminologia scusatemi molto a tecnica però caratteriale quindi la persona era diventata violenta incapace di reagire di controllare gli istinti e quindi commette il reato si trova il nesso le perizie lo dicono e quindi la corte d'appello prima e poi la Cassazione c'era stato di corso dalle parti civili accoglie questa prospettiva tant'è che c'è un articolo interessante mi pare su diritto penale uomo del professor Basile che parla di un nuovo Phineas Gage che era quel minatore che era nell'800 in Dermonte era saltato sulla dinamite gli si era conficcata la barra di metallo nel cervello e da lì aveva cambiato carattere era diventato da lavoratore indefesso bravissima persona e pacata era diventato un violento un dissoluto e il suo cervello ho letto è stato studiato per anni rispetto a questo tema del danno cerebrale che aveva causato questo quindi voglio dire questi aspetti che è una prospettiva la più deresponsabilizzante che c'è sei nato così hai la lele sbagliato oppure ti è capitato l'incidente non è colpa tua quindi assolutamente esci dal circuito penale vai per la tua strada in altro modo è esattamente l'opposto di quello di cui stiamo parlando adesso e se ne deve tenere conto bisogna considerare che la giurisprudenza si sta muovendo anche su questo su questo versante l'ultimissima cosa che volevo dire è stato evocato prima la filosofa del diritto non io sono tremenda non mi ricordo mai però ecco Sofia scusami il tema dell'autodeterminazione della dignità che io vedo anche collegato con quello della volontarietà della cura che mi sembra fosse uno dei punti di Cecconi ieri in esordio questa è la prima cosa devo dire che ho pensato quando ho letto il testo della proposta cioè si dice se ho preso bene l'appunto fino a che punto si può spingere l'intervento del magistrato che dispone il ricovero in una struttura di cura quindi con un piano terapeutico individualizzato senza diventare un TSO io ho letto che la prospettiva è quella ovviamente in esecuzione la misura alternativa la chiede il detenuto la chiede l'interessato e ovviamente muove da lui ma leggo anche che per la misura cautelare si ipotizza che su istanza dell'imputato il giudice dispone la custodia cautelare in luogo di cura in luogo di cura e allora ragionando da pratica che vede quello che succede nel colloquio con l'assistito quando tu gli prospetti la possibilità e non è dissimile già stato detto dal problema col tossicodipendente quindi c'è questa possibilità tu vai e quante volte c'è la negazione la non volontarietà gli dice no no perché a realtà io lì non ci vado perché bisogna anche spiegarle poi le cose alle persone e allora cosa succede e allora mi tremano le vene dei porsi se penso che la persona che non aderisce volontariamente non gli può essere imposto per ovvi motivi resta lì conoscendo come Antonella Calcaterra la situazione attuale delle nostre articolazioni psichiatriche nelle carcere e quello che viene fatto secondo me c'è addirittura a monte un problema anche solo di diagnosi non è che sempre le persone che entrano in carcere magari arrestate per aver commesso il reato erano conosciute ai servizi territoriali ci può essere subito un agganciamento e quindi c'è una cartella c'è qualcosa entrano e poi allora c'è uno psichiatra parlo della mia realtà di Brescia l'unico su due istituti che una volta forse al mese forse ogni due mesi riesce a fare il colloquio conoscitivo e veramente tremo a pensare a cosa accade poi se effettivamente c'è nella situazione che viviamo noi adesso la possibilità che questa persona sia presa in carico come dovrebbe essere e quindi è una cosa molto banale quella che sto dicendo però bisogna che pensiamo con che realtà concreta abbiamo a che fare ragionandoci e anche se resto convinta che sia una proposta assolutamente da sostenere e anch'io sono convinta del fatto che proprio perché di là c'è questo orizzonte che avanza con la prospettiva opposta di cui parlavo prima anche nella giurisprudenza bisogna evitare che avanzi troppo che si consolidi e agire in prevenzione diciamo così e quindi mi sento di sostenerla in modo convinto bene mi pare che si immaginano cose importanti passione poi raccogliamo un po' di richieste di intervento e poi avevamo detto verso mezzogiorno ci fermiamo un quarto d'ora e poi allora provo a offrire qualche piccolo contributo un po' più meditato anche di tipo pratico però vorrei dire brevissimamente alcune cose sono assolutamente d'accordo sul fatto che preoccuparsi di un contesto culturale politico all'orizzonte o già presente o futuro come diciamo fattore impedente o condizionante la proposta di riforma non abbia senso prima di tutto perché mi chiedo quale scenario positivo si prospetta all'orizzonte probabilmente domani la regione dove io Franco e tanti altri qui viviamo diventerà speriamo di no ma insomma la Cercardi si profila come governatore della Toscana quindi diciamo se dovessi pensare a questo vabbè parliamone dopodomani comunque domani l'altro quindi bisogna provarci anche perché credo che il compito di chi fa politica noi facciamo politica sia anche quello di stimolare cioè io non mi sentirei a posto con me stesso se attendessi che l'arrivo di qualcuno che mi dice cosa devo fare comincerà a me e poi si vede e tuttavia bisogna preoccuparsi e quindi quello che dico adesso può sembrare contraddittorio rispetto alla premessa del fatto che noi non possiamo pensare per quanto bravi e Leo Fiorentini disponga di tutte le tecnologie dell'universo mondo di veicolare queste cose che ci diciamo qui a chi domani le raccoglie e si convince delle nostre buone ragioni per la ragione che siamo pochi e che siamo soprattutto un numero non solo numericamente non rappresentativo come è evidente ma per esempio manca la magistratura qui non c'è un magistrato mancano i servizi manca una parte di mondo che va assolutamente coinvolta in questa riforma quando è entrata in migliora la legge 67 2014 che fra le altre cose ha introdotto la messa alla prova gli UEPE per dire si sono trovati di fronte a un cambio di paradigma completo perché loro ragionavano in maniera reocentrica perché si occupavano di misure alternative si sono dovuti occupare di persone presunte innocenti come una predisposizione di programmi di intervento per carità più leggeri eccetera eccetera che però implicava per loro proprio un cambio di paradigma ci hanno messo del tempo adesso la mappa funziona bene i numeri sono impressionanti quindi secondo me se posso questa è la mia personal opinione proviamoci ma ecco se io dovessi dire questo testo che adesso provo a fornire a Giulia anche qualche piccola annotazione di merito se posso dire così una l'anticipata Stefania sono assolutamente d'accordo che andrebbe prevista una diminuente ma solo legata ferma alla responsabilità ma andrebbe prevista però bisogna militare su alcune cose le dico random si prevede la modifica dell'articolo 111 del regolamento articolazione per la salute mentale in realtà ma non è una questione di come dire collocazione qua o là però quello che andrebbe semmai riformato è l'articolo 65 dell'ordinamento in commissione ministeriale noi avevamo scritto sempre nell'ambito della delega che quella doveva avere esclusiva gestione sanitaria che è già qualcosa qui io leggo e la tassatività va all'altro mondo gli operatori professionali che svolgono la loro attività nelle articolazioni per la salute mentale sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze del trattamento dei soggetti che però non vuol dire nulla cioè da un punto di vista della indicazione è chiara però poi o è una norma di principio come è pieno il mondo oppure non vuol dire assolutamente nulla perché allora bisogna vuol dire intervenire e riformare per esempio il meccanismo di selezione delle persone che lavorano in questo posto che deve essere di esclusiva gestione sanitaria e va scritto un'altra cosa è che noi se pensiamo a una pena e poi pensiamo alle misure intanto bisogna chiarire qual è la pena e quali sono le misure c'ha ragione Antonella cioè alla fine quel problema rientra né mi convince se non ho capito male quello che diceva prima Sara stabilire il tipo di trattamento in articolazione e per evitare il rischio dell'eterogenesi dei fini introdurre una certificazione di bisogno una sorta del genere di cosa del genere da parte dei servizi però i bisogni sono plurimi sono diversi non può essere che un servizio fa una certificazione di bisogno né può essere assimilabile a quello che diceva Grazia la certificazione di tossicodipendenza che ti consente di accedere al 94 perché lì la fai col capello la fai con l'autorichiarazione la fai con un esame più approfondito però si può dire che c'è quella situazione di tossicodipendenza se io sono matto come Franco Corleone sono cose diverse è chiaro che non c'è può essere una certificazione di follia in quei termini lì e quindi è molto più difficile predisporre un progetto di cura che va pensato e quindi la riforma ovviamente non può che coinvolgere una riforma dei servizi una riforma delle REMS e va scritta una relazione di accompagnamento che spiega che la gente ne vuole di più di REMS improvvisamente si dice nessuno è pericoloso le chiudiamo tutte e questa cosa non fa neanche a tempo a essere veicolata a qualche matto che la prende in considerazione quindi è chiaro che una relazione deve essere una relazione particolarmente avvertita e poi c'è una cosa quando parliamo di pena e poi di misure poiché evidentemente di nuovo c'ha ragione Stefania quando diceva si deve evitare l'improprio TSO cautelare e anche questo in commissione noi l'abbiamo scritto in tutte le salse perché non può essere che un giudice timpone la cura pena al mantenimento in carcere però bisogna capire se noi stiamo immaginando un sistema bifasico o lo lasciamo così cioè se noi diciamo pena perché è responsabilizzante e poi io che faccio l'avvocato mi trovo a difendere una persona che rischia l'ergastolo e quindi devo pensare a come allora se so che il giudice scriverà una pena devo sapere che c'è una prospettiva di cura che sta disegnata nella prospettiva di riforma dell'articolo 13 47 sezies che non pone limiti di accesso a quelle misure anche terapeutiche anche se si menziona anche il 47 perché devo sapere se il giudice mi dirà sei ora la dico male ma per capirsi sei matto ma sei responsabile vai in galera poi vediamo o se mi dice anni 24 e io poi devo avere una possibilità di accesso alla cura che mi consenta di evitare di fare anni 24 ma non di evitare per lo sgamotto perché però non può essere che la prospettiva è anni 24 quindi intanto diminuiamo la pena per le ragioni che ha indicato Stefano e poi una volta che l'abbiamo diminuita dobbiamo metterci d'accordo se il giudice scriverà sei responsabile ti condanno e dispongo l'accesso alle misure di quel 47 sezies o 16 anni 24 e poi si sta a vedere perché se anni 24 e poi si sta a vedere è chiaro che questa cosa va riscritta completamente e va riscritta prevedendo un coinvolgimento assoluto ma assoluto se no è il rischio assoluto cioè io una roba del genere che non prevedesse una relazione strutturata un accompagnamento che coinvolge tutti gli attori di queste vicende io non mi sentirei di sottoscriverla perché vuol dire al punto in cui siamo lo raccontavo a Giovanni a colazione stamattina io ho avuto un carteggio con il direttore di un DSM di Bari che ha detto io l'ho minacciato l'ho intimidito semplicemente perché gli ho ricordato che doveva fare il medico e non occuparsi di questioni giuridiche ma farlo davvero i DSM devono andare in galera non ci vanno devono andare negli OPG non ci vanno o coinvolgiamo territorio e carcere in un lavoro di rivoluzione vera delle cose di cui stiamo parlando oppure questa cosa che è bellissima e che diciamo sovverte paradigmi a cui siamo abituati da troppo tempo e che dovremmo levarci di mezzo però rischia davvero di essere solo pericolosa quindi la mia banalissima proposta è diciamo coinvolgere mica l'universo mondo però o almeno tentare di coinvolgere come si fa nei tribunali dove ci sono protocolli operativi noi a Firenze l'abbiamo fatto ma ce ne sono in tante altre parti in Lombardia ci sono e Antonella e Stefania lo sanno benissimo coinvolgere qualcuno che possa farsi come dire buon seminatore a casa sua di quello che vogliamo fare però una rappresentanza dei vari attori delle varie agenzie coinvolte in questa cosa va fatta altrimenti davvero rischiamo un salto nel vuoto caro avvocato com'è sensibile no adesso ha chiesto Evelyn Tavormina poi credo che sì adesso allora facciamo sì allora intanto dico che ha mandato un messaggio Riccardo Maggi che è deputato con cui lavoriamo su molti terreni e dice che ha provato a collegarsi ma è in treno e cade la connessione e gli dispiace però ci comunica che lui è interessato e disponibile a lavorare e a depositare la proposta di legge e a cercare di trovare un sostegno parlamentare più ampio ma quindi diciamo che il lavoro finito il seminario sarà quello di lavorare su un testo condiviso forte e poi decidere le tappe da fare allora mi pare che c'è Evelyn Tavormina Giovanna del Giudice poi volevo chiedere a Katia se vuole intervenire su questi spunti che ci sono stati di punti specifici insomma alcuni sollevati dagli interventi che abbiamo visto poi probabilmente possiamo fermarci con questi primi interventi subito dopo Evelyn Evelyn Noi pensavamo di arrivare adesso fare fino a mezzogiorno questi tre interventi sospendere dieci minuti e poi riprendere fino a l'una e mezza va bene allora Evelyn No prima di Katia per gli spunti tecnici solo questo va bene ok allora io vi ringrazio tutti per gli spunti che avete dato in queste due giornate veramente ricche dirò delle cose molto pratiche forse banali però questa legge secondo me è una proposta di legge molto buona però è rischiosa molto rischiosa perché bisogna non bisogna dare per scondata alcune cose noi dobbiamo avere presente la sorveglianza che c'è noi abbiamo una sorveglianza che è una persona tossicodipendente che fa un percorso di affidamento esemplare revoca l'affidamento perché ha dei controlli urinari positivi bassissimi ero in uomane da 25 anni ha dei tassi bassissimi dico può essere un successo non lo è la sorveglianza che abbiamo tra l'altro non una delle peggiori perché si tratta della sorveglianza di Firenze revoca la misura noi abbiamo una sorveglianza che rinnova la libertà vigilata con informazione di polizia del 2017 e relazione dei servizi e salute mentale del 2018 noi abbiamo una sorveglianza che rinnova libertà vigilata sul territorio perché è una persona che non ha documenti ed è in Italia da 13 anni non ha nessuna prospettiva di renterimento sociale questo è un problema sociale non è un problema di pericolosità sociale noi abbiamo una sorveglianza che ha una persona in affidamento per un reato commesso nel 2009 con condanna di due mesi per aver rubato uno champagne al supermercato per andare a pranzo con i suoceri la rimette in carcere quindi sospende poi l'affidamento quindi l'ufficio di sorveglianza sospende l'affidamento perché i carabinieri suonano al campanello la persona che ha problemi di ansia altissimi prende psicofarmaci per dormire non apre il portone sospende allarme sociale zero perché è un reato del 2009 perché ha rubato uno champagne incensurato cioè questo primo e unico reato abbiamo un Uepe io lavoro all'Uepe seguo persone in libertà vigilata delle strutture intermedie che non è pronto se deve gestire delle misure alternative per persone con problematiche psichiatriche non è pronto deve essere preparato perché per ora le libertà vigilate fino ad ora sono completamente in mano ai sanitari la parte sociale che è molto importante secondo me è assente perché non ci sono risorse il servizio di salute mentale ci va ogni tanto a trovare queste persone poi si tratta di persone che hanno fatto magari tutta la trafila OPG REMS strutture intermedie quando arrivano le strutture intermedie e poi devono passare anche nelle comunità terapeutiche loro sanno benissimo che hanno delle scadenze perché ad esempio le querce hanno entro 18 mesi la persona deve andare via qual è il rischio il rischio è che questa persona ha rinnovi e proroghe infinite di queste libertà vigilate e continua a fare il pacco postale come succede in carcere lo sappiamo da una struttura all'altra senza avere prospettive per un motivo o per l'altro quindi bisogna avere presente con che tipo di sorveglianza si lavora perché poi qual è il rischio il rischio è che una persona non segue dei progetti delle prescrizioni che ci sono scritte sull'ordinanza l'ordinanza viene revocata magari va a finire in carcere il carcere non è meglio ieri è stata detta anche questa cosa non è assolutamente meglio rispetto a una struttura intermedia rispetto alla comunità terapeutica certo queste magari sono peggio delle remse dal punto di vista trattamentale ma sicuramente meglio del carcere dell'articolazione psichiatrica che ci sono oggi in carcere quindi bisogna stare attenti perché se le cose rimangono così e la persona per una minima cosa per una minima prescrizione non rispettata in ordinanza rischia di andare in carcere cioè è proprio rischioso ecco io penso questa cosa altro punto rispetto alla libertà vigilata diciamo il legislatore con la legge 81 ha posto fine alle proroghe infinite rispetto alle libertà vigilate alle misure di sicurezza detentive non l'ha fatto con le misure di sicurezza non detentive ed è un problema grandissimo perché noi abbiamo sul territorio liberi vigilati che da anni e anni si trovano in questa situazione senza poter fare nulla assolutamente nulla per cambiare questa situazione qui i servizi li vedono periodicamente danno una terapia scrivono rinnovano praticamente cambiano sulle relazioni la data è come se il quadro fosse assolutamente mutato perché non si prendono la responsabilità di dire guardate questa persona tutto sommato adesso potrebbe anche come dire ci potrebbe essere diciamo anche far capire che ci sono ci sono stati dei miglioramenti e quindi allargare far vedere diciamo che non sarebbe nemmeno tanto utile rinnovare la prorogare la misura di sicurezza questo i servizi dicono non è compito mio è compito dei periti però a decidere il magistrato e quindi si va a finire di nuovo lì quindi una buonissima proposta rischia di di non portare al risultato che vogliamo per tutta questa serie di di problematiche di mancanza proprio culturale per poter affrontare questa sfida perché è una sfida anche per l'Uepe anche per l'Uepe soprattutto grazie 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 a Zuffa questi problemi che emergono libertà vigilate cioè noi abbiamo tutti la libertà ma poi c'è la semilibertà poi c'è la libertà vigilata e gli aggettivi secondo me pesano più del sostantivo una brevissima precisazione io ho ragionato sull'esperienza fatta sulle tossicodipendenze ma vorrei chiarire che non sto parlando di qualcosa di diverso da quello di cui si discute ora sto parlando semplicemente di un'esperienza che è partita prima che in questo senso poteva dare lezioni apprese teniamo presente che nella gran parte delle regioni non voglio qui dare un giudizio dico solo un dato di fatto nella gran parte delle regioni i servizi delle dipendenze stanno nel dipartimento salute mentale non solo il disturbo da uso di sostanze psicoattive così come ora lo classifica il DSM-5 vede perlomeno in molte REMS una buona fase di soggetti che hanno questo diagnosi insieme in genere a un disturbo di personalità come veniva detto quindi e in molti appunto adesso non voglio prendere tempo ma insomma fanno anche in qualche modo un ragionamento su questo rispetto alla certificazione non è proprio vero che la certificazione di tossicodipendenza debba limitarsi al fatto dell'analisi dell'eurino analisi del capello su questo a suo tempo è stata fatta una battaglia per dire no bisogna fare una valutazione che tenga presente anche degli elementi psicosociali certo diciamo che nel non so come dire nella questione delle dipendenze c'è sotto l'idea che sia la dipendenza la causa del reato anche se questo in qualche modo non è esplicitato e in questo sì che c'è un'analogia con altri tipi di disturbi in qualche modo non viene esplicitato che allora questo vuol dire che era incapace di intendere di volere e quindi non è imputabile per il reato cioè però c'è sotto la cultura che sia la malattia giusto appunto della dipendenza che gli fa commettere il reato con tutta una serie naturalmente non mi ripeto quello che ho detto prima non so come dire ma da un punto di vista diciamo della certificazione secondo me i servizi potrebbero fare benissimo perché non devono più certificare che la persona è incapace di intendere e di volere devono certificare che ha un disturbo per cui è auspicabile che sia curato sul territorio che è altra cosa da dire è un disturbo che è collegato al reato no va bene il reato in qualche modo però c'è questo disturbo e vediamo dove può essere curato meglio quindi da questo punto di vista è la stessa cosa allora Antonella Calca va beh allora Katia un punto e poi Giovanna del giudice e chiudiamo per una pausa di ok allora io diciamo mi soffermerei su due cose fondamentali la prima l'impostazione diciamo io dagli interventi di stamattina ho trovato un criterio definitorio che è quello che a livello teorico ha evidenziato prima Sofia l'autodeterminazione l'autodeterminazione come espressione della dignità della persona Sofia si riferiva alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani quanto nella persona malata di mente resta di autodeterminazione e quanto questa autodeterminazione può essere tenuta in considerazione e valorizzata nel nel sistema giuridico e nella e nella cura di questa persona tenere anche insieme il sistema civile e quello penale quindi quelle quei contesti in cui la persona con patologia mentale si trova a vedere in qualche modo limitata la propria libertà in ragione della sua patologia e trovare una coerenza tra sistema civile e sistema penale sappiamo che ci sono gli istituti della tutela dell'amministrazione di sostegno e non sempre troviamo delle diciamo dell'armonia tra questi diversi istituti anche Amato riprendeva questo discorso dell'autodeterminazione proponendola proprio come un diciamo un baluardo nei confronti dell'avanzare delle neuroscienze ecco quindi io credo che l'autodeterminazione come criterio portante come centro intorno al quale si articola il discorso della riforma credo che la potremmo prendere la potremmo tenere come nostro punto fermo e come filo conduttore ecco del nostro discorso l'altra questione importante su cui molti hanno posto l'accento è invece quella del pericolo degli eventuali possibili forze probabili effetti negativi di questa riforma qual è il pericolo il pericolo è quello di una ripresa di centralità del carcere e è un pericolo che viene prospettato a partire da tutta una serie di considerazioni fondate sulla pratica quindi a partire da pericoli reali pericoli visti per come funzionano le udienze in tribunale per come funzionano o come non funziona il collegamento tra magistratura e servizi e per come funzionano i servizi sociali nell'esecuzione penitenziaria quindi sono problemi e pericoli reali credo che a partire da questi noi dovremmo integrare la proposta di legge suggerendo un percorso che sia più chiaro e definito cioè se noi immaginiamo che la persona affetta da patologia mentale sia imputabile e quindi venga condannata dobbiamo immaginare anche oltre alla misura alternativa che abbiamo inserito nella proposta di legge forse un percorso più chiaro e definito che segue alla condanna quindi un percorso che c'è nel momento in cui la persona viene ritenuta per cui si ritiene necessario applicare la custodia cautelare allora immaginare le varie ipotesi che si possono verificare e immaginare poi anche il percorso successivo nel momento in cui appunto si arriva poi alla condanna definitiva sono state fatte le ipotesi della diminuente che può essere appunto una soluzione da valutare e da introdurre nella proposta già nella proposta è stata messa la misura alternativa possiamo come suggeriva Grazia ulteriormente lavorare su questa cosa pensando a se deve esserci una certificazione come deve essere fatta questa certificazione da chi e lavorare su questo aspetto dando delle indicazioni su questo e poi un altro punto importante mi sembra quello di dare un posto alle REMS all'interno di questa proposta di riforma cioè le REMS sono appunto l'esperienza nata negli ultimi anni esperienza positiva positiva chiaramente non in relazione a un ideale ma in relazione al modello precedente un'esperienza che ha messo in pratica diciamo ha fatto nascere approcci differenti quindi un'esperienza che dovrebbe essere valorizzata e che è il reale quindi questo reale dovrebbe in qualche modo vedere una ricollocazione all'interno di una proposta che si va a immaginare questo per dare a questa proposta anche un maggiore senso di continuità in relazione alla situazione presente e in relazione proprio al percorso di superamento degli OPG che ci ha portato a questo punto e che come diceva Franco prima rende adesso più realistico pensare a riproporre l'abolizione dell'imputabilità perché già c'è stato il superamento degli OPG già c'è stato l'introduzione di un limite massimo di durata alla misura detentiva quindi abbiamo fatto dei passi avanti che ci fanno percepire come meno utopistica l'ipotesi dell'abolizione dell'imputabilità quindi non lo so io quello che vedo è di cercare di lavorare anche nel dettaglio cercando di scrivere proprio delle proposte e magari mettersi a discutere perché poi spesso quando si scrivono le cose magari ci vengono in mente anche quei dettagli che prima avevamo in mente ma in modo diciamo un po' più generico questo Giovanna io porro alcune cose nello spirito così che ieri avevo descritto di discutere di porre alcune questioni alla discussione e riprendo alcuni ragionamenti alcune suggestioni che sono state fatte questa mattina anche perché alcune cose non mi sono chiare ecco una prima questione molto si gioca sull'esecuzione della pena la questione delle articolazioni della salute mentale in carcere ecco oggi si è detto siamo ritornati ieri oggi molte volte su questo argomento ma secondo me non ci sono chiarezze a che cosa ci riferiamo è stato fatto stamattina nella bella introduzione di Franco che ha ripreso tutte le questioni una distinzione tra articolazione della salute mentale e sezioni psichiatriche ecco io non ho chiaro ma forse una mia ignoranza sicuramente sarà una mia ignoranza perché in realtà io faccio riferimento credo che le articolazioni fanno riferimento e nascono dall'allegato A del DPCM del 1 aprile 2008 e anche stamattina prima mi sono collegata leggendolo velocemente non so fare due cose alla volta in realtà lo stesso allegato A parla di sezioni e articolazioni nello stesso modo e definisce una cosa molto chiara e che era appunto ne discutevamo anche ieri e so bassa io se altro non è colpa mia se c'è una discriminazione nei confronti delle donne basse allora dicevo che allora e queste queste articolazioni sono totalmente da da essere attivate e gestite dal dipartimento di salute mentale delle ASL quindi che poi sono una schifezza e io non posso non avere in testa Barcellona Pozzo di Gotto che veramente ecco allora ci dovrebbe fare fare delle riflessioni sia su quali dipartimenti esistono tema posto con molta calore da Antonella quali dipartimenti oggi esistono in Italia e l'altra questione e quindi la qualità dell'assistenza psichiatrica territoriale e l'altra questione è veramente dobbiamo ricercare anche nel carcere per le persone con problemi di salute mentale luoghi separati e il garante del Piemonte Bruno vabbè diciamo Bruno più facile Bruno faceva riferimento a questa sezione Prometeo e diceva è diventato un ghetto più ghetto di tutti allora non so bene a cosa si riferisce ma ho l'esperienza di 50 anni di lavoro che proprio quando facciamo cose speciali diventano sempre dei ghetti quindi io pongo all'attenzione mia prima di tutto ma di tutti noi questo tema delle articolazioni salute mentale in carcere primo seconda questione sempre sulla questione della esecuzione della pena ribadisco e credo che appunto grazie a oggi l'ha ripreso noi dobbiamo mettere al centro una questione se la persona a partire dalle sue condizioni di salute salute psichica in questo caso non può stare in carcere noi dobbiamo mettere al centro l'opzione presa in carico della persona nel territorio non nelle comunità nelle residenze ma dobbiamo allora io credo che questa questione su cui io sono un po' ossessiva me ne rendo conto è una questione centrale in particolare se noi oggi come è stato detto varie volte in questi due giorni vogliamo attraverso anche questa proposta rilanciare il tema della salute mentale e oggi secondo me dopo dopo l'epidemia del covid abbiamo forse anche qualche chance in più di essere ascoltati io ho questa speranza insomma la parola prossimità di cui ci delizia da qualche giorno il nostro ministro speranza è una questione è una parola che c'è cara allude ai luoghi naturali di vita delle persone dove deve essere dove solo si può articolare la cura e quindi io ci starei io su questo dico come possiamo sottolineare questo aspetto poi l'altra questione riprendo un po' ma appunto non sapevo bene quello che ha detto Katia ora sull'erenza dobbiamo ragionarci se è come le sette stiamo a mezz'ora è forte vabbè forse si sente lo stesso però no ecco allora sull'erenza io se do un giudizio positivo sulla legge 81 sono meno entusiasta delle REMS sono molto meno entusiasta quindi faccio una distinzione sempre fra alcune cose che sono state veramente emancipative rispetto all'OPG e la struttura REMS che è e rischia di essere sempre di più un luogo separato segregato e non proprio che si rappresenta come luogo della limitazione del diritto della limitazione dell'autodeterminazione come luogo della coercizione anche fisicamente porte chiuse sbarre e così via quindi tendenzialmente così ci sono esempi virtuosi ma sono veramente pochi allora però questo ragionamento sulle REMS che appunto seguo quello che ha detto Cauda Katia deve essere approfondito però deve anche farci ricordare che le REMS hanno un budget molto importante e quindi il problema come riconvertire quel budget per le REMS in risorse per progetti semmai territoriali o quant'altro quindi se noi non dobbiamo soltanto ricercare soldi perché i soldi per le REMS ci sono ci sono e non sono finiti perché sono ad infiniti vabbè e questo è un altro tema di riflessione io sto ponendo questioni non sto dando soluzioni l'altra questione ma credo che abbiamo che ho già detto ieri è dove collochiamo questo lavoro come colleghiamo questo lavoro allo sforzo che stiamo facendo più generale sui temi del lavoro territoriale e del lavoro di salute mentale territoriale questo che in questo momento deve trovare la convergenza di varie forze e quindi io credo che noi dobbiamo immaginare ora oltre forse anche però non è una cosa da poco l'osservatorio che si potrà fare a livello ministeriale per la continuazione del processo superamento dell'OPG dobbiamo pensare come rilanciare anche fra la nostra gente voglio dire questa tematica questo tema questi ragionamenti perché dobbiamo riscaldare un po' i motori per permettere poi di avere di poter anche avviare una discussione che non sia fra pochi a ca va detto basta io finito bene ci rivediamo fra un quarto d'ora per l'ultimo rush novello vieni che dovevi dire una cosa così possiamo riniziare sì sì ma intanto lui deve mettere appunto la macchina siamo pronti chiedo a lui ah tu sei apposta allora vediamo se se arrivano dovremmo chiamarmi dal terraccio dal balcone dal balcone e se no gli anni non sono in realtà la macchina lo prende il tanto questo non viene il tempo è bene perché allora io ho fatto la città però ho la 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 Grazie. Ci siamo, stanno arrivando gli ultimi. Novello. Io abuso della vostra pazienza, ma volevo richiamare in due parole quello che aveva detto prima Franco Corleone sulle REMS nel Friuli Venezia Giulia. Cioè sono sei posti in tre sedi diverse e è una specie di sperimentazione per cui non vengono accolte persone in lista d'attesa in altre regioni nonostante ci sia un gioco di pressioni per farle arrivare. Però sono lo specchio di un sistema in cui l'incapacità di intendere e di volere nell'amministrazione della giustizia complessiva di fatto non esiste. Perché la maggior parte delle poche persone che sono nelle REMS e non tutti i letti sono occupati, per la maggior parte provengono da altre regioni, cioè dichiarate incapaci da altri tribunali, di altre regioni, che però hanno la residenza nella regione Friuli Venezia Giulia. Quindi è un sistema, cioè esprime in modo coerente quello che è l'impianto complessivo. La cosa che a me fa straniare è che, se non è che siamo sulla luna, siamo nella stessa Repubblica Italiana con le stesse leggi e quindi in luoghi diversi, con storie e processi diversi, possono essere presenti realtà diverse. Quindi questa è una questione. L'altra, ed è incomprensibile se vogliamo, no? Certo che si può fare, il problema è che non si riesce a fare quello che dicevo prima. La sentenza del 2005 che dice una cosa che viene interpretata esattamente nell'opposto, per cui le REMS, quella volta erano ancora OPG, vengono alimentate e quindi si blocca il meccanismo a quel livello lì, se no non se ne esce. L'altra cosa è il discorso sollevato prima delle neuroscienze, che è un problema terribile, che evolve sottilmente negli anni. Adesso mi pare che la questione genetica della ricerca del DNA sia un po' meno di moda, mentre più di moda tutta la ricerca... Sono un po' negato. Sì, però sul piano, diciamo, della scena giudiziaria, adesso prevale di più l'aspetto ancora più tecnologico, perché poi è più difficilmente confutabile. Ci sono alcuni specialisti, appunto con i quali io ho a che fare anche in questi giorni, che premono per questo tipo di tecnologia che in sé non significa niente, perché non dimostra niente. Però questo, che cosa pone secondo me? Pone il problema che deve rimanere uno spazio tecnico, professionale, giuridico, giudiziario, non lo so, in cui ci sono, si confrontano posizioni di diverso tipo. Ed è possibile che ci sia un dibattito a questo livello, uno scontro a livello anche di processo, e quindi in cui tutti gli elementi vengono posti in essere dentro il sistema giustizia. Perché altrimenti cosa succede? Succede che quella è la scienza, la ricerca, adesso c'è l'enfasi della ricerca. Allora, la ricerca è una cosa, l'applicazione degli esiti della ricerca, soprattutto per quanto riguarda le scienze umane, o un euro, non so che cosa, un euro-psico, qualcosa, insomma, un conto è la ricerca, un conto è tradurre questo nella realtà della vita delle persone. E allora, se manca uno scontro, un dibattito, un confronto in qualche sede istituzionale, il rischio è che questa sia la scienza, e quindi il giudice si trovi, come è accaduto, l'altro giudice che io stimo moltissimo, che è caduto in questa trappola con la famosa sentenza di Trieste, dopo la quale siamo intervenuti noi, ci ha fatto intervenire noi, il rischio è che quindi questa sia la scienza a cui il giudice deve riferirsi, e quindi in mancanza di uno spazio in cui si può dibattere anche su questi livelli, il rischio, appunto, come dicevo ieri, questo è uno dei possibili automatismi che possono instaurarsi. Per cui, la ricerca mi dice che se una rotellina gira, secondo oggi, perché poi domani girerà nel senso contrario, perché si è affinata la ricerca, allora quella persona è incapace. Questo è un rischio molto grande che io vedo. Quindi, la necessità di mantenere, in qualche modo, degli spazi in cui è possibile un confronto fra posizioni diverse, e non è vero che tutte le posizioni sono uguali, ci sono posizioni più complesse, posizioni un po' più grossolane, e a un certo punto si deve venire fuori, e poi nella praticità della vita quotidiana, delle scelte che i giudici devono fare. Poi, tema affrontato dalla Bertolino in un articolo molto importante, su quali sono i fondamenti scientifici, sui quali il giudice può porre la base per fare delle scelte che dovrebbero avere una ragionevole certezza. Questo è un po'... Posso dire solo una cosa per intervenire? Diciamo che, se voi non gli altri cercano di fare documenti, non ci siamo mai riusciti, perché il problema è la parola di tanti, e la stessa cosa anche con il Comitato Nazionale... Vieni, vieni, qui perché deve essere registrato. Allora, dicevo, il problema del rapporto tra i giudici e la scienza è un problema antico, io mi ricordo un bellissimo convegno fatto a Firenze, internazionale, dove sono venuti fuori i problemi, ma non le possibili soluzioni. Lo stesso come Comitato Nazionale di Bioetica, tante volte abbiamo proposto di fare un parere su questi temi e non ci siamo riusciti. Cioè, è veramente complessissimo. Detto questo, io credo che sarebbe molto importante però anche discutere quello che stanno facendo oggi le neuroscienze. Noi abbiamo fatto tre documenti su questo, io ho fatto proprio uno sull'enhancement, facendo vedere come, al di là della lesione che puoi accertare, la lesione cerebrale, il resto è solo inferenza. Allora, i bias di partenza sono quelli che poi ti fanno arrivare a certi risultati, ma sono inferenziali, non c'è una base scientifica. Per questo, secondo me, andrebbe discusso. Non c'è nessuna radiografia del cervello, non c'è niente che ti può dire. Sono solo inferenze che fai partendo da delle ipotesi di partenza che ti riesci ovviamente poi a verificare in quel modo. Quindi questo era quello che volevo dire anche ieri. Cioè, la mia paura che oggi si ritorni a un discorso sulla pericolosità sociale su una base scientista che mette insieme sia la genetica che le neuroscienze. Perché guardate che oggi stanno lavorando molto insieme. Allora, questo è qualcosa su cui, secondo me, in prospettiva si dovrebbe intervenire. Mi pare che l'avesse detto Stefania Amato, che proprio questa irruzione delle neuroscienze ci deve spingere all'urgenza di questa riforma. Mi pare una notazione suggestiva e una ragione in più. Perché altrimenti, se stiamo fermi, il rischio è che ci sia una deriva scientista, come veniva detto, e altro che perizie di quelle usate dai periti che abbiamo conosciuto nei decenni scorsi, ma avremmo altre soluzioni. Allora, chi interventi ancora? Allora, Tamar Pitch, poi direi Giulia Melani e poi Stefano Cecconi. Forse c'è Pellegrini che è sempre collegato e forse vuole dire anche un'altra cosa. Però sentiamo. Però intanto Tamar. Ma intanto volevo ringraziare tutti perché ho imparato tante cose, era da tanto tempo che non toccavo queste faccende e adesso, come dire, mi sembra che sia una questione molto interessante e molto complessa. Le cose che dirò sono effettivamente però molto molto banali. Hanno a che vedere con quello che succede in quello che io chiamo il senso comune, la cultura generale, quello che succede o potrebbe succedere in quella che noi sociologi del diritto chiamiamo la cultura giuridica interna, ossia la cultura degli operatori giuridici. Da un lato, evidentemente, ancora nella cultura generale, però anche in quella della cultura giuridica interna, non è chiaro, è stato detto mille volte, è stato scritto mille volte, c'è anche dentro i mutamenti legislativi di questi ultimi decenni, però non è ancora, credo, dibattuto abbastanza la questione che non vi è un nesso, non vi è un nesso tra malattia mentale e reato. Questo nella cultura generale, nel senso comune, invece c'è questo nesso tra malattia mentale e reato. E non c'è neanche un nesso causale, diciamo, tra disturbo mentale e malattia mentale e incapacità di intendere e di volere. Come si diceva anche ieri e oggi, incapacità di intendere e di volere, tra l'altro, non è una diagnosi psichiatrica, non può essere, credo, una diagnosi psichiatrica. Non c'è un rapporto tra disturbo mentale e incapacità di intendere e volere. E questo ha anche a che vedere con quello che si diceva prima sulle neuroscienze, che se usino le neuroscienze o la genetica o invece la psichiatria tradizionale, comunque semplicemente non è accertabile un nesso fra queste due questioni. E dunque non c'è un nesso tra disturbo mentale e non imputabilità. E questo ha a che vedere, invece, molto con la cultura giuridica interna. Allora una proposta di legge di questo genere potrebbe dare adito a un rinnovato, perché non è mica la prima volta che si parla di queste cose, a un rinnovato dibattito su tutte queste questioni. Dall'altra parte però c'è la questione della pericolosità sociale, che di nuovo è molto importante a livello di senso comune, di cultura generale, se volete, specialmente oggi, in cui, come dire, soprattutto, non solo, ma anche con il protagonismo delle vittime dei reati, e quello che si chiede è punizione, vendetta, pena meritata, e così via, e così via, e qui ritornebbe il rischio, il rischio che si corre con una proposta di questo tipo, è non solo la ripresa della centralità del carcere, come diceva Katia, secondo me molto giustamente, ma ancora di più, va bene, mettiamo tutti in caccia, e gettiamo la chiave, e così siamo tutti più tranquilli e più sicuri. Questo secondo me è un rischio che si corre, quindi ci sono da un lato, sul piano culturale, dei guadagni che si possono fare con questa proposta, ossia rianimare e riprendere il dibattito su queste questioni, che secondo me oggi è tornato molto indietro, cioè, tu citavi, non mi ricordo chi riportava il caso di quel ragazzo che ha ucciso il nonno e poi è stato invece liberato, sì, questo è degli anni 70, oggi non lo so che cosa gli farebbero a questo qua, va bene. Poi, naturalmente, ci sono questioni che hanno anche... 2005? 2005? Ah, io credo che fossero gli anni 70, allora mi taccio, non lo so. Evidentemente non ci sono state proteste da parte dei parenti del nonno o qualcosa di questo genere qui, perché invece questo è quello che accade. D'altra parte dobbiamo anche stare molto attenti, perché da un certo punto di vista un certo protagonismo delle vittime è non solo comprensibile, ma anche auspicabile. Penso, per esempio, a quelli che lui, prima Bruno parlava dei sex offenders. Molti di questi sex offenders, mi immagino io, hanno attentato o hanno commesso reati nei confronti di donne, bambini, eccetera, eccetera, e quindi questo, insomma, va un attimo tenuto presente. L'ultimissima cosa, di nuovo, che mi è venuta in mente adesso, sulla questione del rapporto tra scienza e diritto, o ancora meglio, tra scienza e giudice. Noi vediamo che chi si occupa di diritto di famiglia, di problemi che hanno a che vedere anche con la violenza degli uomini, dei maschi, dei padri nei confronti delle madri e così via, si scontra con il fatto che vengono affidate sempre di più le decisioni alla perizia tecnica. alla perizia tecnica, la decisione del giudice, il giudice non prende la decisione, la affida alla perizia tecnica, magari, appunto, queste perizie evocano una cosa che pare non esista, che è la PAS, la sindrome di alienazione parentale, e, come dire, e quindi si mettono in rischio non soltanto le donne che denunciano, ma anche i minori, i bambini e le bambine, che, appunto, viene deciso che devono avere, di che devono conservare due genitori, anche quello che è stato magari violento, e che, se non ci vogliono andare, è perché, come dice la perizia tecnica, soffrono di alienazione parentale causata dall'altro genitore. Cioè, perlomeno, per quello che riguarda questo ambito qua, a me pare molto chiaro che ci sia una vera e propria abdicazione del giudice al suo ruolo, che dovrebbe essere quello, appunto, di perito speritorum. Quindi, prendere una decisione, certamente si può anche affidare, può anche chiedere una perizia tecnica, ma la perizia tecnica non può essere la base su cui, l'unica base su cui fonda il suo giudizio. Invece lo fa, perché è più comodo così, evidentemente. Allora, Stefano, prima Giulia e poi te. Giulia. Allora, intanto ringrazio tutte e tutti per i tantissimi spunti di questi due giorni. Ho cercato di raggruppare, diciamo, le suggestioni che sono emerse in tre macro categorie di suggestioni. Diciamo, il primo gruppo si riferisce, diciamo, all'opzione di fondo e quindi alle questioni teoriche che sostengono la scelta che abbiamo proposto. L'altra ha questioni di opportunità in questo momento storico e anche a questioni, diciamo, che riguardano un contesto un po' più ampio rispetto a quello solo relativo alla nostra proposta. L'altra sono vari, diciamo, accorgimenti puntuali su cui dobbiamo discutere, lavorare e su cui magari converrà a fare, non so, un gruppo di lavoro per rivedere puntualmente alcuni elementi che probabilmente necessitano una revisione e un ripensamento anche più puntuale. Parto quindi dalla prima categoria di questioni. Sono emerse in questi giorni, diciamo, anche alcune perplessità proprio sull'opzione di fondo. Parto da quello che emergeva ieri nell'intervento di Tamar Pitch rispetto alla possibilità, diciamo, di non toccare la non imputabilità ma eliminare comunque il doppio binario. Vi sono tutta una serie di paesi che hanno una non imputabilità ma effettivamente non hanno misure di sicurezza. In questo caso, se si decidesse di non toccare la non imputabilità ma di incidere solamente sulle misure di sicurezza, diciamo, la persona non subirebbe alcuna conseguenza penale. la persona giudicata non capace di intendere e di volere non subirebbe alcun tipo di conseguenza penale. La gran parte dei paesi che hanno un sistema di questo genere d'altra parte però non hanno, cioè dal punto di vista, diciamo, della struttura delle istituzioni psichiatriche non hanno le nostre previsioni e danno, dunque, delle istituzioni contenitive e, diciamo, dove la persona non finisce in carcere e non è giudicata imputabile, non subisce conseguenze penali ma finisce in un circuito manicomiale o istituzionale di altro genere. Credo che questa non sia assolutamente, ovviamente, tra le prospettive che nessuno di noi si augura e pensa, cioè, ovviamente, non è tra le prospettive che pensiamo e che, insomma, immaginiamo di poter portare avanti. Credo che una proposta come quella che faceva Tamar Pitch, cioè quella di non toccare l'imputabilità ma eliminare il doppio binario, potrebbe, da un certo punto di vista, condurre comunque ad effetti simili a quelli della nostra proposta perché credo che pochissimi giudici in mancanza di qualsiasi conseguenza penale sceglierebbero di giudicare la persona non capace di intendere e di volere. Cioè, sarebbe una responsabilità a quel punto molto grossa e credo che a quel punto veramente si potrebbe produrre l'effetto di pochissimi casi in cui la persona per quello che ad oggi viene chiamato vizio di mente viene giudicata non imputabile. L'altra opzione che emergeva e emergeva sempre ieri dal discorso dall'intervento di Tamar Pitch ma è riemersa a più battute e in più battute anche oggi è quella della biforcazione diciamo di una biforcazione netta del giudizio con un primo giudizio che diciamo non tenga che sia un giudizio sulla commissione del fatto che non tenga conto di altre dimensioni e poi un giudizio esecutivo in cui poi si stabilisca il quantum di pena il come della pena oltre che il quantum. Su questo io personalmente ho varie perplessità credo ma anche Tamar lo riportava ne abbiamo parlato poi dopo appunto ieri nel pomeriggio e lo riportava come un esempio che era stato oggetto di discussione ma appunto credo che dia luogo ad alcune possibili problematiche in particolare credo che rischi di produrre un effetto che quello che fa Sen in relazione ad altre diciamo questioni perché in relazione diciamo a elementi di diseguaglianza sociale analizza nel sistema francese rispetto appunto ritenendo che il sistema tenda a produrre una tenda a produrre una riproduzione delle diseguaglianze sociali in quanto diciamo elementi di diseguaglianza e del tessuto sociale non sono presi in considerazione nella fase di cognizione mentre sono presi in considerazione nella fase esecutiva e nella fase esecutiva evidentemente il disagio passatemi questo termine il disagio sociale produce un effetto deteriore per la persona che vive in una condizione di disagio rispetto alla persona che vive in una condizione più agiata con una rete sociale con un lavoro stabile e quant'altro credo che problematiche analoghe si potrebbero produrre se si pensasse appunto a questa opzione credo che da questo punto di vista sia molto interessante e credo questo si colleghi a quanto insomma un po' la discussione sulla possibilità di mantenere o meno l'articolo 89 e credo sia molto interessante quello che proponeva Stefania Amato spero di non avere sbagliato il nome credo sia molto interessante in quanto penso che pensare una modalità per tenere conto nella commisurazione della pena del disagio consentirebbe proprio di evitare questo effetto di riproduzione di alcune di alcuni disagi cioè di riproduzione di condizioni di diseguaglianza di partenza attraverso il processo fatto questo quadro forse un po' confuso mi scuso ma ho cercato di mettere insieme un po' di osservazioni passerei alle questioni relative all'opportunità di portare avanti questa proposta e relative diciamo al contesto sono molte mi sembra le questioni che sono venute fuori da questo punto di vista da un lato diciamo si evidenzia la possibilità e è emerso credo anche da quanto ieri Pellegrini osservava e dalle sue riflessioni diciamo il rischio che questa e di cui parlava anche Tamar Piccio nell'intervento che mi ha preceduto il rischio che questa proposta possa essere letta e possa favorire diciamo una idea della pena giustamente meritata quindi diciamo la persona affetta da un disturbo che commette un reato che venga chiusa in carcere insomma almeno poniamo un argine al problema che questa persona rappresenta ovviamente c'è questo rischio credo che questo possa magari essere questo possa essere un rischio ma possa essere un'opportunità in realtà nel senso che probabilmente facendo questa proposta abbiamo l'occasione di promuovere una serie di eventi in cui si parla di queste tematiche si cerca di incidere su questa che comunque quella della pena insomma just desert come direbbero negli Stati Uniti la pena che una persona merita probabilmente è una questione più generale che non riguarda solo il tema di cui oggi stiamo parlando ma è una questione molto più generale che riguarda la penalità in genere e forse quindi può essere un rischio ma può essere anche un'opportunità per riaffermare prospettive diverse sempre in relazione agli elementi di contesto ieri Piccione proponeva di accompagnare la riforma o fare diciamo precedere la proposta di riforma da alcune altre interventi e alcune altre iniziative tra l'altro Cecconi ci invitava ieri a cercare di coordinare anche questa battaglia con altre battaglie condotte non so dal forum salute mentale da più in generale da gli agenti che si occupano attivamente di salute mentale e credo da questo punto di vista ho cercato di raccogliere un pochino le varie suggestioni pensando diciamo ad alcune proposte ad alcune iniziative che potrebbero accompagnare non per forza ritardare la presentazione della nostra proposta ma accompagnarla si parla ieri Pellegrini avanzava la proposta di continuare ad insistere sulla necessità di uno stervatorio nazionale delle Rens Piccione ieri ci proponeva di riflettere sulla libertà vigilata e magari di porre dei correttivi relativi alla libertà vigilata si potrebbero proporre interventi in relazione alle misure di sicurezza provvisorie tutte cose che si potrebbero proporre per quella fase in cui magari questa riforma sarà oggetto di discussione di promozione magari sono interventi che si possono azioni che possono produrre risultato prima e nella fase preliminare e possono accompagnare probabilmente la nostra la nostra battaglia un altro di questi aspetti a cui peraltro tengo molto è quello a cui faceva riferimento Grazia prima cioè di intervenire e parlare anche delle misure di sicurezza per imputabili perché comunque noi con questa proposta andiamo a toccare le misure di sicurezza per non imputabili per vizio di mente ma il nostro codice ha un doppio binario che non è solo quello riservato ai non imputabili ma è anche il doppio binario della misura di sicurezza dell'imputabile che scontata la sua pena viene ritenuto pericoloso e sottoposto ad una misura di sicurezza quindi credo che probabilmente potremmo pensare un intervento anche su questo che potrebbe completare e rendere più omogeneo i risultati del nostro intervento su questo tema l'altra questione sempre relativa al contesto ma in un certo senso anche agli elementi puntuali su cui sarà necessario lavorare è quella di cosa facciamo dell'esperienza delle RENS su questo Katia proponeva di tenere conto delle esperienze delle REMS e magari di proporre una loro revisitazione non più come residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza ma come comunità in cui poter svolgere la misura alternativa che sarebbe prevista nel nostro progetto Giovanna del Giudice rilevava che ci sono però nella realtà delle REMS anche delle differenze che forse non vanno proprio prese per forza come un modello da salvare in toto ma ci sarebbero da fare delle osservazioni sulle varie realtà su questo io aggiungerei un aspetto non sono troppo convinta del diciamo trasformare le REMS nelle comunità in cui si andrà a svolgere la misura alternativa perché non vorrei che appunto passasse il messaggio che la misura alternativa è la misura di comunità e secondo me questo è un rischio che un pochino corriamo e che dobbiamo tenere in considerazione però forse questo è un aspetto su cui appunto si può lavorare magari invece potremmo pensare che il budget che oggi è destinato alle REMS forse potrebbe essere destinato ai dipartimenti per sviluppare dei progetti di vario genere che consentano di accedere a questa misura alternativa passo alle altre questioni quelle più puntuali che mi sembra siano emerse parto da una prima che è emersa ieri nell'intervento di Calcaterra quella del ruolo del perito che diciamo rientrerebbe nella nel gioco e nella dinamica uscito dalla porta rientrerebbe dalla finestra su questo credo e in parte era così che avevamo pensato il progetto però ovviamente è assolutamente da migliorare e da perfezionare da questo punto di vista lo avevamo pensato più sul modello di cui parlava Grazia diciamo delle misure per la tossicodipendenza quindi sarebbe il dipartimento di salute mentale che avrebbe la presa in carico della persona e che sarebbe chiamato ad esprimere anche la valutazione in relazione ai progetti alle possibili alternative altro punto che è emerso ieri e ora sulla semi imputabilità sul se lasciare o no la semi imputabilità credo appunto di aver già detto più o meno insomma i vari punti di vista emersi e quello che ritengo sarebbe quelli che ritengo sarebbero i rischi che potrebbero essere insiti e l'altro aspetto che è un po' un nodo cruciale è quello di come intervenire sulla assistenza delle persone con disagio psichico in carcere che è un problema che esiste anche oggi a prescindere da questa riforma a prescindere da dove cercheremo di dirigere di dirigerci con questa riforma perché comunque la popolazione penitenziaria ora le ricerche su questo sono molto varie rispetto ai numeri quindi non vi so dare una percentuale perché comunque adottano metodi diversi arrivano a conclusioni diverse però la percentuale di persone sofferenti psichiche presenti in carcere è comunque molto alta e quindi questo è un problema è un nodo da affrontare su questo come intervenire Franco all'inizio presentava la proposta di separare le sezioni psichiatriche da diciamo le articolazioni per la salute mentale e Giovanna del Giudice ci poneva appunto le perplessità di questo rispetto a questo tipo di approccio e a questa scelta devo dire che su come intervenire per diciamo rendere effettivi alcuni principi che sono già stabiliti relativi all'assistenza psichiatrica in carcere francamente io non ho nessuna idea e magari se avremo l'opportunità di lavorare in un gruppo di lavoro spero che possa essere un punto su cui riflettere e cercare appunto di capire come si può dal punto di vista normativo stimolare una effettività di alcuni dei principi che sono già oggi cioè le articolazioni per la salute mentale già oggi dovrebbero essere i dipartimenti dentro il carcere e probabilmente da quello che vediamo sia chi di noi appunto frequenta per ragioni professionali varie il carcere sia appunto per quelli che sono gli studi che associazioni come Antigone fanno costantemente sicuramente non è così le articolazioni per la salute mentale presentano notevoli problemi e probabilmente questo sarà uno dei punti su cui converrà ritornare a riflettere da alcune infine come ultimo aspetto poi sicuramente sono emerse anche tantissime altre questioni che in questo momento mi sfuggono ho cercato di tenere insieme il più possibile quello che è emerso l'altro aspetto che ci ponevamo anche ieri a cena con Franco è come garantire che la persona che ha un disagio psichico e vuole accedere a una misura alternativa effettivamente abbia la possibilità di essere seguito cioè quindi come rendere effettivo la presa in carico e la possibilità di fruire poi effettivamente della misura alternativa anche su questo credo che io francamente idee su come normativamente si possa affrontare questo aspetto non ne ho e credo anche su questo sarebbe necessario parlare probabilmente un aspetto cruciale è ribadire che questa riforma come è stata la legge 9 del 2012 non può essere una riforma a costo zero probabilmente e quindi dovremo pensare e su questo anche Pellegrini ha delle proposte che credo ha inviato e pensare a trovare dei fondi e ad avere una riforma che abbia un budget vi ringrazio e spero appunto che faremo un tavolo per poter parlare di tutte queste questioni grazie bene non hai risposto a un quesito di passione ma insomma lo riprenderemo allora io direi direi Stefano Cecconi con cui ci avviamo alla conclusione è stato bello stare insieme ma se Dio vuole a un certo punto dovremmo anche salutarci allora discussione molto interessante molto complicata perché stiamo trattando argomenti che lo sappiamo benissimo occupandoci di queste cose da molto tempo pur due versanti diversi che toccano sensibilità culturali in modo di sentire orientamenti dell'opinione pubblica assai assai diversi e molto sensibili peraltro io dividerò il mio intervento in due parti una concentrata brevissimamente sul come provare a consegnare anche alla luce dei contributi arrivati questa mattina l'ultimo della Melani come provare a consegnare alla discussione che c'è stata oggi a una possibile elaborazione di un'ipotesi di articolato che tenga conto di alcune sollecitazioni di alcune indicazioni non le percorrerò anche perché non ho le competenze specifiche tutte quante mi limito a pochissime osservazioni come dire a una sorta di orientamento forte che io penso debba avere la discussione dopo questo seminario primo stiamo trattando contemporaneamente una questione che è legata al superamento della logica manicomiale che trova nel doppio binario quindi nel trattamento speciale destinato solo ai folli rei l'ultima ma non definitiva peraltro perché altre ne sono rinate l'ultimo ostacolo l'ultimo muro da abbattere contemporaneamente facendo questo come è uscito chiaramente nella discussione non la sapevamo parliamo inevitabilmente di esecuzione della pena ed è diritto ad un processo giusto e ad una giusta condanna tra virgolette non uso termini appropriati perché non sono un giurista e quindi inevitabilmente sappiamo che esploriamo terreni complicati e ad altissimo rischio perché una legge per quanto ben fatta non risolve tutte le questioni che abbiamo discusso oggi o che pensiamo di dover affrontare tuttavia una legge è meglio che sia fatta decentemente per evitare di creare più problemi di quanti non ne voglia risolvere quindi associando ideale e operazioni teoriche poi anche a strumenti concreti dicevo quindi il punto almeno il mio punto di vista è che l'orientamento forte nella discussione che segue questo seminario è quindi la coerenza con il percorso di questi anni di questi lunghissimi anni perché noi abbiamo discusso attorno al superamento degli OPG ma il superamento degli OPG nasce dal vento della riforma basale della 180 e quindi la discussione che dobbiamo fare è renderla nella proposta che esce coerente con questa impostazione e qualsiasi soluzione noi proviamo ad offrire dal punto di vista legislativo non deve riprodurre né la logica manicomiale né la carcerizzazione come soluzione ai problemi che vogliamo affrontare ed è un bel problema perché siccome la legge non risolve di per sé automaticamente questi problemi molto dipende dalle pratiche dalla mobilizzazione sociale dalle culture che si agitano dalla capacità di creare consenso di orientare gli operatori che concretamente poi si muoveranno nello scenario in cui queste cose devono essere attuate esattamente come è accaduto con la chiusura dei manicomi è sceso Marco Cavallo più di 40 anni fa a Trieste con le bandiere colorate ma in giro per l'Italia la gente era ancora legata ai letti e ancora oggi è legata ai letti e ancora oggi perizie condannano persone a pene eterne e così via e ancora oggi piccoli sfigati finiscono in galera a riempire le galere perché spacciano un po' di roba più per problemi personali che per volontà di fare i criminali e così via quindi non possiamo immaginare che la legge anche con i tecnicismi più raffinati risolva quello che poi va risolto nella concreta mobilitazione sociale nella concreta mobilitazione delle coscienze delle professioni nella capacità di orientare gli attori e così via ed è un casino perché scusatemi la parola perché in realtà il vento che spira e la cultura dominante non ci sta aiutando e tuttavia non possiamo che insistere perché restare fermi in questa situazione significa scivolare in un piano inclinato che ci porterebbe ancora più indietro questo vale non solo per questo argomento ma perché tante altre questioni quindi il punto è questo provare a costruire una proposta che in sé riesca ad attenuare il più possibile i rischi appunto di riprodurre quello che si vuole eliminare cioè la logica manicomiale la risposta carceraria alle condizioni delle persone e provare a costruire un'alternativa fondata su che cosa non sul buonismo ma sulla giustizia e su ciò che è giusto ciò che rappresenta un diritto diritto ad essere cittadini di questo paese figli dei figli della Costituzione e così via io vedo rispetto a questo orientamento che deve avere una discussione nella fase successiva quindi coerente con il lavoro che si è fatto sul superamento sulla chiusura dei manicomi sul superamento degli OPG ma anche su altre battaglie per i diritti civili e sociali penso al campo delle droghe e così via o le condizioni delle carceri provare a e non sarà facile a fissare un paio di questioni in cui dobbiamo essere d'accordo dobbiamo essere d'accordo non oggi in questo momento ma dobbiamo essere d'accordo primo non stiamo pensando di costruire una legge che sostituisca dei luoghi di esclusione con degli altri luoghi di esclusione cioè la soluzione non è l'alternativa non è al carcere o all'OPG un altro luogo speciale per i matti in questo caso che commettono reato perché questo riprodurrebbe la logica manicomiale ma sappiamo che non è facile perché adesso mi contraddico perché poi la vita quotidiana è fatta di queste cose perché in realtà noi abbiamo chiuso gli OPG soltanto perché abbiamo fatto le REMS poi siamo riusciti a fare un capolavoro con un po' di fortuna dal punto di vista legislativo perché abbiamo detto che la REMS è un estrema razio ma se non c'erano le strutture che sostituivano delle strutture non ce la facevamo e quindi mi rendo conto che è un casino questa cosa ma dobbiamo provare a spingere in questa direzione la soluzione al fatto che le persone siano imputabili e quindi vadano a processo e quindi se giudicate colpevoli debbano eseguire una pena e a questo punto però siamo problemi di salute di salute mentale in questo caso hanno diritto ad essere curati questa roba qui non si risolve costruendo dei luoghi fuori dal carcere destinati solo ai matti se no facciamo quello che volevamo fare con gli OPG cioè i mini OPG o i mini manicomi Cristo Santo ed è inevitabile che anche la migliore struttura destinata solo ai matti solo ai matti a un certo punto diventi quello che è stato il manicomio lo stiamo vedendo perfino nell'esperienza delle REMS per il tipo di popolazione che comincia ad abitare queste strutture per il mandato che riceva dalle magistrature per il fatto che i dipartimenti di salute mentale a questo punto se ne fottono di chi è finito lì perché spesso sono i pazienti più difficili per tutte le cose che sappiamo allora dobbiamo provare a essere su questo certo molto realisti molto concreti trovare soluzioni intelligenti che reggano perché è ovvio che se ci presentiamo in Parlamento e diciamo sapete che se non possiamo dobbiamo rendere le persone imputabili perché sono cittadini come tutti lo vogliamo fare garantendo un giusto processo e l'esecuzione della pena nel rispetto della Costituzione offrendogli quindi un percorso di cura concreto se è possibile in carcere ma se è possibile fuori dal carcere a questo punto la prima io me la immagino una discussione in Commissione Giustizia e Affari Sociali della Camera la prima cosa che viene posta è dove li mettiamo e cosa facciamo esattamente come è successo per gli OPC ma dobbiamo riuscire in questo caso a dare un orientamento molto forte secondo me quello più forte è che primo non si tratta di offrire strutture ma progetti di cure di riabilitazione individuale cioè i percorsi questi percorsi devono essere concordati negoziati e in parte questo c'è si intuisce che c'è nel test negoziati tra magistratura e servizi di salute mentale non intermediati da periti a meno che non lo chieda la difesa per confutare quello che potrebbe essere un atteggiamento rinunciatario e difensivo dei servizi che magari dicono no no per carità che non c'è riava addosso qualcuno di incasinato tenetevelo in galera ovvio che ci vuole un equilibrio tra questa situazione ma il punto cruciale è i percorsi di cura delle persone che possono prevedere anche delle strutture ma non delle strutture speciali solo per i matti costruite con una legge speciale dedicata all'eliminazione del doppio binario è complicato è complicatissimo secondo ma questo qui è una cosa che mi pare sia pacifica tra di noi ovviamente l'adesione a questo progetto è volontaria terzo non esclude naturalmente la potestà del giudice e del magistrato di intervenire rispetto alle forme di esecuzione della pena in ogni caso il punto fondamentale è che stiamo parlando di percorsi di cura concordati tra servizi e magistratura e questo risponde non la risolverà nella pratica quotidiana perché io me li immagino i percorsi di cura concordati in Friuli Venezia Giulia rispetto a quelli concordati in Lombardia me lo immagino ma non è che abbiamo soluzioni alternative se non dire in Lombardia li facciamo fare a chi? a un commissario nominiamo Corleone che faccia o la del giudice però il punto cruciale io penso sia questo qui il secondo è che su questo non c'è una discussione che ci ha aiutato moltissimo oggi se non perché sono uscite posizioni diverse bisogna essere pacifici riguarda l'esecuzione della pena in carcere la preoccupazione se io la semplifico più forte che c'è che Giovanni ha espresso che molti di noi hanno espresso che Roberto Mezzina mi ha telefonato poco fa per scusarsi che non ce l'ha fatta venire gli ho detto che dovrà venire le prossime volte dovremmo discutere ancora che con lui Roberto Mezzina era il direttore per chi non lo sapesse del dipartimento salute mentale di Trieste l'ultimo direttore e cioè le semplificando la preoccupazione sulla natura sul modo con cui si esegue la pena in carcere per i matti è quello che dentro il carcere si facciano di fatto delle sezioni che distruggono dal punto di vista concettuale la 180 perché creano un luogo separato soltanto per i matti giustamente qualcuno prima ci ricordava è bravo ma adesso la situazione com'è basta girare per le carceri basta andare in giro per capire cosa sta succedendo tuttavia anche questo deve essere un modo in cui proviamo ad affrontare la questione in termini innovativi realistici ma innovativi coerenti anche qui con la logica della 180 cioè non possiamo immaginare che la risposta sia la creazione di modelli speciali separati già l'SPDC che è stato voluto dentro gli ospedali generali perché non fosse più da altre parti è un modello che in qualche momento barcolla spesso sono manicomietti quindi non è per il fatto che sia collocato ma il punto esiste la preoccupazione è questa qui e io penso che questa cosa possa essere affrontata in modo costruttivo la terza questione sempre per restare in questo orientamento che deve essere realistico ma esigente come voleva Basaglia realisti ma esigenti e capaci poi di sostenere le proposte e dovremmo occuparci a un certo punto anche delle REMS perché c'è poco da fare allora anche qui dobbiamo essere chiari le REMS siamo riusciti non nella pratica quotidiana in via teorica e grazie a due pronunciamenti del CSM e grazie a una qualche segnalazione in questa direzione della Corte Costituzionale dopo la legge 81 e cioè sono estrema razio quindi non sono nemmeno per i matti imputabili che vogliamo noi la soluzione ordinaria sono comunque un estrema razio perché sono estrema razio perché sono strutture chiuse solo per i matti questo è il punto è esattamente quello l'abbattimento del muro del manicomio era questo qui prima ancora della costruzione indispensabile delle alternative al manicomio ma il colpo forte sul muro del manicomio è stato non ci possono essere trattamenti speciali siamo tutti uguali davanti alla comunità alla legge è un casino perché produce degli effetti sociali complicatissimi da gestire produce quello che Basaglia raccontava che i matti avrebbero dormito sui marciapiedi e per le strade ma almeno avremmo visto le persone che prima non volevamo vedere perché erano rinchiusi in un altro posto è complicato tenere insieme questa idealità questa visione che restituisce piena qualcuno lo raccontava prima piena non solo responsabilità ma piena identità cittadinanza a un essere umano con risposte concrete che poi non facciano rimpiangere a qualcuno il manicomio appunto o l'OPG perfino perché di fronte all'abbandono e alle scene che conosciamo alcuni familiari chiedono magari almeno un posto dove stia chiuso per una settimana è normale ovvio quindi questo equilibrio è complicato da tenere ma dobbiamo fare uno sforzo importantissimo in questa direzione questo implica come anche Pellegrini ma altri hanno detto che non può arrivare precipitare dall'alto sugli attori di questa vicenda la proposta di cui stiamo discutendo e quindi bisogna riuscire anche se tutto non potrà stare nella legge come già qualcuno ha detto a creare una sorta di elementi a sostegno della proposta un elemento a sostegno della proposta è giustamente il fatto che non può essere a costo zero che in parte è già finanziata con i 55 milioni all'anno che servono a pagare il personale delle remse in parte va finanziata con il budget di salute di cui ricordava Pellegrini essere questa una delle grandi questioni che si stanno discutendo anche sull'utilizzo del recovery fund anche se in parte non tutto sarà possibile costruirlo così e cioè dichiarare che i percorsi di cura sono sostenuti da budget di salute non sono percorsi di cura che scaricano fuori dal carcere letteralmente addosso ai servizi di salute mentale con poco personale poche culture molte volte molti farmaci e troppi ambulatori e poca capacità di fare lavoro nella comunità le persone soprattutto quelle più incasinate difficili da gestire è chiaro che il budget di salute non è semplicemente dei soldi sono dei soldi costruiti delle risorse costruite attorno a un percorso di cura e di riabilitazione costruito insieme naturalmente i pazienti gli operatori eccetera il secondo elemento di sostegno che verrà se mai riuscissimo a portare a casa questa operazione ma poi chiudo velocemente su questo punto il secondo elemento che dobbiamo riuscire a mettere in piedi in questo periodo se vogliamo che questa discussione sia proficua e abbia una qualche eco istituzionale e negli attori anche che dovrebbero essere protagonisti nei decisori politici della magistratura e così via è riuscire a rimettere in piedi questo cavolo di organismo che non sarà un osservatorio probabilmente si chiamerà organismo di monitoraggio non sulle REMS per cortesia sul processo di superamento degli OPG e anche sulle REMS necessariamente questo organismo è indispensabile è necessario se vogliamo che questa discussione si collochi dentro un'attenzione che le istituzioni non hanno in questo periodo su questo argomento su questa questione hanno abbandonato da tempo perfino la questione delle REMS altro che il superamento degli OPG eccetera eccetera il terzo punto il terzo elemento a sostegno potrebbe essere e poi passo alla conclusione di quello che penso riprendendo una riflessione di Pellegrini che da tempo stavamo su cui stavamo da tempo lavorando e probabilmente in questo senso potrebbe aiutare sia l'organismo di monitoraggio ma perfino la proposta di legge in articolato il fatto la definizione di accordi obbligatori tra magistratura e servizi di salute mentale eccetera e dai protagonisti di questa vicenda sulla gestione del diritto alla salute nell'esecuzione della pena mutuando quello che esiste che si era messo in piedi per il superamento degli OPG nella prima fase che poi è decaduto giuridicamente perché la legge lo aveva affidato soltanto al periodo in cui si stavano chiudendo gli OPG questo deve diventare invece un elemento formidabile se perché mette in piedi quelle cabine di regie con i cruscotti regionali senza le quali i servizi sono abbandonati poi magari in una regione estrema destra governata da Forcaioli gli organismi saranno un disatto però normalmente sono occasioni di gestione di situazioni complesse che altrimenti vengono abbandonate abbandonate ai singoli uffici e ai singoli servizi infine quindi io penso che queste cose debbono dal mio punto di vista starci dentro la discussione che segue questo seminario più molte altre che sono uscite che io non ho nemmeno le competenze per riprendere e che ho sentito peraltro molto interessanti tuttavia c'è un problema che è riuscire a trasformare questa discussione a trasformare questa discussione in un prodotto credibile in un messaggio politico e sociale convincente interessante non sarà per tutti interessante e convincente ma lo deve essere per una parte che ci interessa convincere ed essere interessata deve per forza essere interessante per parte di servizi di salute mentale per pezzi di magistratura per pezzi per avvocati per giuristi per gli stessi familiari che organizzano l'advocacy per le persone con problemi di salute mentale per le organizzazioni che in questi anni si sono occupati di queste questioni quindi il punto sarà trasformare questa discussione in un messaggio limpido e siccome è complicata la materia non è così semplice scegliendo le parole giuste scegliendo i termini in cui provi a trasferire un messaggio che metti insieme la responsabilità perché l'imputabilità è vero è una parola corretta ma diciamo è poco comunicativa la responsabilità con i diritti delle persone insomma trovare una formula che permetta di spiegare quanto è alto questo disegno quanto è e quanto è coerente con la battaglia di questi anni e quanto è capace di convincere intanto chi deve fare la mobilitazione chi la fa facciamo 25 persone più un po' di social che lanciamo nel buio della rete la mobilitazione la fai con i corpi sociali con le organizzazioni le associazioni con le persone con gli operatori che sono concretamente impegnati e quindi per forza questa discussione dovremmo farla precipitare in modo partecipato e convinto a quei movimenti che in questi anni hanno continuato a occuparsi di questi temi che abbiamo tentato di coinvolgere anche nella preparazione del seminario ma che ovviamente non è sufficiente in termini di esito da questo punto di vista considerare il seminario come se avesse esaurito questo compito quindi adesso il punto è non solo trasferire la discussione perché raccolga molti degli stimoli di oggi ma creare le condizioni per creare consenso consenso anche nelle associazioni nei gruppi nei movimenti c'è il movimento per la salute mentale c'è quello per i diritti delle carcele c'è il movimento attorno a forum droga e così via insomma provare a coinvolgere questi protagonisti senza i quali ovviamente rischiamo di fare un'operazione velleitaria già è difficile farla velleitaria sarebbe davvero un peccato e farlo significa tradurre i messaggi le questioni complesse che sono uscite oggi in un messaggio convincente in un messaggio convincente che sia coerente con il messaggio di libertà di liberazione di diritti umani che dalla 180 in poi si è dispiegata nel nostro paese facendoci anche molto più avanzati e punto di riferimento nel mondo quindi queste due cose io penso sia da fare una appunto la costruzione il dibattito che mette insieme anche tecnicamente alcune delle suggestioni dentro un orientamento molto chiaro che ho provato a riprendere e l'altro è creare le condizioni con le associazioni con i gruppi con le persone che abbiamo bisogno se mi viene in mente a un certo punto di questa vicenda a parte tutti gli appuntamenti che si possono organizzare per sé l'utilizzo anche di appuntamenti che sono già in cantiere nel 2021 si svolgerà dipende anche delle elezioni di questi giorni ma insomma si svolgerà con promossa dal governo la conferenza nazionale per la salute mentale questo è l'impegno del ministro se non si svolgerà quella istituzionale la faremo noi di nuovo quella è un'occasione in cui sicuramente questa questione ci deve essere nei prossimi mesi ci sono alcuni appuntamenti molto importanti che il movimento per la salute mentale ma non soltanto sta organizzando è possibile collocare questo tema questo messaggio al di là dei tecnicismi come un messaggio che fa parte di questi di questi movimenti dobbiamo farlo perché come abbiamo visto salvo situazioni fortunose se non c'è un movimento in piedi un'iniziativa sociale e politica difficilmente si fa strada e soprattutto non riesce a condizionare chi poi è a potere di decisione politica io penso che il lavoro non sarà affatto semplice ma sia alla portata di un movimento come quello dei diritti civili e sociali composto da tante parti ha dimostrato ha dimostrato di essere anche in situazioni molto difficili in piani inclinati in grado di resistere a pressioni molto forti quindi il lavoro secondo me è stato utilissimo ed è solo appena cominciato grazie grazie a questo intervento di conclusione dei nostri lavori di Stefano Cecconi voglio solo ringraziare la società della ragione che con Grazia Zuffa ha voluto questa avventura in presenza come si suole dire Leonardo Fiorentini che ha fatto miracoli per rendere possibile questo incontro è registrato lo diffonderemo chiedo a tutti coloro che sono intervenuti di inviare magari dei punti specifici di proposta poi costituiremo un gruppo di redazione stretto con anche i soggetti che per molte ragioni non sono stati presenti qualcuno l'ha rilevato dovevano essere presenti due o tre magistrati e invece per molti motivi non sono stati presenti dovremmo fare un confronto con loro su questa sulle soluzioni che abbiamo presentato e le correzioni che faremo però voglio ricordare che non andiamo così male perché abbiamo evocato molte volte i risultati i pronunciamenti del Consiglio Superiore della Magistratura della Corte Costituzionale il Comitato Nazionale di Bioetica dobbiamo valorizzare questi contributi che hanno aiutato dall'altra abbiamo avuto un convegno dell'Università di Trento che si è centrato su questa questione adesso avremo il 16-17 ottobre un convegno questo non con la presenza ma un webinar a Pisa che centrerà su questa questione e avremo il 7 novembre il Festival dei Matti insomma abbiamo tante scadenze e io mi limito però a dire che invito a leggere il pezzo pubblicato su fuoriluogo nell'aprile 98 di Peppe dell'Acqua su cittadinanza della follia appunti per la soppressione del manicomio criminale qui c'è una rassegna stampa ricchissima che abbiamo dato però partiamo da quello eravamo molto indietro ma le cose che diceva Peppe dell'Acqua sono quelle che oggi abbiamo riproposto in condizioni migliori oggi in condizioni migliori quindi io partirei dalla rilettura di quello che si proponeva nel 98 e oggi possiamo credo farcela l'unica credo che certo dobbiamo mettere assieme cioè mi parrebbe strano che ci sia un movimento per la salute mentale che non metta questa questione non dico come prima ma come centrale sarebbe stravagante quindi questa è una questione che deve stare dentro a una lotta vasta sulla salute mentale ma e ci deve stare il carcere ci deve stare il carcere perché noi dobbiamo certo molti di noi sono abolizionisti diciamo così ma nei fatti almeno dobbiamo cambiare l'architettura del carcere quando anche quando noi appunto vediamo i luoghi che si dovrebbero occupare di salute mentale in carcere che sono uguali o peggio delle celle normali c'è qualcosa che non va ma questo dipende proprio anche dal servizio sanitario pubblico dai dipartimenti di salute mentale che non o non entrano o non fanno nulla quindi questo mi pare il punto e noi dobbiamo lottare perché il carcere abbia meno presenze che sia il carcere anche questo come estrema razio mentre il carcere oggi è un deposito di corpi di marginalità sociale non va bene e allora come lo era da una parte l'OPG così è il carcere e perché il carcere si possa non ci siano i ghetti che spaventano Giovanna del Giudice ha ragione ma perché non ci siano i ghetti all'interno del carcere ci deve essere un carcere diverso che non sia questo ammasso di corpi accatastati e malgovernati questo quindi le cose sono molte che vanno messe insieme perché poi la riforma regga altrimenti certo che il rischio sarebbe grande insomma e noi non possiamo fare riforme che falliscono bene o male la chiusura degli OPG non è stato un fallimento dobbiamo rivendicarlo e dirlo e quindi lavoriamo credo che sono stati abbiamo fatto bene a vederci e adesso rapidamente dobbiamo arrivare a una conclusione buona potrebbe essere che la proposta di legge non solo venga presentata in Parlamento ma venga lanciata con centinaia di firme di soggetti che partono da treppo e arrivano e quindi di giuristi avvocati operatori magistrati fare un manifesto cioè che la relazione introduttiva abbia centinaia di firme per diventare un patrimonio di tutto il movimento vasto che si ritroverà nella conferenza dall'alto o dal basso il prossimo anno e poi presentata in Parlamento dai parlamentari ma sostenuta da questa raccolta forte significativa di di firme qualcuno lo diceva la relazione deve avere questa ricchezza culturale e politica che che merita ecco io mi fermo qua è stato molto bello alle cinque chi chi è qui a treppo e rimane si ritroverà con Ivan Novelli che è arrivato adesso e Lorenza Bonaccorsi per presentare il libro degli scritti di Gastone Novelli parlare di arte politica cultura abbiamo fatto in questi anni il giro d'Italia con i disegni di Sambonè per dire che l'arte e la cultura hanno aiutato e hanno capito prima le sofferenze e le violenze che venivano fatte verso i deboli allora grazie e ci ritroviamo qua sotto grazie 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 grazie